La parola Bohr è di dubbia etimologia. Alcuni filologi la fanno derivare dal verbo omonimo che significa perforare. Un seccatore è una persona che trivella il vostro spirito, che scava implacabilmente nel tunnel dentro la vostra pazienza, attraverso le croste della sordità, della disattenzione e della villania volontarie, che inutilmente cercate di mettergli davanti, dentro, sempre più dentro, fino a penetrare nella carne viva del vostro essere. Ma altri altrettanto competenti vorrebbero far derivare la parola dal francese bourré, saziare, rimpinzare. Se questa etimologia è giusta, un seccatore è uno che vi rimpinza con i suoi discorsi densi e soffocanti, che vi caccia in gola la sua grassa personalità, come se fosse un pasticcio di maiale. Lui vi rimpinza, e voi, per usare un'apposita metafora moderna, ne siete pieni fino agli occhi. A me piace credere, anche se è impossibile, che entrambe le derivazioni della parola siano corrette, perché i seccatori perforano e rimpinzano allo stesso tempo. Sono come i trapani del dentista e sono anche come le focacce andate a male, ma sono caratterizzati da un'ulteriore qualità che i trapani e le focacce non posseggono. Appiccicano. Si appiccicano. Ecco perché, sebbene io non sia un filologo, mi azzardo a suggerire una terza derivazione, da bourre. Bourre, bourre, borre. Tutte le qualità attaccaticce, rimpinzanti e perforanti del seccatore. Sono implicita in queste tre etimologie. Ciascuna di esse merita di essere la giusta. Herbert Comfrey era soprattutto un seccatore attaccaticcio. Si appiccicava a chiunque avesse la disgrazia di venire in contatto con lui. Quando si era attaccato, non si poteva scuoterlo via. Un seccatore lappola, vegetale e passivo, non attivamente penetrante. Perché Herbert, ringraziando la provvidenza, era troppo pigro e troppo linfatico, per essere particolarmente loquace. Era soltanto eccessivamente socievole, come un grosso cane sentimentale che non può sopportare la solitudine. Come un cane, seguiva una persona dovunque andasse. Si accucciava, metaforicamente parlando, ai suoi piedi, davanti al caminetto. E come un cane, non parlava. La vostra semplice compagnia bastava renderlo felice. Si contentava di trotterellare al vostro fianco e di sonnecchiare sotto la vostra sedia. Non pretendeva che si facesse troppa attenzione a lui. Gli bastava che gli si permettesse di godere la luce del vostro sguardo e il calore della vostra presenza. Se una volta alla settimana riceveva l'equivalente di un buffetto sulla testa e si sentiva dire qualcosa di simile a «Bravo cane», lui dimenava la coda del suo spirito ed era perfettamente soddisfatto. Per alcuni miei amici, i sensibili, gli impazienti, gli ipertesi, il pover vegetale Herbert era esasperante fino alla pazzia. Le sue stesse virtù, il suo buon carattere, quell'irremovibile fedeltà, gli facevano infuriare. Persino il suo aspetto sembrava loro intollerabile. La sola vista della sua larga faccia sorridente, delle sue grandi membra pigre e sgraziate, era sufficiente per far fremere e saltare i loro nervi come una voliera in subbuglio. Ho conosciuto della gente che dopo aver vissuto tre giorni con lui nella stessa casa, ha fatto di nascosto le valigie, ha preso il primo treno ed è andata lontano centinaia di miglia senza lasciare indirizzo. Il povero Herbert annoiava molto anche me, ma non in una maniera così esasperante e intollerante. La mia è un'indole paziente, i miei nervi non saltano così facilmente. Era anche simpatico in un certo senso. Era un vecchio cane, così buono, gentile e fedele. E ben presto ho preso l'abitudine di non accorgermi della sua muta presenza, di considerarlo semplicemente come un mobile qualunque. Tanto è vero che talvolta mi sorprendevo sul punto di posare distrattamente la tazzina vuota di caffè sulla sua testa, mentre lui mi sedeva accanto sul pavimento, sedeva sempre sul pavimento appena poteva farlo, o di scuotere la cenere della sigaretta nell'invitante fessura che gli si formava tra il collo e il bavero della giacca. Da ragazzi Herbert e io eravamo stati nella stessa scuola, ma siccome abitavamo in due case diverse e lui aveva due anni più di me, due anni a quell'età fanno un'enorme differenza, era molto se ci eravamo scambiati qualche parola. Tuttavia fu proprio in qualità di antico il condiscepolo che Herbert si introdusse di nuovo nella mia vita. Il suo ritorno fu doppiamente disastroso. Un seccatore entrò nella mia esistenza, e nell'entrare cacciò via, sia pur temporaneamente, un essere che era la vera antitesi della noia, qualunque fossero i suoi altri difetti. La cosa accadde a Parigi, in un caffè al Passage du Panorama. Eravamo seduti là da circa un'ora, Kingham ed io, chiacchierando e bevendo vermouth. Una delle caratteristiche di Kingham era di bere molto e di chiacchierare molto. Maltrattarmi, tra le molte altre cose, perché io sprecavo il mio tempo e il mio cervello in queste due occupazioni, era un'altra delle sue caratteristiche. Te ne stai là a sedere, diceva, e parli, lasciando cadere goccia a goccia ogni pensiero che ti passa per la testa. Non ce ne passano molti, naturalmente, perché tu non hai il coraggio di pensare. Tu fai di tutto per non pensare. Ti crei dei futili affari. Corri a vedere gente che non ti piace e che non ti interessa minimamente. Ti trascini di bar in bar. Bevi e bevi finché non capisci più nulla. Tutto questo perché non hai il coraggio di pensare. E non riesci a fare uno sforzo per combinare qualcosa di serio e di decente. È il risultato dovuto in parte alla pigrizia e in parte alla mancanza di fede. Fede in qualsiasi cosa, garçon. Ordinò un altro vermouth. È il grande vizio moderno, continuò. La grande tentazione di ogni persona giovane che sia intelligente e abbia profonda coscienza di sé. Tutto quello che è facile e che può momentaneamente divertire e anestetizzare, la tenta. La gente, le chiacchiere, il bere, il fornicare. Sfugge tutto ciò che è difficile e importante. Tutto ciò che richiede pensiero e sforzo. È la guerra che ha fatto questo. Per non parlare della pace. Ma sarebbe accaduto gradatamente in ogni caso. La vita moderna lo rendeva inevitabile. Guarda i giovani che non hanno avuto niente a che fare con la guerra. A quel tempo erano ancora bambini. Sono i peggiori di tutti. È tempo di smettere. È tempo di far qualcosa. Non lo vedi che non puoi andare avanti così. Non lo vedi. Si protese verso di me attraverso il tavolino, infuriato. Odiava quei vizi che attribuiva a me. Li odiava con particolare intensità perché erano i suoi. Con quelle parole egli confessava i difetti che odiava in se stesso. Li odiava e non sopportava sradicarli. Kingham era bello nell'ira. Aveva gli occhi scuri, molto belli e luminosi. I capelli di un castano scuro, folti e sottili. Una barbetta tagliata corta, più rossa dei capelli, gli nascondeva la parte inferiore del viso. E con questo, così giovane, pallido e liscio com'era, faceva un curioso contrasto. C'era una certa vivezza, un certo ardore in lui. Se io non fossi stato così lento a infiammarmi, mi sarei acceso al suo fuoco. Essendo ciò che sono, rimanevo sempre freddo, critico e cauto, per quanto appassionatamente egli bruciasse. La mia poca infiammabilità, credo, lo aveva in un certo senso affascinato. Io lo esasperavo, ma lui continuava a cercare la mia compagnia, soprattutto per maltrattarmi, per dimostrarmi appassionatamente quanto il mio caso gli sembrasse disperato. Io mi contorcevo sotto le sue dissezioni, perché, per quanto egli parlasse spesso impetuosamente e a casaccio, almeno per ciò che mi riguardava, accusandomi, come aveva fatto in quella particolare occasione del difetto che gli apparteneva e che lo irritava, le sue analisi erano spesso dolorosamente esatte e penetranti. Mi contorcevo, ma la sua compagnia mi impiaceva lo stesso. Ci irritavamo profondamente l'un l'altro, ma eravamo amici. Probabilmente la domanda di Kingan mi fece sorridere. Mio Dio, non sono un astemio e non mi dispiace passare il tempo in piacevoli futilità. Ma, paragonato a Kingan, specialmente il Kingan del 1920, io sono un monumento di sobrietà, di operosità e di divigenza. Non che voglia vantarmene, sono un borghese per natura, ecco tutto. Sono così incapace di condurre una vita perfettamente disordinata come sono incapace, diciamo, di scrivere un buon libro. Di qui l'assurdità, per quanto mi riguardava, di quella domanda esortativa. Non avevo intenzione di sorridere, ma qualche traccia di divertimento dove essermi apparsa sul viso, perché Kingan si infuriò ancora di più. «Credi che sia uno scherzo?» gridò, dando un pugno sul marmo del tavolino. «È un peccato contro lo Spirito Santo, te lo dico io! È imperdonabile! È seppellire il tuo talento!» «Accidenti a questa maledetta Bibbia!» aggiunse rabbiosamente. «Perché uno non può mai parlare seriamente di qualcosa senza metterla in mezzo?» «Perché è un libro molto serio», suggerì. «Te capisci molto tu», replicò Kingan. «Te lo dico io», continuò energicamente. Ma in quel momento Herbert fece la sua seconda entrata nella mia vita. Sentì una mano che mi si posava sulla spalla. Lanzai gli occhi e vidi uno sconosciuto. «Salute, Wykies!» disse lo sconosciuto. «Non mi riconosci?» Lo guardai più attentamente e dovetti ammettere che non lo riconoscevo. «Sono Confrey!» spiegò. «Herbert Confrey!» «Ero con Dan Hill, non ti ricordi?» «Tu eri con Strathus, mi pare, o con Lane.» Al nome di questi pedagoghi, che avevano avuto tanta importanza nella mia poerizia, alcuni recessi della mia memoria, che erano rimasti a lungo chiusi, si spalancarono improvvisamente come davanti a una parola magica. Nella mia mente sorsero confuse visioni di aule inchiostrose, campi di football e di cricket, della cappella della scuola. E nel mezzo di questo caos educativo si distaccava la goffa figura di Confrey, Confrey, della sezione di Dan Hill. «Ma certo!» dissi e gli presi la mano. Con la coda dell'occhio vedi Kingham che aggrottava le sopracciglia. «Come hai fatto a ricordarti di me?» «Oh, io mi ricordo di tutti!» rispose. «Non era una millanteria, come scopersi più tardi. Era proprio vero!» Si ricordava di tutte le persone che aveva incontrate e di tutti i più comuni episodi della sua vita. Aveva la formidabile memoria di chi ricorda ai personaggi reali nomi, fatti e date. La memoria di chi non legge mai, né ragiona, né riflette e la cui mente, quindi, è interamente libera di indugiare nella retrospettiva. «Non dimentico mai una faccia!» aggiunse e senza essere invitato si sedette al nostro tavolo. Indignato, Kingham si rovesciò sulla spalliera della sedia. Mi allungò un calcio sotto il tavolino. Io lo guardai e gli feci una piccola smorfia per esprimergli la mia impotenza. Borbottai una sbrigativa presentazione. Kingham non disse nulla, solo aggrottò la fronte ancora di più mentre stringeva la mano a Herbert. Da parte sua, Herbert non fu molto più cordiale. Sorrise, è vero, col suo vago, amabile sorriso. Ma non disse nulla. Si può dire che non lo guardò neppure. Aveva troppa fretta di parlare con me della cara vecchia a scuola. La cara vecchia a scuola, l'unico argomento che rendeva Herbert davvero loguace. Lo metamorfosava da seccatore lappola, puramente vegetale, in un attivo e penetrante trapano dentistico. Aveva una vera passione per la scuola e pensava che tutti gli ex allievi dovessero essere in costante e amichevole comunicazione fra loro. Io ho notato che, come regola generale, le persone dotate di una decisa individualità molto raramente continuano da adulti e amicizie contratte a scuola. Ed è naturale. Le probabilità che hanno di trovare nel microcosmo della scuola quel genere di amici che apprezzeranno anche da grandi sono ovviamente molto poche. Le coterie, il cui legame consiste soltanto nel fatto che i loro membri erano per caso a scuola insieme, sono generalmente tristissime. Ne potrebbe essere diversamente. Uomini che non hanno ragioni migliori per associarsi devono essere scialbi davvero e insipidi. Il povero Herbert, al quale sembrava che l'aver portato dei berretti e delle camicie con le stesse strisce in un certo periodo della nostra fanciullezza fosse un motivo sufficiente per legarci d'intima amicizia, era un tipico esemplare di questa categoria. Io assunsi la mia aria più fredda e repulsiva. In vano Herbert parlava e parlava. Mi ricordavo quell'emozionante partita contro il Winchester nel 1910. E com'era stato preso in giro il povero vecchio Mr. Cutler. E quella volta che Paie si era arrampicato di notte sul tetto della cappella della scuola e aveva preso un vaso da notte a uno dei pinnacoli gotici. Ansiosamente gettai un'occhiata a Kingham. Aveva cambiato la sua espressione di collera in una di disprezzo e stava appoggiato alla spalliera con gli occhi chiusi, dondolandosi sulla sedia. Kingham non era mai stato in una scuola pubblica. Non aveva avuto la fortuna, una disgrazia, di nascere in una famiglia di gentlemen e talvolta perfino se ne vantava. Ma questo non gli impediva di essere morbosamente sensibile a qualsiasi cosa che potesse essere interpretata come un'allusione alla sua origine. Stava sempre in guardia contro gli affronti dei gentiluomini. Affronti velati magari, inconsci anche, fatti in perfetta buona fede e senza cattiva intenzione. Qualunque genere d'affronto bastava per farlo tremare di dolore e di collera. Più di una volta lo avevo visto offendersi violentemente per delle parole pronunciate con le migliori intenzioni del mondo. Avrebbe preso le malinconiche rimembranze scolastiche di Herbert come un affronto personale? Ne era capacissimo. Mi aspettavo, non senza un certo nervosismo, un violento scoppio d'ira e un'impetuosa partenza. Ma la scenata questa volta non doveva avvenire in pubblico. Dopo aver ascoltato per alcuni minuti gli aneddoti di Herbert, Kingham si alzò, si scusò con ironica cortesia e ci augurò la buona sera. Gli strinse una mano sul braccio. Rimani, ti prego. Sono dolentissimo, si mise una mano sul cuore. Sorrise, si inchinò e scomparve, lasciandomi, aggiungo tra parentesi che era una sua abitudine, il suo conto da pagare. Noi, ex allievi di college eleganti, fummo lasciati ai nostri ricordi. Il mattino dopo rimasi a letto fino a tardi. Verso le undici, Kingham irruppe nella mia stanza. La scenata che mi aveva risparmiato la sera precedente me la propinava adesso con raddoppiata violenza. Un altro uomo avrebbe dormito sopra a quell'immaginario affronto e svegliandosi l'avrebbe trovato trascurabile. Non così Kingham. Aveva rimuginato a lungo sull'accaduto finché ciò che in origine era piccola cosa adesso era diventato enorme. La verità era che Kingham amava le scenate. Gli piaceva impantanarsi nelle emozioni, nelle sue e in quelle degli altri. Gli pareva di rinascere in questi bagni di passione. Quando ci sguazzava dentro si sentiva veramente vivo. Questo morboso piacere era per lui così intenso che egli si abbandonava senza considerarne le conseguenze. O forse sarebbe più esatto dire che ne considerava le conseguenze perché intellettualmente nessuno aveva la vista più chiara di Kingham ma che le trascurava di proposito. Quando dico che aveva una grande facilità a fare delle scenate non intendo dire che egli simulasse le emozioni. Kingham sentiva le cose in modo genuino e forte ma troppo facilmente e si compiaceva di coltivare e sviluppare le sue emozioni. Per esempio, quella che in altri uomini sarebbe stata un'irritazione passeggera tenuta a freno dall'autocontrollo per essere modificata da successiva impressioni, la Kingham era convertita quasi deliberatamente in furore selvaggio che nessuna riflessione poteva mitigare. Spesso simili collere erano il risultato di semplici equivoci da parte di coloro che le avevano provocate. Ma una volta emotivamente compromesso Kingham non voleva mai ammettere che si trattava di un equivoco a meno che naturalmente la sua passione per l'automutilazione fosse in quel momento più forte della sua passione per l'autodifesa. Spesso inoltre assumeva verso la gente delle posizioni emotive immutabili permettendo ad una singola forte impressione di dominare tutte le altre impressioni. Metteva i paraocchi al suo intelletto ignorava i fatti più manifesti e fino a nuovo ordine l'individuo in questione produceva su di lui sempre le stesse reazioni. Mentre si avvicinava al letto mi accorsi dall'espressione del suo viso bianco che stavo per passare un brutto quarto d'ora. Ebbene, dissi affrettando una non curante cordialità ho sempre saputo che eri uno snob intellettuale cominciò Kingham con voce bassa e vibrante mentre accostava una sedia al mio letto ma credevo che tu fossi al di sopra degli ordinari snob suburbani ed infima classe. Io feci la smorfia che nei romanzi francesi era presentata dal segno punto di domanda. Lo so che mio padre faceva lo stagnino continuò e che io sono stato educato a spese dello Stato e con le borse di studio per l'incoraggiamento degli intelligenti poveri. Lo so che parlo con l'accento Cookney e non con quello di Eton o di Oxford. Lo so che ho delle brutte maniere e che mangio male e che non mi lavo i denti abbastanza. Nessuna di queste cose era vera ma in quel momento a Kingham faceva comodo credere che lo fossero. Aveva bisogno di abbassarsi per poter poi reagire con la massima violenza. Si ingiuriava per potermi poi attribuire quelle ingiurie sotto le quali soffriva sinceramente ed avere così una scusa per essere in collera con me. Lo so che sono un cafone e un villano pronunciava le parole con un gusto straordinario come se godesse della sofferenza che si infliggeva. Lo so che sono venuto dal nulla e che mi si tollera soltanto per la mia intelligenza. Una specie di buffone o di scimmia domesticata per il divertimento dei coltigenti uomini. So tutto questo e so che anche tu lo sai ma credevo sinceramente che non ti importasse che ci frequentassimo come due esseri umani non come rappresentanti di due classi diverse. Sono stato uno stupido a credere di andarti a genio nonostante tutto questo. Credevo perfino che tu mi preferissi alla gente del tuo grezze. Questo ti dimostra come sono ingenuo. Appena si fa avanti un gentiluomo un caro vecchio compagno di scuola niente meno sarcasticamente imitò l'accento xfordiano come fanno sul palcoscenico del teatro di varietà. Ecco che tu ti getti le braccia al collo e lasci definitivamente da parte lo sporco piccolo parvenu e rise con ferocia. Mio caro Kingian e cominciai perché ti vuoi rendere così maledettamente ridicolo. Ma Kingian che senza dubbio sapeva bene quanto me che si stava rendendo ridicolo continuò con veemenza ancora maggiore. Aveva deciso di rendersi ridicolo e la cosa gli piaceva. Cambiando leggermente direzione cominciò a dire anche delle verità delle vere verità questa volta. Alla fine anch'io cominciai ad arrabbiarmi. Ti pregerei di uscire di qui dissi oh non ho ancora finito e di restare fuori finché non ti è passata la crisi isterica ti comporti come una ragazza che ha bisogno di un marito. Come ti dicevo continuò Kingian con una voce che si era fatta più dolce più sinistramente calma più velenosamente melata quanto più la mia era diventata più alta ed asfera il tuo più grande difetto è l'impotenza spirituale la tua arte la tua morale non sono altro che impotenza organizzata a sistema il tuo modo di vedere la vita è l'impotenza la tua stessa forza così com'è la tua orribile resistenza passiva anche quella è basata sull'impotenza la quale però non mi impedirà di gettarti giù per quelle scale se non ti togli immediatamente dai piedi una cosa è sapere la verità su se stessi un'altra è sentirsela dire dagli altri io sapevo di essere un borghese per natura ma quando Kingian me lo disse con le sue parole mi sembrò di venire a conoscere una verità nuova e orribilmente spiacevole aspetta disse Kingian con una calma esasperante aspetta un momento ancora due parole prima di andarmene vattene dissi vattene immediatamente qualcuno bussò alla porta si aprì la larga rubiconda faccia di Herbert Comfrey guardò dentro la stanza spero di non disturbare disse Herbert con una smorfia che era un sorriso oh niente affatto niente affatto gridò Kingian balzò in piedi e con eccessiva cortesia gli offerse la sua sedia stavo proprio per andarmene sedete prego qualche se vi aspettava con impazienza sedete sedete ve ne prego e spingeva Herbert verso la sedia veramente cominciò Herbert accennando una cortese protesta ma Kingian lo interruppe ed ora lasciamo insieme questi due vecchi amici disse addio addio mi dispiace soltanto di non aver potuto dire quelle due ultime parole imbarazzato Herbert fece per alzarsi vado via io disse non sapevo scusatemi tanto ma Kingian gli pose le mani sulle spalle e lo costrinse a rimanere seduto no no insiste rimanete dove siete me ne vado crese il cappello e corse fuori dalla stanza che tipo strano disse Herbert chi è oh mio amico risposi la mia collera ora era sbollita e mi domandavo tristemente se chiamandolo mio amico stavo dicendo la verità e pensare che se non era più mio amico lo dovevo a quel grosso imbecille seduto accanto al mio letto guardai pensieroso Herbert e gli mi sorrise un sorriso che era tutto bontà non si poteva portare rancore a un uomo simile la rottura era completa almeno per il momento passarono più di due anni prima che Kingham ed io ci incontrassimo ancora ma se avevo perduto Kingham avevo acquistato Herbert Confrey anche troppo completamente da quel momento la mia vita a Parigi non mi appartenne più dovetti dividerla con Herbert essendo in quell'epoca completamente solo un cane senza padrone egli si attaccò a me ritenendo ingenuamente che io fossi felice della sua compagnia come egli lo era della mia venne a stabilirsi nel mio albergo e per il rimanente del mio soggiorno a Parigi non fui quasi mai solo avrei dovuto lo so essere più fermo con Herbert avrei dovuto trattarlo male dirgli di andare al diavolo buttarlo a calci giù per le scale ma non ne avevo il coraggio ero troppo buono un altro sintomo della mia impotenza spirituale la mia morale impotenza sistematizzata lo so lo so Herbert si nutriva di me e come il bramino che si lascia divorare da qualsiasi bevitore di sangue che si trovi a passare dalla zanzara alla tigre io permettevo che si nutrisse di me mi limitai solo a fuggirlo qualche volta fortunatamente Herbert era un dormiglione neanche la tromba del giudizio lo avrebbe tirato fuori dal letto prima delle dieci quando volevo una giornata di libertà ordinavo la colazione per le otto e lasciavo l'albergo prima che Herbert si svegliasse la notte di ritorno da queste vacanze lo trovavo ad aspettarmi nella mia stanza come un cane avevo sempre l'impressione che avesse aspettato lì tutto il giorno dall'alba o ciò che era l'alba per lui circa mezzogiorno fino a mezzanotte ed era sempre così sinceramente contento di rivedermi che mi faceva quasi vergognare come se avessi commesso una cattiva azione cominciavo a scusarmi e a spiegare ero dovuto uscire presto per vedere un tizio a proposito di un certo affare e poi avevo incontrato un altro tizio che mi aveva invitato a colazione e poi ero dovuto andare a prendere il tè con la mia cara vecchia amica madame Dubois dopodiché mi ero imbattuto in Langlois e avevamo pranzato e poi eravamo andati a un concerto insomma come poteva vedere non avrei potuto tornare un minuto prima era in risposta ai rimproveri della mia coscienza che io mi scusavo in questo modo il povero Herbert non si lamentava mai era anche troppo felice di rivedermi non potevo fare a meno di sentire che la sua fedeltà attaccaticcia aveva stabilito una specie di diritto su di me e che in un certo modo io ero un po' responsabile per lui era assurdo naturalmente irragionevole e ridicolo perché io la vittima avrei dovuto avere pietà del mio persecutore ridicolo eppure rimaneva il fatto che io avevo pietà di lui non ho sempre stato così tenero di cuore venne per me l'ora di ritornare a Londra Herbert che aveva abbastanza denaro da permettersi di non fare niente né di essere in nessun posto speciale in nessun particolare momento fece le sue valise e si ficcò nello stesso treno fu un viaggio spiacevolissimo il treno era affollato il mare mosso quel tanto che bastava farmi star male salendo sul ponte mentre eravamo nel porto di Dover trovai Herbert che aveva un esasperante aspetto di salute se io non mi fossi sentito così disfatto avrei trovato una scusa per litigare con lui ma non ne avevo l'energia necessaria però devo riconoscerlo Herbert si rese molto utile occupandoci dei bagagli l'esperienza doveva ben presto insegnarmi che invece di sentirmi irritato contro il povero Herbert avrei dovuto essere contento che egli non fosse molto peggiore di quello che era perché Herbert dopo tutto era soltanto un seccatore lappola un adesivo vegetale avrei potuto essere preso di mira da qualcuno che fosse noioso in maniera attiva e perforante oltre che attaccaticcia Herbert avrebbe potuto per esempio essere come suo cognato John Pedley e allora non mi sarebbero rimaste che tre alternative l'assassinio il suicidio l'esilio ero irritato contro Herbert mentre entravamo lentamente nel porto di Dover poche ore più tardi capii che invece avrei dovuto ringraziare il cielo che egli non fosse peggiore sulla banchina di Dover c'era John Pedley Pedley era un seccatore attivo il più attivo credo che io abbia mai conosciuto il trivellatore infaticabile un rimpinzatore spietato parlava incessantemente e la sua cultura in fatto di argomenti assolutamente privi di interesse era davvero enorme tutto quello che so del sistema bancario svizzero dei concimi artificiali della legge sulle compagnie d'assicurazione del modo di allevare i maiali dell'ex sultano di Turchia del razionamento dello zucchero durante la guerra e di cento altri simili argomenti dodevo a Pedley era spaventoso veramente spaventoso non c'è altra parola non conosco un altro essere umano con il quale passerei un'ora meno volentieri eppure quell'uomo era estremamente amabile e pieno di buone qualità aveva un buon cuore era energico ed efficiente era perfino intelligente non si potevano ascoltare le sue disquisizioni sulle compagnie d'assicurazioni e sui concimi artificiali senza comprendere che era completamente padrone di quegli argomenti inoltre un procuratore che ha fatto la sua carriera non può essere uno sciocco almeno questo è ciò che crediamo noi che non siamo procuratori quello che lo rendeva così angosciante era la sua innata disposizione ad essere noioso la sua autoritaria pedanteria la sua voce il suo istinto di socievolezza altamente sviluppato e infine la sua insensibilità il suo genio per la noia lo portava a parlare di cose che non interessavano a nessun altro e anche quando per puro errore si imbarcava in qualche tema più promettente di quello del sistema bancario svizzero aveva il potere di rendere profondamente noioso l'argomento più intrinsecamente affascinante per un procedimento inverso di alchimia gli tramutava l'oro purissimo in piombo la sua autoritarietà e un certo istinto pedagogico gli davano l'ambizione di istruire i suoi simili amava il suono della sua voce da conferenziere e che voce non priva di musicalità ma forte tonante persistente dava al cervello delle vibrazioni strane anzi certamente pericolose non potevo mai stare ad ascoltarlo per più di pochi minuti senza avere le vertigini se fossi stato costretto a vivere accanto a quella voce credo che un giorno o l'altro mi sarai messo a girare e girare come quei topolini giapponesi che ballano il waltzer per sempre la voce di pedli offendeva i canali auricolari e poi c'era la sua socievolezza era una passione un vizio non poteva vivere senza la compagnia dei suoi simili star solo era per lui un'agonia andava ferocemente a caccia di gente con cui parlare come le bestie feroci inseguono la loro preda la cosa più strana era che non sembrava mai desiderare l'amicizia o la confidenza di qualcuno e per quanto ne so io non aveva amici nel senso ordinario della parola desiderava soltanto avere delle conoscenze e degli ascoltatori e conoscenze e riluttanti ascoltatori erano tutto quello che aveva nel primo periodo della nostra relazione era solito domandarmi come facesse quando sentiva il bisogno di confidare i suoi sentimenti intimi e personali più tardi cominciai a dubitare che avesse una vita privata della quale parlare soltanto molto raramente e quando qualcosa di catastrofico aveva fatto esplodere la crosta della sua esistenza pubblica e gli sviluppava per così dire un'esistenza privata quando invece le cose scorrevano lisce nel consueto binario quotidiano egli viveva soltanto la sua vita pubblica all'ufficio al club a tavola perfettamente soddisfatto finché c'era qualcuno che lo ascoltava parlare poco importava che i suoi ascoltatori lo stessero a sentire con estrema e manifesta riluttanza come Herbert e come molti altri seccatori John Padley non si curava delle persone alle quali infliggeva il tormento di se stesso gli bastava sapere che erano lì che c'erano fisicamente riguardo ai loro pensieri e sentimenti era del tutto indifferente era questa insensibilità che unita alla sua appassionata socievolezza costituiva il suo potere gli permetteva di abbattere le sue vittime e torturarle senza rimorso il lupo se fosse sensibile ai sentimenti dell'agnello finirebbe forse per diventare vegetariano ma non è sensibile è cosciente soltanto della sua fame e della bontà della carne d'agnello era lo stesso con John Padley ignaro del terrore che ispirava delle torture mentali che infliggeva insisteva spietatamente nella sua condotta con perfetta equanimità verso le sue vittime la prima impressione che ebbe di John Padley non fu sfavorevole è vero che lo hello con il quale salutò Herbert dalla banchina mentre attendevamo il nostro turno tra la calca di pecore umane per scendere sulla terraferma suonò alle mie orecchie date le condizioni in cui mi trovavo troppo angosciosamente vigoroso e il suo aspetto quando Herbert me lo indicò mi offese per quella robustezza e quell'aria di salute che dimostrava nei quando Herbert ci presentò apprezzai molto la veemenza della sua stretta di mano e la rumorosa volubilità delle sue espressioni di simpatia ma d'altra parte egli si dimostrò molto gentile e molto utile trasse di tasca un fiaschetto d'argento e mi fece bere qualche sorsata di ottimo brandy poi accorgendosi che ero intirizzito e verde di freddo insistè perché indossassi la sua pelliccia partì come una freccia verso la dogana e in un tempo incredibilmente breve ne ritornò con il geroglifico ufficiale trazzato col gesso sulle nostre valigie un istante dopo eravamo seduti nella sua automobile e ci stavamo rapidamente allontanando da Dover sulla strada di Canterbury io mi sentivo allora troppo male per pensare e mi accorse appena che la situazione era dopo tutto piuttosto strana Padley stava aspettando sulla banchina ma non noi perché noi non avevamo avvertito nessuno del nostro arrivo aspettando chi allora il quesito mi si presentò alla mente in un modo piuttosto vago non c'era posto nel mio cervello per alcuna sensazione che non fosse quella del mio mal di mare mi dimenticai di chiederlo e presi posto nell'automobile accettando come la cosa più naturale di questo mondo che fosse venuto ad incontrarci qualcuno che non sapeva del nostro arrivo e l'apparente naturalezza della situazione mi fu confermata dalla condotta dei miei compagni Padley aveva stabilito fin da principio che saremmo stati i suoi ospiti nella sua casa di campagna e Herbert per cui un posto andava bene quanto un altro aveva accettato immediatamente l'invito io avevo cominciato a protestare ma debolmente e più per cortesia che per altro infatti non era essenziale per me tornare a Londra quella sera stessa e la prospettiva del lugubre viaggio da Dover della traversata di Londra in tassina il freddo della notte dell'arrivo nelle mie stanze deserte e gelate mi era estremamente sgradevole invece accettando l'invito di Padley in meno di mezz'ora mi sarei trovato in una stanza comoda e calda in pace e senza responsabilità la tentazione era grande per un viaggiatore col mal di mare e io c'è detti bene disse vigolosamente Padley con la sua robusta voce da trombone bene questa si chiama fortuna mi dette un tremendo colpo sul ginocchio con la mano come si darebbe una manata sul collo di un cavallo una vera fortuna pensate un po' imbattermi proprio in voi e in Herbert sulla banchina e portarvi via così troppo bello troppo bello quella sua contentezza mi fece del bene sembrava così sincera ed era sincera la sincera contentezza di un orco che ha trovato un bambino paffuto smarrito nel bosco è straordinario continuò Padley quanti conoscenti si incontrano nella banchina di Dover quando sto in campagna ci vado tutti i giorni sapete ad aspettare il battello del pomeriggio è una grande risorsa quando ci si annoia tutti i vantaggi di un club londinese in campagna e c'è sempre il tempo di fare una bella chiacchierata prima che parta il treno è per questo che mi piace tanto il distretto di Kent sto cercando di persuadere il mio padrone di casa a vendermi la villa credo di averla quasi spuntata e poi disse Herbert che ogni tanto rompeva il suo abituale silenzio con una di quelle semplici riflessioni catastroficamente giudiziose che rendono i bambini così pericolosi nella società adulta e ben educata e poi succederà che tutti prenderanno l'aeroplano dovrai vendere la casa e stabilirti a Croedon vicino all'aeroporto ma Pedley non era l'uomo da lasciarsi smontare neppure del più terribile degli enfant terribles avvolto nella sua insensibilità non si curava affatto della terribilità infantile beh replicò io non credo negli aeroplani non saranno mai così sicuri e così a buon mercato per competere con i piroscofi non ai nostri giorni e si imbarcò in un lungo discorso sugli elicotteri e sui giroscopi sui motori e sul costo della benzina nel frattempo io avevo cominciato a domandarmi piuttosto allarmato che specie d'uomo potesse essere quel mio cortese ed energico ospite un uomo che secondo quanto egli stesso confessava andava ad over tutti i pomeriggi per aspettare il battello che tendeva a guati ai conoscenti col mal di mare e faceva delle belle chiacchierate con loro mentre aspettavano il treno e che infine amava tanto quei suoi passatempi poveridiani sulla banchina da sentirsi spinto a confutare le profezie di viaggi aerei con seri argomenti tecnici decisamente doveva essere un uomo strano e pericoloso e la sua voce intanto continuava a rintronarmi negli orecchi in che mi vennero le vertigini troppo tardi pensai che forse sarebbe stato meglio affrontare quel triste viaggio in treno e l'inospitalità della casa gelida e vuota scoprì in seguito che Pedli passava sempre le sue vacanze nei paesi di frontiera e nei luoghi d'affluenza internazionale dove gli era più facile trovare una buona quantità di vittime per i weekend la Pasqua e la Pentecoste aveva la sua casa di campagna vicino a Dover nelle feste natalizie passava sempre otto o dieci giorni sulla riviera francese e durante l'estate soddisfaceva simultaneamente la sua passione per la compagnia altrui e la sua passione per la montagna prendendo qualche posizione strategica sulla frontiera franco-svizzera franco-italiana o italo-svizzera dove cioè potesse fare delle belle passeggiate sulle montagne e aspettare i treni internazionali un anno conduceva la famiglia a Pontarlier un altro a Valorbet un altro a Modane un altro a Briga un altro a Chiasso nel giro di pochi anni aveva visitato tutti i principali paesi di frontiera delle regioni montagnose dell'Europa centrale e meridionale sapeva quali erano le stagioni migliori di ciascuna frontiera a Valorbet per esempio si doveva andare al principio della stagione era in luglio e ai primi di agosto che il maggior numero di turisti inglesi passava la frontiera per andare in Svizzera quando verso la fine di agosto li aveva visti tornare indietro Pedri si trasferiva per una quindicina di giorni in un paese di frontiera italiano in modo da poter prendere a volo i turisti di settembre che andavano a Firenze o a Venezia in quella stagione il suo soggiorno favorito era Modane ci sono tante belle passeggiate da fare intorno a Modane e i treni principali vi si fermano per due ore e mezzo allora stabilita rosio in volto per il salutare esercizio della montagna Pedri scendeva a gran passi fino alla stazione per assistere all'arrivo dell'espresso la vittima era prescelta afferrata e portata al buffet della stazione e per un paio d'ore Pedri si abbandonava a ciò che soleva chiamare proprio una bella chiacchierata la cerchia di conoscenza di Pedri era enorme anzitutto la sua professione lo metteva in contatto con una grande varietà di persone poi c'erano i suoi club era membro di tre o quattro club che frequentava assiduamente infine c'era la sua tavola costantemente ospitale è stupefacente vedere che cosa anche gli uomini più ricchi siano disposti a sopportare per un buon pranzo gratuito conosceva bene centinaia forse migliaia di persone quindi non c'è da stupirsi che andasse a cercare delle facce familiari alla dogana di Modan tuttavia c'erano dei giorni naturalmente in cui capitava che nessuno di sua conoscenza fosse in viaggio per il sud in questi casi Pedri cercava qualche sconosciuto dall'aria particolarmente stanca e gli offriva i suoi servigi quella sua cortesia era del tutto sincera egli non era cosciente del lupo che si cerava sotto le sue spoglie di pecora sentiva solo il desiderio di essere amichevole ed utile e incidentalmente cialdiero ed utile lo era certamente ma al buffet quando la prova della visita doganale era superata lo sconosciuto veniva gradatamente alla conclusione mentre ascoltava i magistrali commenti di Pedri sulla politica finanziaria svedese che tutto sommato sarebbe stato preferibile affrontare i rapaci facchini e gli insolanti doganieri da solo e senza l'aiuto di nessuno John Pedri non aveva ancora finito di enumerare tutte le sue ragioni per supporre che gli aeroplani non avrebbero mai preso il posto dei battelli che attraversano la manica quando giungemmo a destinazione ed eccoci qua disse ed aprì lo sportello perché scendessi ma come dicevo aggiunse rivolgendosi ad Herbert il grande difetto dei giroscopi è il loro peso e l'eccessiva rigidità che danno all'apparecchio ed io ti garantisco mio caro ragazzo ma ho dimenticato che cosa egli garantisse tutto quello che ricordo è che stava ancora garantendo quando entrammo nel salotto dove trovammo la signora Pedri con i bambini fin dal principio trovai che Grace Pedri era affascinante eppure era sorella di Herbert e molto simile a lui sotto molti aspetti e che dimostra cosa del resto abbastanza ovvia che siamo disposti a tollerare e perfino ad ammirare in una persona dell'altro sesso quelle stesse qualità che ci mandano in bestia quando le troviamo nelle persone del nostro sesso per me Herbert era un seccatore perché mentalmente era vuoto e vago perché era privo di iniziativa e perché si attaccava e rimaneva appiccicato ma Grace il cui carattere era davvero molto simile a quello di Herbert mi affascinava nonostante o forse anche a causa di quelle qualità che mi facevano catalogare il suo fratello tra le calamità minori della mia esistenza ma non sono soltanto le qualità mentali o morali dei nostri simili che ci ispirano odio o d'amore io non avrei sono sicuro trovato Herbert così deplorevole se fosse stato più piccolo meno ingombrante e meno goffo fisicamente Grace aveva poca somiglianza con suo fratello era alta è vero ma snella e agile Herbert era grosso massiccio e con i piedi di piombo in un certo senso e così nell'insieme Herbert non poteva definirsi brutto aveva un bel profilo il naso e il mento erano romani e positivamente nobili a una certa distanza avreste potuto prenderlo per qualche formidabile uomo d'azione dell'epoca imperiale ma quando eravate abbastanza vicini per vedere i suoi occhi e leggere l'espressione di quella faccia larga e pretenziosa vi accorgevate che se era un romano era uno dei romani più vuoti e più stupidi che mai ci fossero stati Grace non era in alcun modo classica o imponente non avreste mai potuto a qualsiasi distanza prenderla per la madre dei gracchi i suoi lineamenti erano minuti e sembravano ancora indefiniti come i lineamenti di un bambino una gran massa di capelli bruno rossizzi che a quel tempo quando la moda permetteva ancora alle donne di avere i capelli e la portava raccolta in due trecce a spirale sopra gli orecchi enfatizzando il pallore di quel viso infantile un paio di occhi grigi rotondi e spalancati guardavano da sotto l'elmo dei capelli con un'espressione di ingenuità lievemente perplessa il suo viso era quello di una bambina piuttosto brutta ma molto simpatica e quando sorrideva diventava improvvisamente quasi bella Herbert sorrideva nello stesso modo un sorriso improvviso pieno di gentilezza e di bontà era quel suo sorriso che impediva almeno a me di trattarlo con quell'assenza di compassione che si sarebbe meritata in tutti e due fratello e sorella c'era una vaga e indifesa bontà che si esprimeva attraverso quel sorriso un'inefficiente gentilezza d'animo modificata nel caso di Herbert da una certa rustichezza egli era uno zotico perfino nella sua bontà il sorriso di Grace era vago ma al tempo stesso esprimeva una raffinatezza innata che Herbert non possedeva erano fratello e sorella ma la sua era un'anima più fine più aristocratica era nei suoi rapporti con i bambini che la bontà di Grace si rivelava più inefficiente ella li amava ma non sapeva cosa farne e come trattarli fortunatamente per lei e anche per i bambini poteva permettersi di tenere delle bambinaie e delle governanti da sola non sarebbe mai stata capace di allevare i suoi figlioli sarebbero morti nella culla o se fossero sopravvissuti ai primi due anni di nutrimento disadatto e antigenico sarebbero divenuti dei piccoli selvaggi così invece i bambini erano stati allevati da domatrici di bambini professioniste erano sani eccetto che con la madre si comportavano benissimo la madre era per loro un essere di specie diversa un essere caro e adorabile ma non serio come la bambinaia o Miss Phillips non proprio adulto un essere che era per metà bambina e per metà fata la madre era un folletto che permetteva e perfino suggeriva le più fantastiche infrazioni alle ordinarie regole era stata lei per esempio che aveva inventato quel nuovo genere di sport che consisteva nel fare la doccia d'estate sotto la pompa girevole che annaffiava il prato era stata lei che aveva per prima suggerito quello splendido gioco così strenuamente disapprovato da Miss Phillips dalla bambinaia e dal padre di mordere la propria fetta di pane a pranzo in forma di fiore o di cuore di piccolo ponte di lettera dell'alfabeto di triangolo di locomotore i bambini l'adoravano ma non la prendevano mai sul serio come una persona che avesse dell'autorità non saltava loro nemmeno in mente di obbedirla tu sei una bambina una volta udì che le diceva la figlia di quattro anni sei una bambina mamma mrs phillips è una vecchia signora lei svolse verso di me i grandi occhi perplessi vedete disse con disperazione e tuttavia con una specie di trionfo come se dimostrasse la verità di qualcosa che era stata messa in discussione vedete che cosa posso farci non poteva farci nulla quando erano soli con lei i bambini diventavano delle bestioline selvagge ma bambini protestava bambini su smettetela ma sapeva che era come rimproverare una nidiata di orsacchiotti talvolta quando le sue proteste erano più disperate dell'ordinario i bambini si fermavano per un attimo e le rivolgevano un sorriso rassicurante va tutto bene mammina dicevano va tutto benissimo non ti preoccupare e la madre finiva per arrendersi in Herbert quella mancanza di energia mi sembrava intollerabile ma l'inettitudine di sua sorella aveva un certo stile perfino la sua goffaggine non mancava di grazia perché talvolta era davvero goffa quando doveva cucire per esempio era come se tutte le sue dita fossero state dei pollici infatti quando io la conobbi avevo ormai rinunciato a tentare di cucire ma riteneva che fare a maglia delle calde sciarpette per i bambini facesse parte dei suoi doveri materni sebbene non tentasse mai di fare qualcosa di più complicato lavorava molto ad agio concentrando penosamente tutta la sua attenzione nel lavoro che teneva in mano finché dopo pochi minuti esausta dallo sforzo mentale era costretta a smettere e riposarsi le occorrevano dei mesi per finire una sciarpa e quando era finita era un oggetto straordinario una specie di rete da pesca in lana non è perfettamente riuscita temo diceva grace tenendola davanti a sé a braccia tese però aggiungeva chinando la testa da una parte e socchiudendo gli occhi come se stesse guardando un quadro pontilist non va poi tanto male tutto sommato in cuor suo ella era molto fiera di quelle sciarpette fiera come una bambina che ha scritto la sua prima lettera o ricamato il suo primo coprita era praticamente senza essere stata aiutata dalla bambinaia mi sembrava ancora straordinario di poter fare qualcosa da sola senza aiuto quella sua graziosa inettitudine mi divertiva e mi piaceva è vero se avessi dovuto sposarla forse non avrei trovato la cosa tanto piacevole non fosse altro perché non avrei mai potuto permettermi un numero sufficiente di domestici e di bambinaie per controbilanciare i suoi effetti nella vita domestica quotidiana ne temo l'assurdo fascino della sua incertezza intellettuale avrebbe sopravvissuto a una lunga intimità per esempio era del tutto incapace e non c'era esperienza che potesse insegnarglielo di comprendere il valore del denaro un giorno era eccessivamente prodiga e spendeva le sterline come se fossero state pens il giorno dopo sopravvalutava il denaro con la stessa incoerente facilità con cui l'aveva sottovalutato e rimpiangeva ogni penny speso per le prime necessità della vita talvolta il povero Pedli tornava a casa dall'ufficio e non trovava altro da mangiare che lenticchie un altro uomo si sarebbe irritato in maniera violenta ed esplosiva ma Pedli nel quale la passione pedagogica era più potente della collera si limitava a qualche ragionata rimostranza sotto forma di una dissertazione sul significato e sulla funzione del denaro seguita da una breve conferenza sulla dietetica e la teoria delle calorie Grace ascoltava attentamente e con umiltà ma per quanto si sforzasse non riusciva mai a ricordare una sola parola di quello che il marito aveva detto o piuttosto se ricordava qualcosa lo ricordava tutto a rovescio le frasi che Pedli aveva organizzato in discorso razionale si ordinavano nel cervello di Grace in modo tale da non avere alcun senso comune accadeva lo stesso con le cose che leggeva gli argomenti ne si capovolgevano nella mente i fatti secondari erano vividamente ricordati quelli essenziali dimenticati le date non avevano per lei alcun significato povera Grace era penosamente conscia della sua inefficienza mentale desiderava sopra ogni altra cosa al mondo essere colta autoritaria capace ma sebbene leggesse una gran quantità di libri seri e li leggesse con genuino piacere oltre che per principio non era mai riuscita a farsi una cultura dentro la sua testa diventava tutto un informe pasticcio sembrava che il suo cervello fosse abitato da qualche folletto maligno che si divertisse a fare a pezzi mosaici splendidamente composti della cultura e del genio e poi a ricomporli dopo aver gettato via un bel numero di pezzi nel più fantastico e ridicolo disordine la coscienza di questi difetti le faceva particolarmente ammirare la gente che si distingueva per le qualità opposte era stata questa ammirazione ne sono certo che l'aveva indotta a sposare Pedli era giovanissima quando Pedli se n'era innamorato e l'aveva chiesta in moglie aveva 18 anni e lui 34 giù di lì giovanissima ed essendo fresca di scuola e quindi di bocciature agli esami e di rimproveri da parte dei maestri più che mai sensibile alle proprie manchevolezze e ai meriti di coloro che non le rassomigliavano Pedli entrò nella sua vita l'avendo documentata accuratezza delle sue cognizioni sui concimi artificiali e sul sistema bancario svizzero la sbalordì non che questi argomenti la interessassero appassionatamente è vero ma di questo biasimava se stessa non lui egli le sembrava la personificazione della cultura e della saggezza onnisciente una vera enciclopedia ambulante non è insolito il caso di ragazzine che si innamorano dei loro attempati professori e il tributo pagato dalla giovinezza dalla giovinezza volubile scapestrata ma appassionatamente seria alla venerabile intelligenza Grace non fu fortunata l'intelligenza più venerabile con la quale a 18 anni era venuta a contatto era quella di Pedli di Pedli e la ammirava e riveriva quello che le sembrava un sommo newtoniano intelletto e quando l'intelletto newtoniano fu posto ai suoi piedi ne fu dapprima spalordita era mai possibile che lui Pedli l'onnisciente si indinocchiasse davanti a una ragazzina che aveva avuto tra ignominiose bocciature ai Cambridge Locals poi lusingata e piena di gratitudine inoltre Pedli a differenza del proverbiale professore non era decrepito né aveva la barba grigia era nella pienezza della vita estremamente attivo sano ed energico bello anche nello stile di quei brillanti uomini d'affari viserubicondo macella quadra che vediamo ritratti nella pubblicità e nelle illustrazioni delle riviste settimanali per tutto priva d'esperienza e materia Grace si persuase finalmente che la sua gratitudine e il suo infantile entusiasmo erano il vero amore descritto nei romanzi credette di essere innamorata di lui ma anche se non fosse stato così con tutta probabilità il risultato non sarebbe stato diverso la corte instancabile di Pedli l'avrebbe infallibilmente costretta ad arrendersi Grace non aveva alcuna forza di volontà uno avrebbe potuto costringerla a fare qualsiasi cosa in questo caso però non furono necessarie molte pressioni e la seconda volta che Pedli fece la sua domanda ella lo accettò e così nel 1914 un mese o due prima dello scoppio della guerra si sposarono chi si sarebbe aspettato che un matrimonio cominciato insieme alla guerra dovesse essere un matrimonio strano fuori del comune catastrofico forse ma per i Pedli la guerra non ebbe molta importanza non toccò la loro vita durante il primo anno John Pedli continuò a fare i suoi affari come sempre in seguito dopo essere stato dichiarato inabile al servizio attivo per la sua miopia si arruolò per i servizi sedentari si dimostrò altamente utile e capace in un'infinità di incarichi e quando i medici militari diventarono più rigorosi egli fece in modo da rendersi insostituibile come addetto al razionamento dello zucchero Grace frattanto aveva vissuto tranquillamente a casa e aveva dato alla luce tre bambini in tre anni consecutivi i bambini la tenevano occupata la guerra per lei era abbastanza insignificante non era stata testimone delle sue tragedie né delle sue febbrili sordide farse non conobbe le preoccupazioni le ansie i dolori di quei giorni come non conobbe le stravaganze le ubriacature i troppo facili piaceri le feroci dissolutezze che andavano parallele con le atrocità della guerra e che finivano col confondersi e mescolarsi con esse Grace si limitava a badare ai suoi bambini era come si vivesse nel diciottesimo secolo quando io la conobbi Grace era sposata da circa sei anni il figlio maggiore aveva cinque anni il più piccolo ne aveva all'incirca due Pedli a quanto mi parve era ancora innamorato di lei a modo suo si intende la travolgente passione che l'aveva indotto a un matrimonio non troppo ragionevole una passione principalmente fisica si era calmata non era più pazzo di lei ma continuava a trovarla estremamente desiderabile le abitudini inoltre gliel'aveva resa più cara e indispensabile e gli era ormai difficile immaginarsi un'esistenza senza di lei ma con tutto ciò non c'era confidenza tra loro non possedendo come ho già detto la sua vita privata Pedli non capiva il significato dell'intimità egli non poteva confidarsi e quindi non domandava le confidenze degli altri e quando qualcuno gliele faceva non richiesto non sapeva che farsene non so se Grace avesse mai provato a confidarsi con lui ma se ci provò credo che dovette ben presto rinunciare a farlo era lo stesso che confidarsi con un grammofono si sussurravano i propri pensieri più sacri e più segreti nella tromba dell'apparecchio ma per tutta risposta veniva fuori una voce forte e tonante che parlava della politica finanziaria suedese o della legge sulle compagnie d'assicurazione dipendeva da quale disco del vasto ma pur sempre limitato repertorio si trovava in quel momento sul grammofono nella casa spirituale dei pedli c'era soltanto una camera da letto e una sala delle conferenze non un baudoir sentimentale per le confidenze non un quieto studio piacevolmente violato di tanto in tanto da una intrusione femminile non c'era niente tra le intimità fisiche della camera da letto e le relazioni interpersonali tra alunna e blaterante professore nella sala delle conferenze e che conferenze grace che credeva ancora nella preminenza intellettuale del marito continuava a rimproverarsi di trovarle noiose ma noiose le trovava questo era un fatto che non poteva negare la lunga pratica le aveva insegnato a coltivare una specie di sordità mentale i discorsi di pedli non le davano più sui nervi perché non li udiva più spesso la vedevo che con gli occhi fissi sul marito e con un'espressione di attenzione profonda sembrava bere ogni parola che usciva dalla sua bocca era così che doveva averlo guardato in quei primi mesi del loro matrimonio quando ancora si sforzava di interessarsi e di ricordare correttamente solo che in quei giorni immagino non doveva esserci stata nel suo viso una serenità così perfetta doveva avere i lineamenti tesi per la concentrazione e per gli sbadigli angosciosamente repressi adesso c'era soltanto un'inalterabile calma la calma dell'astrazione completa ed assoluta me ne accorsi fin dalla prima sera della nostra conoscenza John Pedley al quale Herbert aveva detto che mi interessavo più o meno professionalmente di musica cominciò in mio onore una lunga descrizione del meccanismo delle pianole ero piuttosto commosso da quei manifesti sforzi per farmi sentire a casa mia e sebbene fossi stordito dal suono della sua voce feci del mio meglio per far vedere che mi interessavo a quel che diceva in un momento di intervallo mentre Pedley si serviva di legumi che sollievo avere un momento di riposo mi rivolsi a Gress e le domandai cortesemente così come dovevo fare nella mia qualità di nuovo ospite se anche lei si interessasse di pianole come suo marito e la trasalì come se l'avessi svegliata dal sonno polse verso di me due occhi sballorditi poi spaventati e diventò scarlata se mi interesso anch'io e di che cosa domandò di pianole oh di pianole e pronunciò la parola in un tono così perplesso e stupito che capì come non avesse la minima idea che le pianole erano state oggetto di conversazione per gli ultimi dieci minuti pianole ripete quasi incredula eppure mi era sembrato che ascoltasse con profonda attenzione io l'ammiravo per questa sua capacità di astrarsi di allontanarsi spiritualmente l'ammiravo ma allo stesso tempo la compativo ma per vivere in un ambiente dal quale era necessario semplicemente per legittima difesa assentarsi in ispirito era una cosa davvero degna di compassione il mattino dopo valendomi del privilegio di un ammalato feci la prima colazione a letto quando scesi dalla mia stanza Padley e Herbert erano usciti a fare una passeggiata trovai Grace sola intenta a disporre i fiori nei vasi ti scambiamo il buongiorno dall'espressione del suo viso mi accorsi che la mia presenza la imbarazzava terribilmente uno sconosciuto un highbrow un critico musicale che cosa dirgli compiendo coraggiosamente il suo dovere ella cominciò a parlarmi di Bach mi piaceva Bach non pensavo che fosse il musicista più grande di tutti io feci del mio meglio per risponderle ma non so perché a quell'ora del mattino sembrava che ci fosse pochissimo da dire su Bach la conversazione cominciò a languire e che belle cose continuò lei disperatamente nel clavicembro ben temperato e tanto utili per torturare i bambini che imparano il pianoforte risposi altrettanto disperatamente essere faceto l'ultima risorsa le mie parole avevano toccato una corda nel cervello di Grace tortura disse e la parola ricordo che quando andavo a scuola ed eccoci alla fine felicemente lanciati in un soggetto interessante perché personale Grace amava la sua cara vecchia a scuola come Herbert amava la sua ma come le altre persone del suo sesso Grace aveva una scusa migliore per amarla per molte donne gli anni passati in quell'eccitante mondo puramente femminile cameratesco e senza complicazioni sono i più felici della loro vita Grace era una di loro adorava la sua scuola e rimpiangeva la sua vita scolastica come se si fosse trattato di un'età dell'oro c'erano stati è vero i Cambridge locals e i rimproveri delle maestre ma d'altro canto non c'era stato nessun pedli non c'erano state gravidanze annuali né responsabilità domestiche né doveri sociali né servitù né problemi di prodigalità o d'avarizia parlava con entusiasmo ed io ascoltavo con piacere un'ora e mezzo più tardi quando i due seccatori tornarono dalla loro passeggiata rossi in faccia e affamati come lupi ci dispiacque di essere interrotti avevo saputo molte cose sull'adolescenza di Grace avevo saputo che aveva avuta una passione infelice per la più giovane delle maestre di musica che una delle sue amiche aveva ricevuto una lettera d'amore da un ragazzo di 15 anni che cominciava ho visto una vostra fotografia sullo sketch fatta mentre passeggiate nel parco con vostra madre potrò mai dimenticarla seppi che aveva avuto gli orecchioni per 5 settimane che era salita sul tetto al chiaro di luna in pigiama e che non era affatto brava al gioco dell'ok di tanto in tanto tutti noi sentiamo il bisogno spesso urgente e imperioso di parlare di noi stessi desideriamo affermare la nostra personalità insistere su un fatto che il mondo intorno sembra voler dimenticare il fatto che noi esistiamo che noi siamo noi in alcuni questo desiderio è così forte e cronico che non si stancano mai di parlare di sé piuttosto che tacere preferiscono traboccare di confidenza umilianti e compromettenti grace non era afflitta da smanie così perverse ed eccessive non aveva niente dell'esibizionista ma le piaceva ogni tanto fare una chiacchierata sulla sua anima sul suo passato sul suo futuro parlare le piaceva e ne aveva troppo raramente l'occasione in me aveva trovato un ascoltatore e un commentatore pieno di comprensione verso la fine della mattinata mi considerava già come un vecchio amico ed io da parte mia lo trovavo incantevole così incantevole che per amor suo ero disposto perfino assorbirmi la disquisizione di john pedri sulle compagnie d'assicurazione dopo poche settimane di conoscenza ci parve la cosa più naturale del mondo continuare a frequentarci assiduamente parlavamo molto di noi stessi della vita e dell'amore argomenti che possono essere discussi con pieno piacere e profitto soltanto fra persone di sesso diverso su nessuno di questi argomenti a dire il vero grace aveva qualcosa di significativo da dire aveva vissuto troppo poco e non aveva amato affatto era impossibile quindi che conoscesse se stessa ma era precisamente questa sua ignoranza e quel suo ingenuo e fiducioso modo di parlare che mi affascinava mi sembra di essere già vecchia si lamentava un giorno vecchia e finita come quei buffi cappelli di paglia e quelle maniche a sbuffo nei volumi rilegati dell'illustrated london news aggiunse cercando di rendermi più chiaro il suo pensiero io mi misi a ridere siete assurdamente giovane dissi e non avete ancora cominciato e la scosse la testa e sospirò quando parlavamo dell'amore manifestavo uno scetticismo triste di mezza età è ridicolo che la gente non faccia che parlarne non ha torto ma non ne vale la pena insiste non nella realtà non fuori dai libri ah no dissi la penserete diversamente quando avrete aspettato per due o tre ore qualcuno che non è venuto quando non potrete dormire perché vi domandate dove qualcuno è stato e con chi e avete voglia di piangere e piangete e vi sentite come se foste per prendervi l'influenza ah ma quello non è amore replicò Grace sentenziosamente col tono di chi ha qualche fonte di informazione privata e sicura e cos'è allora eh Grace esitò e divenne improvvisamente rossa eh beh è fisico non potei trattenere una fragorosa risata Grace parve esserne urtata è vero insistè ostinandosi è vero dovetti ammettere ma perché non dovrebbe essere amore raggiunsi sperando di venire a sapere le opinioni di Grace su quell'argomento e Grace me le fece sapere erano assolutamente dantesche potei solo supporre che gli ardori di Pedli l'avevano lasciata fredda forse anche disgustata ma la vita e l'amore non erano i soli nostri soggetti di conversazione l'ignoranza di Grace e la mia innata riservatezza ci rendevano impossibile discutere a lungo di queste cose con qualche risultato negli intervalli come John Pedli io mi assumevo la parte del pedagogo attraverso alcune mie casuali osservazioni Grace divenne improvvisamente cosciente di cose la cui esistenza era rimasta fino ad allora sconosciuta cose come la pittura e la letteratura contemporanea la giovane musica le nuove teorie sull'arte fu una rivelazione e sembrava che tutti i suoi sforzi verso la cultura fossero andati perduti aveva cercato faticosamente di scalare la montagna sbagliata di penetrare in un santuario che non era quello giusto sulla cima ammesso che l'avesse mai raggiunta nel Sancta Sanctorum che cosa avrebbe trovato una grottesca e tarlata collezione di quei buffi cappellini di paglia e di maniche a sbuffo dai vecchi Illustrated London News era orribile era orribile era umiliante ma adesso aveva potuto intravedere un altro santuario tappezzato da Martin arricchito dalle offerte dei cuore e dei lanven dello spirito un santuario moderno un olimpò alla moda era ansiosa di scalarlo di entrare facendo la parte di quei gentiluomini decaduti che per speciali considerazioni introducono qualche parvenù nella buona società io feci conoscere a Grace tutto quello che c'era di più moderno e di più chic nel mondo dello spirito le detti lezioni di etichetta intellettuale la mise in guardia contro le gaffe estetiche e la ascoltava con attenzione e fu presto sufficientemente a suo agio in quel mondo poco familiare seppe cosa doveva dire davanti a una poesia d'Adà a un quadro di Picasso a un quartetto di Schoenberg a una scultura di Archipenko in quel periodo lavoravo come critico musicale e due o tre volte alla settimana conducevo Grace ai miei concerti non mi ci volle molto per scoprire che aveva ben poca sensibilità musicale e nessuna comprensione analitica ma lei dichiarava ipocritamente di adorare la musica e poi mi annoiava mortalmente dover andare da solo ad ascoltare dei pianisti di secondo ordine che suonavano gli stessi vecchi pezzi di Liszt e di Chopin dei contralto di secondo ordine che ululavano Schubert e Brahms dei biorinisti di secondo ordine che grattavano Tartini e Vienovski fingevo di credere all'entusiasmo musicale di Grace e la conducevo con me a tutti i concerti più penosi se la sala era vuota e si ha detto ad eterna lode del pubblico musicofilo generalmente lo era potevamo metterci a sedere in fondo lontano dagli altri spettatori sfarsi qua e là e chiacchierare piacevolmente per tutta la durata del concerto le prime volte Grace era stata terribilmente scandalizzata quando dopo aver ascoltato da critico le prime tre battute del Dubiste Viene Blume o del Trillo del Diavolo io aprivo la conversazione ella aveva una perfetta tecnica da frequentatrice di concerti e ascoltava con la stessa espressione di devozione malinconica che avrebbe avuto in chiesa ogni parte del programma il mio chiacchiericcio quindi le sembrava sacrilego fu soltanto quando l'assicurai professionalmente ed ex catedra che quella roba non valeva la pena ad essere ascoltata che consentì sebbene con un certo timore nei primi giorni a prendere parte alla conversazione ben presto però si abituò a quell'oltraggio tanto che quando capitava che la musica o l'esecuzione erano davvero buoni un piccolo particolare che il temperamento musicale di Grace non poteva rilevare ero io che dovevo fare la parte contraria e frenare il suo sacrilego chiacchiericcio in un luogo divenuto improvvisamente sacro alla fine imparò a modellare il suo contegno sul mio a comportarsi devotamente quando io mi comportavo devotamente a chiacchierare quando io chiacchieravo una volta piuttosto maliziosamente assunsi la mia espressione più estatica mentre un lagrimoso incompetente pestava un pezzo di Akhmaninov dopo avermi dato un rapido sguardo con la coda dell'occhio anche Grace cadde in estasi guardando il pianista come una santa Teresa avrebbe potuto guardare l'elevazione dell'ostia quando la dura prova finì e la volse verso di me un paio d'occhi lucidi e brillanti non era splendido domandò e tale è il potere dell'autosuggestione chi Grace aveva sinceramente apprezzata la musica mi è parsa l'esecuzione più rivoltante che abbia mai ascoltata fu la mia risposta la povera Grace divenne scarlatta e gli occhi le si riempirono di lacrime per nascondermele abbassò la testa a me era sembrata molto buona insiste eroicamente ma naturalmente io non posso giudicare bene certo non era poi così cattiva mi affrettai a rassicurarla si esagerà sempre sapete a vederla così infelice mi ero profondamente pentito di quello che avevo fatto la mia intenzione era stata soltanto di prenderla un po' in giro e invece l'avevo ferita e ferita in modo crudele avrei dato non so che per non aver mai fatto quello stupido scherzo ci volle molto tempo prima che Grace mi perdonasse completamente in seguito quando la conobbi meglio riuscì a capire come mai avesse preso la cosa tanto male brutalmente improvvisamente il mio scherzo aveva disfatto uno di quei deliziosi ritratti di se stessa che Grace continuamente creava con la fantasia ai quali cercava di restare fedele ciò che per me era stato uno scherzo era stato per lei una specie di assassinio Grace pensava per immagini mi accorsi per esempio che aveva ciò che Galton chiama una forma numerica quando doveva fare qualsiasi specie di operazione aritmetica vedeva le cifre disposte nello spazio davanti a sé ogni numero aveva il suo proprio colore e la sua propria posizione nella forma dopo le centinaia le cifre diventavano più indistinte era per questo che le era sempre stato così difficile fare delle operazioni con numeri di oltre tre cifre la differenza fra tremila trentamila e trecentomila non le appariva mai immediatamente perché in quel caso trattandosi di numeri grandi ella non vedeva nulla le cifre fluttuavano indistintamente sui margini confusi della sua forma numerica un milione però lo vedeva molto chiaramente il suo posto era in alto a sinistra sopra il suo capo e consisteva in un gran mucchio di quelle buste che hanno le banche per metterci dentro il denaro migliaia e migliaia di esse ognuna con sulla parola milione in grosse lettere nere tutti i suoi processi mentali erano una successione di immagini visive e queste erano così vivide da rivaleggiare in precisione e in lucidità le immagini che riceveva per mezzo degli occhi non poteva pensare a ciò che non poteva raffigurare dal canto mio io non ho né memoria né fantasia visiva mi sarebbe difficilissimo per esempio descrivere a memoria i mobili della mia stanza so che ci sono tante sedie tanti tavoli tante porte tanti scaffali e così via ma non ne ho una chiara visione mentale se devo fare a memoria un'operazione aritmetica non vedo nessun numero colorato la parola africa non mi richiama alla mente come una volta Grace mi assicurò che le accadeva sempre una visione di sabbia con palme e leoni quando faccio dei progetti per l'avvenire io non mi vedo come se fossi su un palcoscenico recitare una parte in un dramma immaginario io penso senza immagini in astratto e nel vuoto ecco perché non posso pretendere di descrivere con precisione il funzionamento del cervello di Grace i sordi congeniti non sono i migliori giudici in fatto di musica posso soltanto cercare di indovinare di ricostruire con l'immaginazione da quanto dedussi dalle nostre conversazioni ritengo che Grace avesse l'abitudine di vedersi in ogni specie di situazione alcune di queste non avevano alcuna relazione con la sua vita attuale erano le situazioni puramente fantastiche ed ipotetiche dei sogni ad occhi aperti altre erano reali o almeno reali in potenza vivendo la sua vita ella si vedeva vivere rappresentare sulle scene della piatta commedia quotidiana una parte ben definita e precisa così quando andava a fare una passeggiata in campagna si vedeva camminare una montanara instancabile ed energica quando accompagnava Pedli nelle sue spedizioni annuali in riviera si vedeva salire sul wagon lit o vagare lungo la promenade de Saint-Glè come una milady immensamente ricca ed altezzosa invidiata dalla canail superiore e lontana da essa come una stella in certe occasioni socialmente importanti rappresentava spesso una parte del genere io vidi la milady due o tre volte nei primi mesi della nostra conoscenza in seguito la milady diventò una grand dame molto parigina molto diciottesimo ventesimo secolo ma di questo parlerò più tardi graisse era molto aiutata dai vestiti in queste sue visualizzazioni il costume che indossava per fare una passeggiata di due miglia nel Kent avrebbe potuto servirle per attraversare le ande e in tutto suo abbigliamento in ogni occasione si osservava la stessa drammatica appropriatezza era un peccato che non potesse anche cambiarsi la faccia insieme agli abiti il suo viso sia che passeggiasse lungo il mare in riviera o che in golne corte scarponi e golf si accingesse a scalare qualche monticello del Kent era sempre lo stesso il viso di una bambina piuttosto brutta ma molto simpatica un viso che si affacciava sul mondo attraverso dei grandi occhi perplessi improvvisamente e brevemente bello quando sorrideva le visioni che aveva di se stessa non erano soltanto momentanee ed occasionali di solito per considerevoli periodi di tempo c'era un personaggio che predominava sugli altri durante i primi quattro anni del suo matrimonio per esempio si era vista specialmente come una madre e una padrona di casa ma la sua manifesta incapacità a recitare con successo queste due parti aveva gradatamente raffreddato il suo entusiasmo per esse avrebbe voluto dirigere la casa si vedeva andare in giro tintinnando un mazzo di chiavi e dando ordini alle cameriere ma in pratica ogni volta che si mischiava in ciò che faceva la sua abilissima vecchia cuoca tutto andava a rovescio amava i suoi bambini e li immaginava crescere sani e buoni sotto la sua influenza ma si ammalavano sempre quando si occupava lei del loro nutrimento e si comportavano come delle bestie se tentava di farsi ubbidire per la donna che cercava di vedersi come una perfetta padrona di casa come una matrona quasi germanica non era molto incoraggiante così quando nacque il suo ultimo bambino aveva praticamente abbandonato ogni tentativo e fin dal primo momento il bambino era stato consegnato corpo ed anima nelle mani delle bambinaie e salvo nei giorni in cui era presa dal suo panico finanziario e ordinava che non si servissero in tavola altro che lenticchie lasciava che la cuoca facesse a modo suo quando la conobbi Grace non si vedeva nel cui rol preciso e predominante frustrata dalla triste esperienza la matrona si era accasciata ed era scomparsa e fino a quel momento non aveva avuto alcun successore lasciata così senza un personaggio immaginario da interpretare Grace era ricaduta in quella mancanza di ogni carattere che in lei come in Herbert sembrava essere lo stato naturale si vedeva ancora abbastanza vividamente in certe situazioni occasionali la scalatrice di montagne e la mila di ricca e altezzosa per esempio ma non vedeva una figura permanente e centrale alla quale capitava di scalare le montagne e di passare delle opulente vacanze in riviera Grace era una successione di punti per così dire non una linea la sua amicizia con me fu responsabile del formarsi nella sua coscienza di una nuova permanente immagine di se stessa scoprì nella mia compagnia un nuovo role non così importante né così ricco di possibilità come quello della matrona ma pur sempre una parte di primo piano era rimasta così a lungo senza un personaggio che colse volentieri l'occasione di rifarsene uno per quanto incongruo fosse ed incongruo era questo nuovo personaggio strano ed eminentemente disadattato Grace era giunta a vedere se stessa nella parte di critico musicale la causa era stata tutto quel nostro andare ai concerti l'andarci professionalmente se io non fossi stato un giornalista e se avessimo dovuto pagare invece di entrare gratis con la mia tessera non le sarebbe mai accaduto di vedersi nei panni del critico i comuni mortali abituati a pagare per i loro piaceri rimangono sempre impressionati dalla vista di una tessera di libero ingresso quella specie di ius primen octis del critico sembra loro una cosa invidiabile poiché condivideva con me quel meraviglioso privilegio grace finì per credere di dover condividere con me anche i doveri del critico si vedeva distribuire l'ode e biasimo ascoltare con estatica attenzione quando il concerto voleva la pena di essere ascoltato chiacchierare sprezzantemente quando non ne valeva la pena identificandosi con me non con il vero me stesso ma con quello ideale che si era affoggiata si immaginava di essere l'arbitra suprema delle reputazioni musicali il mio piccolo scherzo maligno aveva distrutto quella deliziosa immagine di se stessa il critico che era in lei era stato improvvisamente assassinato a quel tempo non riuscivo a capire perché la povera grace ne fosse rimasta così profondamente ferita e fu soltanto quando la conobbi meglio che mi resi conto di quali dovessero essere stati i suoi sentimenti fu più tardi anche che compresi il significato di quella curiosa pantomima che aveva l'abitudine di rappresentare quando entravamo in una sala da concerti quella sua languida andatura nell'attraversare il vestibolo quel trascinare i piedi con una specie di riluttanza come se fosse lì per un lavoro noioso ma inevitabile quel sospiro nell'abbassare le ciglia mentre aspettava pazientemente che la maschera guardasse la mia tessera quella verlaria quando entravamo nella sala di trovarsi perfettamente a suo agio come se fosse stata a casa sua aveva l'abitudine ricordo di appoggiare i piedi sulla poltrona che le stava davanti e quel sorriso di affettato disprezzo quel sorriso stanco e divertito con il quale una volta superato il timore di commettere un sacrilegio rispondeva ai miei bisbigli e alle mie chiacchiere quando l'esecuzione era cattiva quella erano l'andatura la pazienza annoiata la sicurezza è l'aria di disprezzo di un vecchio critico musicale e in quel periodo quanta musica comprò che non suono mai quanti libri di critica musicale e quante biografie prese dalle biblioteche e i gravi giudizi che pronunciava a voce alta quando eravamo a pranzo Beethoven era il più grande di tutti e altre cose del genere capì bene tutto dopo e più capivo più rimpiangevo quel mio scherzo crudele nella parte di critico era stata così felice ed il mio scherzo aveva distrutto quella felicità divenne diffidente e timida fu presa dal panico dell'attore e sebbene non ripetessi più un simile scherzo sebbene la incoraggiassi sempre a credere dopo tutto alla sua sensibilità musicale non riuscì mai più a vedere se stessa in quella parte ma che parte misera era quella del critico anche nei momenti migliori era troppo arida troppo intellettuale impersonale per essere realmente soddisfacente che fosse in mio potere di assegnarle una parte molto migliore quella di moglie colpevole non ne dubitavo come non ne dubito neanche ora quando la conobbi è vero Grace era una donna virtuosissima ma la sua virtù non era fondata su solidi principi con profondo amore per il marito per esempio o su dei forti pregiudizi religiosi non era una virtù che implicasse in alcun modo il suo intimo essere se le accadeva di essere virtuosa era più per caso che per principio per necessità psicologica non aveva ancora avuto occasione di non essere virtuosa ecco tutto avrebbe potuto essere sedotta e spinta all'infedeltà con la stessa facilità con cui Peggy l'aveva sedotta e spinta al matrimonio Grace vagava sulla superficie della vita senza bussola senza meta sarebbe bastato persuaderla che l'adulterio era l'eldorado ed ella avrebbe diretto la sua prora verso quella terra incantata si trattava soltanto di esporre la cosa abbastanza plausibilmente a quel tempo Grace conservava ancora i pregiudizi che la sua ottima educazione le aveva dato ma non erano radicati molto profondamente niente in lei era così profondamente radicato che non potesse essere sradicato con molta facilità mi ero reso conto di questo stato di cose ma non cercai di trarne vantaggio la verità è che sebbene Grace mi piacesse molto non fui mai veramente innamorato di lei si può è vero recitare efficacemente e molto piacevolmente la parte dell'amante nel senso ristretto e tecnico della parola anche senza essere pazzamente innamorati e se ambidue gli interessati potessero sempre garantire di mantenere le loro emozioni in uno stato di equilibrio queste piccole sensualità sentimentali sarebbero senza dubbio squisitamente divertenti ma l'equilibrio non può mai essere garantito i cuori sulla bilancia cominciano prima o poi quasi inevitabilmente a pendere verso l'amore o verso l'odio alla fine una delle sensualità sentimentali diventa una passione non importa se di desiderio o di disgusto e allora addio a tutte le speranze di tranquillità dovrei stare attento a parlare così in presenza di kingham ma sta di fatto che io amo la mia tranquillità per me il gioco dell'amore senza l'amore non vale la candela e non tre avevo altri scrupoli scrupoli che una passione delirante avrebbe potuto vincere ma che bastavano per tenere a freno un semplice moderato desiderio sessuale non fui mai l'amante di grace né genuinamente per diritto di passione né tecnicamente per un accidentale possesso fisico un ironico destino mi aveva riservata una parte meno gloriosa non la parte di amante ma quella di paraninfo senza averne la minima intenzione proprio io dovevo farla parte del benevolo zio pandaro con una grace crescida e ci furono due troili il primo di essi fu niente meno o non dovrei dire piuttosto niente di più la sua reputazione era stata assurdamente esagerata che Clegg il famoso Clegg Rodney Clegg il pittore conoscevo Clegg da anni e mi piaceva in un certo modo mi piaceva così come possono piacere Grock o Little Titch o i fratellini come uno spettacolo comico questo non è il miglior modo di aver simpatia per la gente lo so ma con Rodney era l'unico modo o vi era simpatico come fonte di divertimento o vi era antipatico come essere umano questa almeno era l'idea che mi era fatta mi ero sforzato di arrivare a conoscerlo e di apprezzarlo intimamente fuori dal palcoscenico per così dire ma non era servito a niente alla fine rinunciai ai miei tentativi una volta per tutte mi decisi a considerarlo molto francamente come un comico da varietà e potei di conseguenza godere liberamente della sua compagnia ogni volta che mi sento come uno stanco uomo d'affari vado a far visita a Rodney Clegg forse Rodney come amante era un po' diverso dal Rodney di sempre forse lasciava accadere la sua vanità e la sua mondanità forse diventava inaspettatamente umile e altruista dimenticava il suo snobismo non agognava più successi a buon mercato e per amore rinunciava al mondo volentieri forse o più probabilmente temo restava quello che era e soltanto agli occhi di Grace sembrava diverso dal Rodney le cui chiacchiere e le cui buffonate mi divertivano quando era uno stanco uomo d'affari qual era la visione giusta la sua o la mia nessuna delle due credo deve essere stato nella primavera del 1921 che condussi Grace per la prima volta nello studio di Rodney per lei quella visita era un avvenimento per la prima volta in vita sua stava per conoscere un uomo famoso e Rodney era particolarmente famoso in quel momento i giornali parlavano di lui la sua ultima esposizione aveva fatto molto chiasso i critici con una sprezzante negligenza avevano qualificato i suoi quadri post impressionisti cubisti futuristi o qualsiasi cosa del genere venisse loro in mente e i quadri erano stati giudicati indecenti oltre che eccessivamente moderni i giornali domenicali avevano mandato alcuni moralisti di professione a vederli erano tornati indietro bollendo di indignazione professionale Rodney era contentissimo naturalmente quella era la fama e una fama inoltre che non era affatto incompatibile con la prosperità economica neanche grida dei moralisti di professione non avevano impedito le vendite Rodney faceva affari d'oro la sua conversione all'arte moderna invece di rovinarlo era stata fonte di notorietà e guadagno con la sua infallibile intuitiva conoscenza dei gusti del pubblico aveva ideata una formula che univa la modernità alle grazie più seducenti della letteratura e della pornografia niente per esempio poteva essere meno accademico dei suoi nudi erano mostruosamente allungati il colore era appiatto non c'era modellatura né luci e ombre realistiche la figura umana era ridotta a una silhouette di carta gli occhi sembravano dei bottoni da scarpe neri e rotondi i capezzoli delle bacche rosse le labbra dei cuori vermigli i capelli erano rappresentati da alcune righe nere a zigzag i critici della vecchia scuola esasperati protestavano che quei quadri avrebbero potuto essere dipinti da un bambino di dieci anni ma il bambino decenne se li avesse dipinti avrebbe dovuto essere un bambino straordinariamente perverso nel suo paragone il piccolo Hans di Freud sarebbe stato un angelo di purezza perché i nudi di Rotini per quanto poco realistici erano lascivi e voluttuosi erano perfino indecenti ciò che aveva lasciato perplesso il pubblico nelle opere dei post impressionisti francesi non era stata tanto la deformazione o l'assenza di realismo quanto la loro repellente austerità il loro ascetismo intellettuale privo sia di richiami sessuali come di significati anedotici Rodney aveva rimediato a quelle deficienze quelle sue attraenti lasciva in nudità non erano mai rappresentate nel vuoto per così dire ma in ogni specie di situazioni curiose e divertenti nell'atto di prendere i biglietti alla stazione o mentre andavano in bicicletta o sedute nei caffè con una jazz band negra nello sfondo intente avere una grandement tutti coloro che desideravano essere nel nuovo movimento che consideravano una vergogna non interessarsi dell'arte moderna scoprirono in Rodney Clegg con loro enorme diletto un artista moderno che si potevano realmente ed onestamente ammirare i suoi quadri andavano a ruba quella conversione al modernismo segnò il vero inizio del successo di Rodney non che fosse stato riconosciuto povero prima della conversione un uomo del suo talento sociale e con il suo istinto della popolarità non potrà mai essere veramente povero e oscuro ma tutto è relativo prima della sua conversione Rodney era stato più oscuro e più povero di quanto veritasse allora non conosceva né duchesse né milionarie non aveva un deposito in banca soltanto un conto corrente che cresceva e decresceva capricciosamente come un torrente di montagna la sua conversione aveva cambiato la sua vita quando Grace ed io andammo a fargli visita egli era già sulla via della gloria spero che non sia un uomo terribile mi disse Grace mentre andavamo verso Hampstead dove lui abitava era sempre un po' spaventata quando doveva conoscere della gente nuova io risi dipende da che cos'è che ti fa paura dissi di essere trattata con alterigia o di perdere la virtù non ho mai sentito dire di una donna che lo abbia trovato terribile per la prima ragione ok allora va bene disse Grace apparendo molto sollevata certamente non c'era nulla di molto terribile nell'aspetto di Rodney all'età di 35 anni egli conservava e manteneva con una cura non scevra d'artificio l'aspetto di un bel ragazzo era piccolo ben proporzionato snello e agilissimo nei movimenti sotto una massa di ricciuti capelli neri che erano sempre in uno stato di pittoresco e voluto disordine la sua faccia era come quella di un vivace e impertinente cherubino liscia rotonda quasi senza rughe conservava ancora qualcosa di infantile sulla sua tavola di toilette c'erano numerosi vasetti di creme di bellezza gli occhi erano azzurri luminosi ed espressivi aveva bei denti e quando rideva gli si formavano due fossette sulle guance fu lui stesso ad aprire la porta dello studio vestito con la sua tuta azzurra da lavoro aveva un aspetto molto seducente veniva voglia di accarezzargli la testa ricciuta e di dire quanto è carino tutto vestito così come un operaio perfino io mi sentii tentato di fare un simile gesto per una donna madre in potenza di paffuti bambini la tentazione doveva essere quasi irresistibile Rodney fu molto cordiale caro vecchio Dick esclamò e mi batte la mano sulla spalla erano mesi che non ci vedevamo Rodney aveva passato l'inverno all'estero che piacere vederti credo che avesse sinceramente molta simpatia per me lo presentai a Grace le baciò la mano siete stata molto molto gentile a venire e che splendido anello aggiunse guardando la mano che teneva ancora tra le sue fatemelo guardare vi prego Grace sorrise a Rossi di piacere mentre glielo dava l'ho preso a Firenze e disse sono contenta che vi piaccia era davvero un bellissimo gioiello italiano antico tristemente riflettei che conoscevo Grace intimamente da più di sei mesi e che non avevo mai fatta molta attenzione a quell'anello ne avevo fatto il minimo commento non c'era da meravigliarsi che io sia stato generalmente sfortunato in amore trovammo lo studio cosparso di esemplari dell'ultima invenzione artistica di Rodney signore nude con scarpette nere che conducevano dei levrieri al guinzaglio altre che si abbracciavano teneramente in mezzo a una natura morta di bottiglie chitarre e giornali la vecchia e familiare natura morta moderna era resa vendibilissima e accettabile al gran pubblico con l'introduzione dei nudi equivoci ancora signore nude che andavano in bicicletta il soggetto favorito di Rodney il suo brevetto per così dire che suonavano la concertina che prendevano farfalle gialle con grandi reti verdi Rodney li tirava fuori ad uno ad uno dalla sua poltrona davanti al cavalletto Grace li guardava il suo viso aveva quell'espressione statica e religiosa che le avevo visto così spesso durante i concerti bello mormorava mentre le tele si succedevano alle tele proprio bello guardando quei quadri io pensavo piuttosto divertito e un anno prima Rodney dipingeva delle melodrammatiche crocifissioni nello stile del tiepolo a quel tempo egli era un fervido cristiano l'arte non può vivere senza religione soleva dire allora dobbiamo ritornare alla religione e con la sua consueta facilità Rodney vi era ritornato oh quei quadri colpivano per la loro perfetta insincerità così emotivi così drammatici e tuttavia così interamente falsi e vuoti si sentiva che i soggetti erano stati concepiti come avrebbe potuto concepirli un produttore cinematografico che voleva degli effetti c'erano sempre delle grandi tenebre e luci tenere o serene tocchi di colore vivido e contorni di grandi figure in ombra molto forti solevano dire gli ammiratori di Rodney davanti a quei quadri per il mio gusto invece erano troppo forti Rodney pose un'altra tela sul cavalletto questo l'ho intitolato la bicicletta per due disse rappresentava una negra e una bionda dalla pelle bianchissima che pedalavano in tandem su uno sfondo di gigantesche rose rosse e gialle in primo piano a destra c'era un piatto di frutta inclinato verso lo spettatore nel caratteristico stile moderno un levriero trotterellava accanto al tandem è davvero molto incominciò Graeste estasiata ma non trovando un sinonimo per bello l'aggettivo che aveva dato a tutti gli altri quadri non andò oltre ma fece uno di quei suoni laudativi e poco impegnativi che sono molto più soddisfacenti delle parole quando non si sa cosa dire a un artista sui suoi lavori si volse guardarmi non è molto domandò sì assolutamente mi fece un cenno d'assenso con la testa poi aggiunsi con una certa malizia dimmi Rodney non dipingi più soggetti religiosi mi ricordo di una grandiosa deposizione alla quale lavoravo non molto tempo fa ma la mia malizia fu delusa Rodney non fu minimamente imbarazzato da quel ricordo si mise a ridere oh quella disse l'ho finita ma nessuno voleva comprarla non si può servire Dio e mammona e rise ancora di cuore della sua spiritosaggine quella frase entrò immediatamente nel suo repertorio prese l'abitudine di cominciare a parlare per primo dei suoi quadri religiosi per avere l'occasione di collocare la frase con una comica parodia di fervore clericale alla fine del suo racconto nelle seguenti due o tre settimane gliela udì ripetere spesso a diverse persone Dio e mammona disse ancora risacchiando non possono stare insieme le dè e mammona possono replicai accennando il quadro in seguito ebbi l'onore di riudire queste mie parole nel repertorio di Rodney aveva una memoria meravigliosa precisamente disse dè son liato di dirlo che appartengono a una religione molto più popolare voi siete una credente signora Pedli le sorrise inarcando le sopracciglia io sì credo con fervore sono croagian e parve sottolineare quelle con malizia praticam grazie rise piuttosto nervosamente non sapendo che cosa rispondere ma suppongo che lo siamo tutti disse non era abituata a quel genere di schermaglie Rodney le sorrise in un modo ancora più impertinente come sarei felice disse se potessi convertirvi grazie svece ancora le sue risatine nervose e per cambiare argomento cominciò a parlare dei quadri rimanemmo ancora un po' di tempo a chiacchierare a prendere il tè a fumare sigarette quando guardai il mio orologio erano le sei e mezzo sapevo che Grace aveva un invito a pranzo per quella sera dovremmo andare le dissi sarà in ritardo per il tuo pranzo santo cielo esclamò Grace quando seppe l'ora balzò in piedi devo scappar via la vecchia Lady Weckerbet pensate se posso farla aspettare grise ma le mancava il respiro ed era diventata pallidissima di anticipato spavento rimanete vi prego rimanete implora Rodney lasciatela aspettare non posso ma mia cara signora voi siete giovane egli insiste voi avete il diritto direi il dovere se la parola non fosse così dura e mascolina di non essere puntuale alla vostra età dovete fare quello che vi piace vedete mi permetto di credere che vi piaccia star qui aggiunse fra parentesi Grace ricambiò il suo sorriso sì certo allora rimanete fate quello che vi piace seguite i vostri capricci dopo tutto è per questo che siete fatta Rodney era molto forte sul soggetto dell'eterno femminino Grace scosse la testa addio è stato un pomeriggio incantevole Rodney sospirò prese un'espressione triste e scosse lentamente la testa se vi fosse veramente piaciuto disse quanto è piaciuto a me non mi direste addio ma se dovete le fece un sorriso seducente i denti lampeggiarono le fossette apparvero puntualmente le prese la mano e inchinandosi la baciò con tenerezza dovete ritornare aggiunse presto e senza il mio vecchio dick disse volgendosi a me battendomi una mano sulla spalla è terribilmente divertente non è vero mi disse Grace un momento dopo uscendo terribilmente convenni mettendo una certa enfasi nell'avverbio e poi continuò è un uomo veramente gentile non fece alcun commento è un pittore meraviglioso aggiunse improvvisamente sentii che detestavo Rodney Clegg pensai alle mie genuine qualità di mente e di cuore e mi sembrò oltraggioso mi sembrò scandaloso e intollerabile che la gente cioè le donne in generale e Grace in particolare dovessero essere impressionate e affascinate e conquistate da un piccolo ciarlatano di mezz'età con quella faccia carina da ragazzo e quei modi orribilmente sicuri scaltri e impertinenti mi sembrava un'indecenza ero sul punto di sfogare la mia indignazione ma per fortuna mi venne in mente a tempo che se l'avessi fatto mi sarei reso ridicolo in maniera del tutto superflua non c'è niente di più ridicolo di una scena di gelosia specialmente quando chi la fa non ne ha il minimo diritto né un motivo preciso tenni la lingua a freno la mia indignazione per Rodney sbollì ed io riuscii a ridere di me stesso ma mentre la vettura correva attraverso gli slums di Cadman Town io guardavo attentamente Grace e la trovavo più carina che mai desiderabile persino mi sarebbe piaciuto dirglielo e dicendolo baciarla ma mi mancava l'imprudenza necessaria diffidavo della mia capacità di portare a buon fine l'impresa amorosa non dissi nulla non arrischiai alcun gesto ma decisi che al momento di separarsi ne avrai baciato la mano era una cosa che non avevo mai fatto all'ultimo momento però mi venne in mente che Grace avrebbe potuto pensare che baciandole la mano io volessi stupidamente invitare Rodney Clegg temevo che potesse credermi incoraggiato dal suo esempio ti lasciamo con la solita stretta di mano quattro o cinque settimane dopo la nostra visita allo studio di Rodney io andai all'estero per un soggiorno di sei mesi in Francia e in Germania nel frattempo Grace e Rodney si erano visti due volte la prima volta a casa mia per il tè la seconda a casa di lei dove eravamo stati invitati a colazione Rodney fu molto brillante in entrambe le occasioni un po' troppo brillante a dir la verità come un sorriso a denti falsi pensai ma Grace ne fu abbagliata non aveva mai conosciuto nessuno come lui prima d'allora la sua ammirazione deliziava Rodney una donna intelligente fu il suo commento mentre uscivamo insieme dalla casa dopo la colazione pochi giorni dopo partii per Parigi promettimi che scriverai disse Grace con una voce piena di sentimento quando andai a salutarla io ho promesi e vogli che anche lei promettesse non sapevo esattamente perché dovevamo scriverci o che cosa dovessimo scrivere e tuttavia sembrava molto importante che ci scrivessimo lo scrivere lettere ha assunto uno strano prestigio sentimentale che lo pone nell'ambito dell'amicizia al di sopra della conversazione forse perché siamo meno timidi da lontano che faccia a faccia perché osiamo dire di più dell'iscritto che a voce fu Grace che mantenne per prima la promessa mio caro Dick ti ricordi ciò che dicevi di Mozart che la sua musica sembra così gaia alla superficie così gaia è spensierata ma sotto è triste e malinconica quasi disperata anche la vita è così credo tutti si agitano talmente ma a quale scopo è così triste è così triste adesso non devi compiacerti pensando che io sia in questo stato d'animo solo per il fatto che tu sei andato via sebbene effettivamente mi dispiace tanto che tu non sia qui a parlare di musica e della gente e della vita e via dicendo no non ti adulo io sento queste cose da anni da sempre quasi è per così dire il basso della mia musica si inghiozza tutto il tempo senza curarsi di ciò che succede in chiave di violino gighe minuetti mazzurche valterviennesi ma il basso rimane sempre lo stesso non è un buon contrapunto lo so ma capisci quello che voglio dire i bambini mi hanno lasciata proprio adesso urlando philips ha rotto quell'odioso coniglio di copenaghe in che zia eleanor mi aveva regalato per natale ne sono felice naturalmente ma non posso dirlo e in ogni modo perché devono sempre comportarsi come dei selvaggi triste triste e la storia della morale europea quella di leccei quella è ancora più triste è un libro dove non riesco mai a ritrovare il segno la pagina 100 rassomiglia esattamente alla pagina 200 non esiste una chiave e così tu sai bene come io sia coscienziosa devo sempre ricominciare dal principio è scoraggiante stasera non sono in condizioni di spartito adatte per ricominciare scrivo a te invece però tra poco devo andare a vestirmi per un pranzo viene socio di john certamente nessun uomo ha il diritto ad essere così calvo è sir walter maglem che è non so che cosa al ministero dell'industria e racconta barzellette e la di em che è tanto affettuosa ha l'abitudine di baciarmi così improvvisamente e intensamente che mi sembra di essere tra le spire di un serpente e sputa quando parla poi c'è molly bone che è così carina ma perché non trova marito e robson sui quali non c'è nulla da dire assolutamente nulla 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 ecco cosa penso di tutta la faccenda metterò il mio vecchio vestito nero e non porterò gioielli addio grace nel leggere questa lettera rimpiansi più che mai di non aver avuto coraggio né spirito di iniziativa quella sera in tassi tornando dallo studio di rodney mi sembrava adesso che la mia impudenza non sarebbe stata presa molto male risposi con una lettera di consolazione e scrissi ancora una settimana dopo poi ancora dopo altri dieci giorni e poi ancora infuriato dopo un'altra quindicina finalmente arrivò una lettera la carta era di un pallido giallo e odorava di legno di sandalo nel passato la corrispondenza di grace era sempre stata bianca e inodora la guardai e l'annusai con un certo sospetto poi la persi e lessi mi sorprende mio buon dick che tu non ci conosca meglio non hai ancora imparato che noi donne non amiamo il suono delle parole bisogna che devi non ci piace che si faccia appello al nostro senso del dovere ecco perché non ho mai risposto alle tue impertinenti lettere erano troppo piene di devi scrivere e mi hai promesso di scrivere che cosa mi importa quel che ho promesso è stato molto tempo fa ora sono un essere diverso sono stata migliaia di esseri diversi da allora rinata da ogni capriccio finalmente ora consento a cedere per mera bontà e cortesia eccoti una lettera ma guardati dal fare di nuovo il prepotente con me non tentare mai di ricattare la mia coscienza la prossima volta potrei essere più crudele questo è un avvertimento volevi forse con la tua descrizione di trattenimenti e divertimenti rendermi invidiosa della tua Parigi se è così non ci sei riuscito anche qui abbiamo i nostri piaceri anche qui a Londra per esempio abbiamo avuto un delizioso ballo mascherato pochi giorni fa qualcosa sul genere della Venezia di Longhi o della Citerà di Vattò e in certi momenti posso aggiungere verso la fine della serata era quasi come la Venezia di Casanova quasi come la galante Grivoir Arcadia di Boucher era in Cilsia ma non ti dico di più potresti piombare qui per il prossimo ballo e far la faccia seccata perché l'orchestra non suona Bach e i ballerini non parlano della critica della ragion pura il fatto è mio povero Dio che tu sei troppo solenne e troppo serio nei tuoi piaceri bisognerà proprio che mi occupi della tua rieducazione quando tornerai devi imparare a essere un po' più leggero e un po' più bizzarro sei assurdamente vittoriano sei ancora allo stadio del vivere umilmente e pensare altamente ed è la vita è una realtà la vita è seria ti manca il coraggio dei tuoi istinti voglio vederti più frivolo e socievole più ingordo e lussurioso mio buon Dick se fossi libera come te che epicureo vorrei essere pentiti della tua vita Dick prima che sia troppo tardi prima che tu abbia irreparabilmente raggiunta la mezza età questo è brutto alcuni piaceri urgenti mi attendono Grace lessi e riflessi parecchie volte questa straordinaria epistola se la scrittura disordinata e leggibile non fosse stata indubbiamente quella di Grace avrei dubitato dell'autenticità della lettera quel falso linguaggio di sweet and cycle quei sentimenti neurococò non erano suoi non ne avevo mai sentito usare le parole capriccio o piacere non aveva mai generalizzato in quel modo così orribilmente facile dicendo noi donne che cosa dunque le era capitato da quando mi aveva scritto la prima volta confrontai le due lettere che cosa poteva essere accaduto mistero poi improvvisamente pensai a Rodney Clegg e dove prima era tenebra vidi la luce una luce che lo confesso mi fu estremamente spiacevole almeno dal suo primo levarsi provai un ritorno di gelosia molto più violenta di quella che mi aveva preso quando avevo udito Grace esprimere la sua ammirazione per il carattere e le doti di Rodney e con la gelosia un altrettanto violento rinnovarsi del mio desiderio di lei un oggetto che fino a un dato momento c'era indifferente può acquistare ai nostri occhi un valore inestimabile per il semplice fatto che è passato irrevocabilmente in possesso di un altro appena mi venne il sospetto che Grace fosse diventata l'amante di Rodney cominciai a immaginarmi di essere appassionatamente innamorato di lei mi torturavo pensando alla loro felicità ma le dicevo me stesso per essermi lasciato sfuggire occasioni che non si sarebbero mai più presentate per un momento pensai perfino di ritornare subito a Londra nella speranza di strappare il mio improvvisamente prezioso tesoro dalle grinfie di Rodney ma il viaggio sarebbe stato costoso ed io ero per fortuna a corto di denaro alla fine alla fine di restare dove ero col passare del tempo il mio buon senso ritornò compresi che la mia passione era interamente immaginaria autosuggestionata e gratuita immaginai che cosa sarebbe accaduto se fossi ritornato a Londra sotto la sua influenza ardente di fiamme artificiali mi sarei precipitato drammaticamente da Grace soltanto per accorgermi una volta in sua presenza che non ero affatto innamorato l'amore immaginario può fiorire soltanto a distanza la realtà frena la fantasia e la rimette al suo posto avevo creduto ad essere infelice perché Grace si era addata a Rodney ma la situazione mi accorsi sarebbe stata infinitamente più penosa se fossi ritornato fossi riuscito a impadronirmi di lei e poi avessi scoperto che per quanto la trovassi simpatica e attraente non ero innamorato senza dubbio era deplorevole che Grace fosse stata conquistata da un ciarlatano come Rodney era una prova di cattivo gusto da parte sua che non avesse preferito adorare me anche senza speranza e con passione non corrisposta ad ogni modo questi erano affari suoi e non miei se sentiva ad essere felice con Rodney ebbene povera idiota che lo fosse pure e così via fu con riflessioni di questo genere che mi consolai e mi rimisi nello stato d'animo di un indifferente spettatore quando pochi giorni dopo Herbert capitò al mio albergo potei domandargli notizia della sorella senza la minima agitazione oh è sempre la stessa disse Herbert imbecille lo strinsi di domande non esce più del solito gli chiesi non va a balli e cose di questo genere ho sentito dire che si è data alla vita di società può darsi disse Herbert non ho notato nulla di speciale inutile capì che se volevo sapere qualcosa avrei dovuto servirmi dai miei occhi nel frattempo le scrissi per dirle quanto fossi lieto di sapere che era felice e che si divertiva mi rispose con un saggio lungo e molto affettato sui piaceri dopodiché la nostra corrispondenza languì pochi mesi più tardi io ero appena tornato a Londra ci fu un party nello studio di Rodney l'ultimo capolavoro di Rodney era esposto su un cavalletto in fondo alla lunga stanza era un indecente e divertente plagio dal doganiere rousseau intitolato sposa Lizio rappresentava infatti un corteo nuziale lo sposo e la sposa al centro i parenti in piedi o seduti attorno a loro raggruppati come davanti all'obiettivo di un fotografo di provincia nello sfondo una colonna drappeggiata evidentemente di cartone un ponticello rustico abeti coperti di neve e in cielo un grande dirigibile rosa il solo tratto originale del quadro era che mentre lo sposo e gli altri uomini del corteo erano correttamente vestiti dell'abito nero delle feste il signore salvo che per le scarpe e il cappello erano nude i migliori critici erano dell'opinione che sposa Lizio rappresentava la massima espressione del genio di Rodney egli ne domandava 450 sterline pochi giorni dopo seppi che era effettivamente riuscito ad averle sotto lo sguardo fisso e vitreo del gruppo nuziale gli ospiti di Rodney si stavano divertendo la solita gente stava in piedi o seduta o passeggiava su e giù bevendo whisky o vino bianco due delle giovani signore presenti erano vestite con camicia da uomo e calzoni di velluto nero come Deberder di Galvani un'altra fumava una piccola pipa di radica mentre entravo nella stanza udì un giovane che diceva con voce alta truculenta noi siamo assolutamente moderni noi tutti possono avere mia moglie per quanto mi riguarda non me ne importa lei è libera ed io sono libero è questo che chiamo essere moderni non potei fare a meno di domandarmi perché costui lo chiamasse moderno a me sembrava piuttosto primitivo quasi preumano l'amore dopo tutto è un'invenzione recente la lussuria promiscua è geologicamente fuori di moda la gente veramente moderna riflettei sono i browning strinsi la mano a rovini non disprezzare troppo i nostri semplici piaceri londinesi disse sorrisi mi divertiva a udire dalle sue labbra parole che le lettere di graessi mi avevano rese così familiari valgono quanto ai piaceri i parisini risposi guardandomi attorno tra la folla intravi di graessi si muoveva da un gruppo all'altro con l'aria di trovarsi spiritualmente e fisicamente a casa sua nello studio di rodini mi accorsi era considerata come la padrona di casa una padrona di casa della man gauche era un peccato pensai che non potessi dire a rodini quella semplice battuta di spirito ne avrebbe apprezzata moltissimo se si fosse trattato di qualcun altro negli intervalli della conversazione la osservai con curiosità paragonavo la graess che avevo davanti agli occhi con l'altra graess quale la ricordavo nei primi giorni della nostra conoscenza quel modo di ondeggiare mentre camminava come ondeggia un serpente al suono del piffero quello era nuovo e nuovo era anche il modo di tenere le mani la sinistra sul fianco la destra all'altezza del petto con la palma rovesciata e una sigaretta tra le dita e quando si metteva la sigaretta tra le labbra aveva un modo nuovo di alzare il viso e di soffiare il fumo in aria quasi perpendicolarmente un modo molto ardito e bohemian l'altezzosa Milady era svanita per dar posto a un nuovo genere di aristocratica il genere gaio terribile al di là del bene e del male e tanto in tanto qualche sua frase arrivava fino a me pettegolezze invariabilmente scandalosi critiche delle ultime esposizioni di pittura ricordi o previsioni di parti questi sembravano essere gli argomenti principali tutti per me poco consueti sulla bocca di Grace ma il viso quel viso dai lineamenti vaghi di ragazzina brutta ma simpatica gli occhi stupiti il sorriso così pieno di dolcetta e di benevolenza quelli erano sempre gli stessi e quando l'audì dire con leggerezza a uno dei suoi nuovi amici a proposito di non so quale comune conoscenza quella donna è anche troppo ospitale dicono che tenga letto aperto sarei scoppiato a ridere tanto quelle parole erano palesemente prese in prestito e tanto erano in contrasto con quel viso quegli occhi quel sorriso intanto sulla tabola Rodney stava facendo uno dei suoi famosi disegni continui una figura o un'intera scena tracciata con una sola linea senza sollevare la matita dal foglio era al centro di un gruppo ammirante non è incantevole delizioso stupendo le parole esplodevano insieme a scoppi di risa tutto intorno ecco disse Rodney raddrizzandosi il foglio passò da una mano all'altra perché tutti potessero ammirarlo quel disegno fatto su una sola linea sinuosa di una lotta tra un toro e tre torere nude era incredibilmente ingegnoso tutti applaudirono e chiesero il bis che cosa devo fare ora domandò Rodney le cicliste suggerì qualcuno vecchio vecchio obiettò autoritratto Rodney scosse la testa troppo vano Adamo ed Eva e perché non Salmon e Gluckstein suggerì un altro o i dodici apostoli ho trovato gridò Rodney agitando la matita il re Giorgio e la regina Maria si curvò di nuovo sull'album e in un paio di minuti con una linea sola feci il ritratto delle maestà britanniche ci fu un fragoroso scoppio di risa fu Grace che mi portò il foglio non è meraviglioso disse guardandomi con una specie di appassionata ansia come se fosse impaziente di avere la mia approvazione della sua scelta la mia sacerdotale benedizione da quando ero tornato non l'avevo vista che una volta per un breve e poco intimo momento non avevamo fatto nemmeno il nome di Rodney ma quella sera mi accorse che mi ammetteva la sua confidenza mi implorava senza parole ma non meno eloquentemente di dirle che aveva fatto bene non so esattamente perché desiderasse la mia benedizione mi sarebbe detto che mi considerava una specie di vecchio grigio ziesco polonio un'opinione non molto lusinghiera per me se si considera che avevo parecchi anni meno di Rodney per lei la mia approvazione era l'approvazione della sciagzezza personificata non è meraviglioso ripetè conosci un altro uomo vivente tranne forse Picasso capace di improvvisare una cosa come questa per divertimento per gioco le restituì il disegno il giorno prima trovandomi nelle vicinanze avevo fatto un salto nello studio di Rodney quando entrai stava disegnando ma vedendo mi avevo chiuso l'album e mi era venuto incontro mentre parlavamo era venuto l'idraulico e Rodney mi aveva lasciato per andare nel bagno a dargli qualche istruzione io mi ero alzato ed ero andato qua e là per lo studio guardando le sue ultime tele poi forse non troppo discretamente avevo aperto l'album sul quale stava disegnando quando ero entrato l'album era bianco tranne che nelle prime tre o quattro pagine tutte coperte di disegni continui avevo contato sette diverse versioni del toro con le torere e cinque ogni volta lievemente corrette e migliorate del re Giorgio e della regina Maria mi ero chiesto a che cosa gli potesse servire coltivare quello strano genere d'arte ma non sentendo un'urgente curiosità di saperlo mi ero dimenticato al suo ritorno di domandarglielo adesso capivo straordinario straordinario disse a Grace restituendole il disegno veramente straordinario il suo sorriso di gratitudine e di compiacimento fu così bello che quasi mi vergognai di essere a conoscenza del piccolo segreto di Rodney Grace ed io abitavamo entrambi a Kensington fu io che l'accompagnai a casa quando la festa fu finita beh è stato molto divertente dissi mentre salivamo sul tassì avevamo già passato una dozzina di fanali prima che lei parlasse oh Dick sono tanto felice mi pose una mano sul ginocchio e per mancanza di un possibile commento verbale e la carezzai gentilmente ci fu un altro lungo silenzio ma perché ci disprezzi tutti domandò voltandosi improvvisamente verso di me ma quando mai ho detto una cosa simile protestai oh certe cose non c'è bisogno di dirle si vedono io risi ma ero più imbarazzato che divertito intuizione delle donne eh disse in tono scherzoso ma tu ne hai davvero troppa mia cara Grace tu intuisci cose assolutamente inesistenti ciò non toglie che tu ci disprezzi ma no perché lo dovrei esattamente perché dovresti perché ripetei per quale ragione continuò Grace parlando in fretta e in confronto a che cosa trovi così spregevole ciò che facciamo te lo dirò io per amore di qualcosa di impossibile e di disumano e in confronto a qualcosa che non esiste è stupido quando c'è la vita reale con tutti i suoi piaceri ancora quella parola la parola di Rodney mi pareva che lei avesse un tono speciale quasi untuoso nel pronunciarla così bella così ricca e sbagliata ma tu arricci il naso e trovi tutto stupido e vuoto non è vero insiste no risposi avrai potuto dirle che la vita non significa necessariamente feste con whisky e vini bianchi poveneggiamenti sociali fornicazioni e chiacchiere avrai potuto dirglielo ma per quanto mi fossi studiato di generalizzare era ovvio che le mie osservazioni sarebbero state interpretate e giustamente a dire il vero come una serie di sprezzanti giudizi personali e non volevo litigare con Grezzo offenderle inoltre dopo tutto intervenivo anch'io alle feste di Rodney ero un complice le pagliacciate mi divertivano e mi sarebbe stato difficile rinunciarvi le mie obiezioni erano puramente teoriche io stesso facevo quello che criticavo non avevo alcun diritto di prendere degli atteggiamenti pontificali e di condannare no certo che non è vero ripetei Grace sospirò naturalmente non posso aspettarmi che tu lo ammetta disse ma mio caro aggiunse con una gaiezza forzata è poco naturale non mi importa ad essere disprezzata quando si è ricchi ci si può permettere il lusso di essere disapprovati ed io sono ricca sai felicità piaceri ho tutto e poi continuò con una certa provocatoria ferocia nella voce e poi sono una donna che cosa me ne importa dei vostri ridicoli preconcetti mascolini io faccio quello che mi piace quello che mi diverte la citazione da Rodney suonava un pochino falsa pensai ci fu un silenzio mi domandavo che cosa John Padley pensasse di tutto questo e se nessun sospetto di quanto stava accadendo fosse ancora penetrato attraverso la dura scorsa della sua insensibilità e come se rispondesse a quella mia domanda inespressa Grace riprese con nuova serietà e parallela a questa c'è l'altra mia vita nulla è cambiato io voglio bene a John come prima e anche ai bambini naturalmente ti fu un altro lungo silenzio improvvisamente non so bene perché mi sentii profondamente triste ascoltando quella donna parlare del suo amante anch'io desiderai d'essere innamorato perfino i piaceri splendevano davanti alla mia fantasia con uno scintillio nuovo e tentatore la mia vita mi sembra vuota mi sorpresi a ripetere mentalmente la romanza della contessa nel figaro dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacer che realmente l'avventura di Grace non avesse toccato l'altra sua vita ebbe occasione di accertarmene personalmente poco tempo dopo quando andai a passare il fine di settimana dai pedli nel Kent c'era John in gran forma come egli stesso disse e c'erano Grace e i bambini e i genitori di Grace niente avrebbe potuto essere più casalingo niente di meno simile alle riunioni girodini e di meno moderno a dire la verità sarei giustificato se scrivessi quest'ultima parola senza le virgolette poiché c'era qualcosa di straordinariamente remoto e non contemporaneo in tutta la casa i bambini erano geologicamente remoti nella loro essenza infantile appena un po' al di sopra dello stadio del pitecantropo e pedli era come una stella separato dal mondo dall'incolmabile abisso del suo egoismo e della sua non curanza gli argomenti dei suoi discorsi potevano essere contemporanei ma spiritualmente egli era senza tempo un abitante di uno spazio vuoto e lontano quanto ai genitori di Grace erano distanti da noi di una sola generazione ed erano lontani abbastanza avevano sul socialismo sulla morale sessuale sui gentili uomini e su ciò che le persone per bene debbono o non debbono fare delle opinioni fisse inalterabili cristallizzate dall'abitudine che ormai quasi istintive che rendono loro impossibile di capire o di perdonare il mondo contemporaneo questo era vero specialmente per la madre di Grace era una grossa signora sui 55 anni ancora bella con la voce chiara e sonante di chi è stato abituato per tutta la vita a comandare si indaffarava a fare delle opere buone e a tenere i poveri al loro posto diversamente dal marito che aveva qualcosa della lontananza stellare di peduli sapeva molto bene che cos'era il mondo contemporaneo e in conseguenza le sue accuse erano frequenti e precise il padre di Grace che aveva ereditato del denaro riempiva il suo ozio coltivando senza profitto una piccola proprietà prendendo parte ad alcuni comitati e leggendo libri in lingua persiana una conquista intellettuale della quale nel suo modo tranquillo era molto orgoglioso era una mania stranamente disinteressata non era mai stato in persia e non aveva la minima intenzione di andarci mai non si interessava affatto di letteratura o di storia persiana ed era altrettanto contento di leggere un libro di cucina persiano come di leggere le opere di Afiz o di Rumi quel che gli piaceva era la lingua in se stessa si divertiva a decifrare quei caratteri così poco familiari e a cercare le parole nel dizionario per lui il persiano era una specie di puzzle complicato e interminabile lo studiavo soltanto per ammazzare il tempo e per non essere costretto a pensare era un uomo svanito e strano il signor Confrey e aveva un modo così irritante di guardarvi al di sopra degli occhiali con un'espressione perplessa come se non avesse capito che cosa volevate dire e a dir la verità non capiva quasi mai perché il signor Confrey aveva una mente molto tarda e compensava la sua conoscenza del persiano con la più straordinaria ignoranza di quasi tutti gli altri argomenti che ci siano sotto il sole ripetete per piacere soleva dire quando la sua incomprensione era troppo completa come mi sembrarono strani e fantastici quei giorni passati in casa Padley mi pareva di essere stato improvvisamente portato fuori dal mondo contemporaneo e immerso in una specie di limbo l'ultimo argomento favorito di John Padley era la teoria di Einstein è così semplice si assicurò la prima sera a tavola tra la minestra e il pesce io non pretendo di essere un matematico o niente di simile ma la comprendo perfettamente si vuole soltanto un po' di buonsenso e per la seguente mezz'ora il buonsenso continuò a rimbombare come si uscisse dalla bocca di un trombone ripeti per piacere gli diceva ogni due frasi e John Padley era anche troppo contento di ripetere all'altro capo della tavola Grace e sua madre parlavano dei bambini dei loro vestiti caratteri educazione malattie io bramavo prender parte a quella conversazione ma quegli argomenti domestici non erano per me io ero un uomo mi aspettavano John Padley e l'intelletto con riluttanza mi volsi di nuovo verso il mio ospite quello che vorrei mi spiegassi diceva il padre di Grace è precisamente come il tempo può essere ad angolo retto con la lunghezza la lunghezza e la profondità dov'è che entra esattamente con due forchette e un coltello indicava le tre dimensioni dove trovi il posto per un altro angolo retto e John Padley si mise a spiegare era terribile intanto dall'altro mio orecchio la madre di Grace aveva cominciato a parlare degli indesiderabili vicini che avevano preso la casa attigua da loro a un uomo e una donna che vivevano insieme senza essere sposati e il giardino dietro la casa era di proprietà comune di tutti gli inquilini che situazione allora lasciai Padley e il signor Comfrey a cercare il posto per il quarto angolo retto e mi volsi definitivamente verso le signore la madre di Grace ricominciò dal principio l'orribile storia a mio beneficio io le espressi doverosamente il mio rincrescimento a un certo momento per un istante i miei occhi incontrarono quelli di Grace e la mi sorrise e alzò quasi impercettibilmente le sopracciglia quella piccola smorfia era molto significativa nei primi mesi della nostra amicizia l'avevo vista spesso in compagnia del padre e della madre e il suo contegno in quelle occasioni mi aveva sempre impressionato non avevo mai conosciuto una giovane della generazione che era maturata durante la guerra che si trovasse così perfettamente a suo agio con della gente più vecchia così a posto nella loro atmosfera morale e mentale accettava il padre e la madre quali erano considerava le loro idee sulla vita come le idee ovvie e naturali di ogni essere sano di mente e di spirito per quanto avevo potuto osservare Grace non aveva mai sentito quell'imbarazzo che nei nostri giorni forse più che in ogni altro periodo affligge i giovani quando sono in presenza dei loro parenti anziani adesso questo sorriso di apologetica e lievemente sprezzante indulgenza quell'alzare di sopracciglia erano sintomatici di un mutamento Grace era divenuta contemporanea anzi fra virgolette moderna esteriormente però il cambiamento non appariva i due mondi erano paralleli non si incontravano non si incontrarono neppure quando Rodney venne a pranzare en famille nemmeno quando John accompagnò sua moglie a uno dei trattenimenti meno aggressivamente artistici e questa parola tra virgolette ha quasi lo stesso significato di moderno nello studio di Rodney o forse sarebbe più giusto dire che il mondo di Rodney incontrò quello di John ma che quello di John non incontrò quello di Rodney solo se Rodney fosse stato uno Zulu e i suoi amici dei cinesi John si sarebbe accorto che erano completamente diversi dalla gente che era abituato a frequentare le semplici differenze spirituale che li distinguevano erano troppo piccole perché egli potesse notarle Padley si muoveva nella vita circondato dalla propria atmosfera soltanto le luci molto vivide potevano penetrare in quell'atmosfera opaca intensamente rifrangente per John Rodney e i suoi amici erano delle persone come tutte le altre persone alle quali si poteva parlare del sistema bancario svizzero del razionamento dello zucchero e della teoria di Einstein talvolta è vero gli sembravano piuttosto frivoli i loro modi talvolta gli sembravano eccessivamente bruschi e John aveva perfino osservato che talvolta parlavano poco correttamente in presenza delle signore o se si trattava di signore in presenza degli uomini curiosa questa gente giovane mi disse dopo una serata trascorsa nello studio di Rodney curiosa scosse la testa non credo di comprenderla perfettamente attraverso uno sbarcio nella sua atmosfera aveva intravisto un barlume di un mondo straniero al di là aveva visto qualcosa non rifratta ma quale realmente era ma John era privo di curiosità non curante del suo significato aveva chiuso fuori l'insolita visione non conosco la vostra opinione sull'arte moderna continuò deludendo la mia attesa di altri suoi cambiamenti sulla gente moderna ma quello che io ho sempre detto è questo e lo disse copiosamente l'arte moderna divenne un altro disco del suo repertorio e questo fu il risultato totale del suo incontro con Rodney e degli amici di Rodney nei mesi successivi vidi pochissimo Grace Rodney avevo conosciuto Catherine ed ero troppo occupato a innamorarmene per poter pensare ad altro ti sposammo verso la fine del 1921 e gradatamente la mia vita ridivenne normale fin dal primo momento Catherine e Grace divennero amiche Grace ammirava Catherine per il suo autocontrollo per la sua tranquilla energia per la sua lealtà l'ammirava e le voleva bene l'affetto di Catherine per Grace era protettivo la sorella maggiore e nello stesso tempo ella trovava Grace leggermente comica gli affetti non sono sminuiti se si temperano con un po' di riso benevolo anzi affronterai quasi il rischio di generalizzare e direi che ogni vero affetto è temperato dal sorriso perché l'affetto implica intimità e non si può essere intimi con un altro essere umano senza scoprire nel suo carattere qualcosa di cui si debba sorridere quasi tutti i caratteri veramente virtuosi nella letteratura sono anche leggermente ridicoli forse perché chi li ha creati voleva loro molto bene Catherine vedeva la comicità di Grace una comicità piuttosto patetica ma Grace non le piaceva di meno per questo forse le piaceva perfino di più perché quel suo modo aveva una pueridità che muoveva il sorriso al tempo del mio matrimonio Grace recitava la parte dell'eterno femminino più appassionatamente che mai aveva cominciato a vestirsi con molta eleganza in maniera piuttosto eccentrica e generalmente era poco puntuale non troppo per natura era troppo cortese ben educata ma quel tanto da permetterle di dire che era terribilmente in ritardo ma che non riusciva ad essere puntuale era nella sua natura nella sua natura di donna rimproverava a Catherine di vestirsi in maniera troppo ragionevole dovresti vestirti in modo più gaio insisteva più capriccioso e fantastico ti farebbe sentire in modo più fantastico tu pensi troppo mascolinamente e per incoraggiarla a pensare femminilmente regalò sei paio di guanti di camoscio bianco con manopole di cuoio colorato tutte frangiate e dentellate ma forse la cosa più femminile e fantastica di quei guanti era il fatto da essere di diversi numeri più piccoli della mano di Catherine in quegli ultimi tempi Grace era diventata molto più loquace e lo stile della sua conversazione era cambiato come i suoi vestiti era più fantastico che per il passato il principio che seguiva per la sua conversazione era semplice diceva qualsiasi cosa le passava per la testa e in quella sua testa confusa e irresponsabile ne passavano di cose stramparate una fantasmagoria di immagini cangianti ad ogni nuova impressione e ad ogni nuova associazione di idee prodotta dalle parole del suo interlocutore danzava perpetuamente sul campo della sua visione mentale metteva in parole tutto ciò che ricapitava di vedere ad un dato momento per esempio mi accadeva di nominare il musicista Palestrina e Grace diceva sì sì Palestrina che meraviglioso compositore poi siccome Palestrina le faceva venire in mente l'Italia aggiungeva senza riprender fiato e il modo in cui particolarmente bevono i maccheroni come quei fumetti che escono dalla bocca delle caricature sai a volte sapevo scavalcavo l'enorme lissi descritta dal suo pensiero e riuscivo ad afferrare l'associazione delle idee altre volte quando l'associazione era troppo esclusivamente personale rimanevo all'oscuro la nuova tecnica era piuttosto sconcertante ma in un certo senso era sempre divertente sorprendevano tanto che uno finiva per trovarle argute da bambina Grace era sempre stata rimproverata quando parlava così a Vanver in quel modo fantastico parla sennatamente le diceva severa l'istitutrice quando per esempio durante la lezione di geografia Grace affermava che l'America del sud non le piaceva perché sembrava una coscia di montone l'essa non essere sciocca Grace aveva imparato a vergognarsi della sua fantasia caloppante cercava di parlare assennatamente come le aveva insegnato l'istitutrice ma trovando la cosa molto difficile ricadeva nel silenzio Padley era ancora più assennato delle stesse istitutrici e nel loro medesimo stile orribilmente assennato era incapace di capire che cosa fosse la fantasia se Grace gli avesse mai detto perché non le piaceva l'America del sud Padley sarebbe rimasto perplesso le avrebbe chiesto di spiegarsi meglio e venendo a sapere che era la rassomiglianza con la coscia di montone che dava fastidio a Grace egli avrebbe parlato delle vere dimensioni dell'America del sud le avrebbe fatto notare che essa si estende dai tropici fin quasi al circolo antartico che ha il fiume più grande e qualcuna delle più alte montagne del mondo che il Brasile produce caffè e l'argentina carne di manzo e che di conseguenza non poteva aver minimamente a che fare con una coscia di montone con Padley le sole risorse di Grace erano le frasi faticosamente assennate oppure un completo silenzio nell'ambiente di Rodney invece Grace aveva scoperto che quella sua mancanza di assennatezza era apprezzata e applaudita entusiasta del fantastico e del femminile Rodney la incoraggiava a parlare a Vanvera così come era portata dalle sue associazioni di idee diffidente da prima Grace si lasciò andare il suo modo di parlare ebbe un immediato successo le sue osservazioni scucite e frammentali erano considerate all'ultima moda in fatto di spirito la gente ripeteva i suoi buon mot un po' sbalordita da ciò che era accaduto Grace si trovò improvvisamente a marciare alla testa del movimento contemporaneo nel diciottesimo secolo quando erano di moda la logica e la scienza le donne si sforzavano di parlare come gli uomini il ventesimo secolo ha capovolta la situazione Rodney fece a Grace l'onore di appropriarsi delle sue frasi più felici il successo rese a Grace la fiducia in se stessa e fiduciosa ti avviò verso trionfi sempre maggiori quella sera era per lei un'esperienza nuova e inebriante viveva in uno stato di cronica ubriachezza spirituale come è stupida la gente a non essere felice soleva dire ogni volta che discutevamo di simili eterni argomenti con Catherine che aveva preso il mio posto di confidente ma un posto molto più intimo di quanto non fosse stato il mio Grace parlava spesso di Rodney e dell'amore non riesco a capire come la gente riesca a rendersi infelice per amore diceva perché non si amano tutti gaiamente e liberamente come facciamo noi l'amore degli altri sembra nero e glumoso come una crema de von Scheil fatta con l'inchiostro il nostro è come lo champagne l'amore dovrebbe essere sempre così champagne non trovi io credo che lo preferirai limpido come l'acqua disse Catherine più tardi mi espresse i suoi dubbi tutto questo champagne e questa gaiezza disse si vede che Rodney è un uomo con un salutare terrore di legami sentimentali questo lo sapevano tutti dissi non ti immaginavi suppongo che fosse innamorato di lei lo speravo rispose Catherine perché non conoscevi Rodney ora lo capisci champagne ecco la formula il problema è Grace Grace lo amava davvero Catherine ed io discutemmo la questione io dicevo di sì quando Rodney se la squaglierà dissi e si spezzerà il cuore Catherine scosse la testa si immagina soltanto di essere innamorata insiste è l'enorme eccitamento di tutta la faccenda che la rende così felice questo è la novità la sensazione di essere importante i suoi successi non è una vera passione per Rodney Grace può credere che sia una passione una passione allo champagne se vuoi ma in realtà non è così non c'è passione c'è solo champagne in origine sono stati la sua noia e il prestigio di Rodney che l'hanno spinta verso di lui e adesso è il suo successo e la soddisfazione che ne ricava che la tengono attaccata a lui gli avvenimenti dovevano dimostrare che Catherine aveva ragione o almeno che aveva più ragione di me prima che io descriva questi avvenimenti devo dire come Kingham rientrò nella mia vita fu io che feci i primi passi per mettere fine a quel nostro ridicolo litigio avrei tentato di farlo prima se Kingham non avesse lasciato l'Europa poco tempo dopo il nostro litigio era partito con l'incarico di scrivere una serie di articoli prima dall'Africa del nord poi dall'estremo oriente ebbe una o due sue notizie da gente che lo aveva visto a Tunisi a Colombo a Canton messi poi i suoi articoli articoli mirabilmente originali man mano che erano pubblicati dal giornale che lo aveva invitato ma non ebbe mai una diretta comunicazione con lui non ero certo prima di tutto che la mia lettera l'avrebbe raggiunto in ogni caso anche se avessimo fatto la pace per lettera che bene ne sarebbe venuto le riconciliazioni attraverso otto mila miglia non sono mai molto affascinanti aspettai finché sentì parlare del suo ritorno e poi gli iscrissi una lunga lettera tre giorni dopo gli sedeva alla nostra tavola così va bene diceva così va molto bene guardava di qua e di là in fretta osservando tutto immobili libri Catherine me con i suoi occhi pronti e vivaci definitivamente sistemato oh non così definitivamente speriamo risposi ridendo e guardando Catherine ti invidio continuò Kingham aver raggiunto qualcosa di stabile qualcosa di solido e di assoluto è meraviglioso l'amore la casa il matrimonio dopo tutto praticamente è la cosa più vicina all'assoluto che si possa conseguire e questo prende un valore anche maggiore quando si è andati in giro per il mondo come ho fatto io il mondo ti dimostra che non c'è nulla che abbia significato se non in relazione a qualche altra cosa bene male giustizia civiltà crudeltà bellezza credi di sapere che cosa queste parole significhino e magari lo sai da Kensington ma vai in India o in Cina laggiù non sai nulla in principio ti trovi a disagio ma poi la cosa diventa eccitante e cominci a vivere molto più intensamente e variamente ma è precisamente per questa ragione che senti il bisogno di qualcosa di stabile e di definito di qualcosa di assoluto non soltanto nell'immaginazione ma nella vita reale ecco dove entra l'amore e la vita di famiglia per non parlare di Dio e della morte dell'immortalità dell'anima e tutto il resto quando si vive comodi e rannicchiati queste cose sembrano assurde e superflue non si apprezza nemmeno la propria comodità ma moltiplicati viaggiando fai saltar via il fondo di tutte le tue vecchie certezze e i tuoi pregiudizi le tue abitudini sentimentali allora cominci a capire il vero significato della comodità della vita casalinga apprezzi la realtà e l'importanza delle cose stabili e definite parlava con l'antica appassionata serietà i suoi occhi avevano la stessa luminosità febbrile quasi non terrena il viso pallido e liscio quando lo avevo visto l'ultima volta era adesso segnato e bruciato dal sole nell'insieme sembrava più maturo più sano e più forte che in passato sì ti invidio ripetè e allora perché non vi sposate anche voi domandò catherine kingham rise perché no fareste meglio a domandarlo a dick credo che mi conosca abbastanza per rispondere no dicelo tu stesso dissi kingham scosse la testa sarebbe un caso di crudeltà verso gli animali disse enigmaticamente e si mise a parlare d'altro ti invidio ripetè ancora più tardi quando catherine fu andata a letto e fumo rimasti soli ti invidio ma non ti meriti quello che hai non ti sei guadagnato il diritto a un assoluto stabile come me io ho compreso intimamente e personalmente compreso il flusso e l'interdipendenza e la relatività delle cose di conseguenza io conosco e apprezzo il significato e il valore della stabilità ma tu tu sei casalingo come sei morale sei morale casalingo per natura inconsciamente istintivamente senza aver conosciuto il contrasto che dà a queste attitudini il loro significato come una peperaia insomma come un dannato cavolo che cresce solo perché non può farne a meno risi mi piace che tu parli del flusso e della relatività in questo modo dissi quando tu stesso ne sai la fissa immutabile antitesi sempre lo stesso vecchio king diamine ma tu sei la fissità personificata l'assoluto in carne ed ossa come conosco bene per esempio tutte queste vecchie care verità sulla vita casalinga ma questo non impedisce che siano vere insistere ridendo ma nello stesso tempo un po' seccato di quello che avevo detto e inoltre io sono cambiato le mie idee sono del tutto diverse da quelle che erano un uomo sensibile non può andare in giro per il mondo e tornare a casa con la stessa filosofia della vita che aveva alla sua partenza ma può tornare con lo stesso temperamento lo stesso modo di sentire le stesse reazioni istintive kingham si passò le mani fra i capelli e ripete la sua risata di cattivo umore beh suppongo di sì ammise a malincuore le mie osservazioni furono anche troppo giustificate dai fatti bastarono pochi giorni di rinnovata intimità per persuadermi che kingham aveva mantenuto tutto il suo antico amore per le scenate che godeva come sempre di un buon bagno di calde emozioni una mattina piombò da me furibondo per raccontarmi un violento litigio che aveva avuto la sera precedente con un insignificante studente piuttosto alticcio il quale gli aveva detto con considerevole acutezza devo ammetterlo nonostante la sbornia che lui kingham era o insincero o isterico e ciò che è terribile aggiunse quando ebbe finito il suo racconto è che può darsi che abbia ragione forse io sono insincero si mise a passeggiare inquieto per la stanza e tanto in tanto si toglieva la mano di tasca e faceva un gesto o si passava le dita tra i capelli può anche darsi che io sia un po' commediante continuò un declamatore un gigione quell'auto fusticazione gli faceva male ma egli godeva del proprio dolore sento davvero profondamente o inganno me stesso credendo che sia così è forse tutta una menzogna e l'operazione continuava interminabilmente lo studente al ticcio aveva diagnosticato insincerità o isterismo sarebbe stato in mio potere dissipare dall'animo di kingham il tormentoso dubbio che egli fosse insincero dimostrandogli che era la seconda delle sue alternative quella più giusta ma dubitavo dell'efficacia di una simile consolazione e d'altra parte non avevo alcun desiderio di litigare con lui tenne la bocca chiusa non avevo fatto conoscere kingham a grace perché sapendo che egli aveva una violenta e radicata antipatia per rodney temevo che nonostante i miei avvertimenti preliminari o anche proprio a causa di essi per il piacere di creare una situazione intollerabilmente spiacevole egli potesse lasciarsi andare in presenza di grace a qualche violenta diatriba contro il suo amante era un rischio che non valeva la pena di correre inoltre credevo che quei due non sarebbero mai andati d'accordo eravamo amici intimi di tutti e due ma li tenevamo per così dire in due diversi compartimenti stagni della nostra intimità un giorno quando tornai a casa per il pranzo catherine mi accolse con una notizia rodney tradisce grace mi disse quella povera figliuola è stata qui oggi a prendere il tè finge che non le importi nulla finge ad essere molto moderna e di prendere la cosa allegramente ma si vede benissimo che era terribilmente sconvolta e chi è la fortunata domandai la signora melilla un passo avanti pensai agli smeraldi e alle enormi perle che aggiungevano lustro alla già abbastanza abbagliante bellezza ebraica della signora melilla se continua così presto sarà fatto baronetto che porco esclamò catherine indignata mi spiace immensamente per quella povera grace ma secondo la tua teoria non era innamorata sul serio di lui non è innamorata disse catherine non sul serio ma crede di esserlo e lo crederà ancora di più naturalmente adesso che lui sta per lasciarla e inoltre questa faccenda le rompe tutte le uova nel paniere si era data anima e corpo a rodney e al rodneismo la sua relazione con rodney dava un senso a tutta la sua esistenza non lo capisci perfettamente mi ricordavo dei giorni in cui grace si era creduta a un'intenditrice di musica e di come io avessi crudelmente uccisa quella piacevole visione di se stessa con quel mio piccolo scherzo sul pianista che suonava rachmaninov adesso veniva ucciso a un sogno molto più importante molto più intimamente accarezzato fece del suo meglio come catherine aveva detto per prendere la cosa in maniera molto moderna pochi giorni dopo la vidi a una delle solite riunioni di rodney fumava una sigaretta dopo l'altra beveva un bicchiere dopo l'altro di vino bianco e parlava più bizzarramente che mai indossava un attillatissimo vestito di stoffa argentata fatto in modo che sembrava quasi nuda affaticati dall'insonnia gli occhi erano cerchiati di blu e visti in contrasto con le labbra e le guance di un rosso non naturale quei cerchi scuri sembravano dipinti apposta per far risaltare lo splendore degli occhi per far pensare a voluttuose fatiche e ad amorose voglie aveva un gran successo e i suoi ammiratori non erano mai stati così numerosi lei flottava sfrontatamente con tutti perfino quando parlava con me sembrava ritenesse necessario lanciarmi languide occhiate oblique e appoggiarsi a me come se volesse offrirsi tutta ai miei desideri ma osservandola io vedevo sotto il trucco soltanto la faccia della bambina simpatica ma piuttosto brutta una faccia che mi pareva più patetica del solito Rodney si sedette alla tavola per fare i suoi soliti disegni continui che cosa devo fare domandò disegna dove con tutte le sue amanti gridò grace che cominciava ad essere un po' alticcia europa e leda e semele e danae batteva insieme le mani ad ogni nome e io e lio e lio e scio e pio pio e mio dio lo scarso non era di buon genere ma poiché la maggior parte degli ospiti di Rodney aveva bevuto un bel po' di vino e tutti erano più o meno inebriati dall'atmosfera allegra ci fu una risata generale anche grace si mise a ridere quasi istericamente e ci volle un po' di tempo prima che potesse riprendere il controllo Rodney che non si era preparato ad improvvisare il disegno delle amanti di Giove trovò una scusa per non accettare il suggerimento finì col disegnare la signora Eddie inseguita da un satiro abbandonata da Rodney grace cercò di far credere che era stata lei ad abbandonarlo una parte di donna capricciosa e volubile e sembrava più in armonia con la concezione rodneyana dell'eterno femminino e nello stesso tempo meno umiliante di quella di vittima continuava a flertare ostentatamente indiscriminatamente in quei primi giorni di disperazione credo che avrebbe accettato qualunque uomo che fosse stato appena presentabile masterman per esempio o gain il giornalista o le vischi era uno di quei tre pensai a giudicare da quello che avevo visto alla festa che sarebbe succeduto a rodini e anche molto presto il giorno dopo la festa grace fece un'altra visita a catherine portandole in regalo un piccolo piumino da cipria in ricambio chiedeva sebbene non apertamente conforto consiglio e soprattutto approvazione in un momento di crisi grace poteva essere precipitosa impulsiva ma quando aveva il tempo di riflettere quando si trattava di tracciarsi una linea di condotta era timorosa non le piaceva agire da sola e prendersi tutte le responsabilità desiderava sapere se la nuova parte in cui si vedeva era approvata da qualche giudice degno di fiducia il piumino da cipria era un dono propiziatorio e nello stesso tempo un argomento un argomento in favore dell'eterno femminino con tutto ciò che questo comporta un dono per il giudice un appello al suo affetto perché potesse approvare i sentimenti di grace e la sua condotta grace spiegò il suo caso lo sbaglio che fa la gente disse è di attaccarsi a una cosa come quell'uomo che gioca con la carta moschicida nei caffè concerto io mi rifiuto di attaccarmi questo è il mio principio penso che si debba lasciare da parte il cuore e pensare soltanto a divertirsi ecco tutto e non preoccuparsi d'altro ma tu credi che ci si possa divertire davvero se non ci si preoccupa e si lascia da parte il cuore domandò Catherine divertirsi davvero voglio dire essere felici se mi permetti di usare una parola fuori di moda si può essere felici pensava Lewinsky a Gain a Masterman Grace non rispose subito forse anche lei pensava a loro poi facendo uno sforzo si si disse con una specie di ostinata voluta gaiezza si può certo che si può quel pomeriggio mi trovavo al Queen's Hall uscendo a concerto finito scorsi Kingham tra la folla vieni a prendere una tazza di tè a casa e resta pranzo da noi bene disse salimmo su un autobus e andammo verso casa il sole era appena tramontato sull'orizzonte davanti a noi c'erano delle strisce di nuvole nere e arancione e sopra di esse si stendeva un cielo pallido verde acqua limpido e calmo verso lo zenith andammo avanti per un po' di tempo in silenzio guardando la bella morte di un altro dei nostri giorni questo va tutto molto bene disse a un certo punto Kingham indicando quella serenità con un gesto della sua bella mano espressiva va tutto molto bene senza dubbio per gli stanchi uomini d'affari li conforta direi quasi che li fa sentire piacevolmente pentiti delle canagliate che hanno commesso durante il giorno e via dicendo oh senza dubbio è una cosa che li solleva ma il fatto è che io non sia uno stanco uomo d'affari a me fa venire la nausea via via protestai non mi dette retta non mi piace che mi si faccia ingoiare a forza l'elegia di Grey disse quel che preferirei è il matrimonio del cielo con l'inferno o Zaratustra o i canti del mal d'ador allora tutto ciò che posso consigliarti e lo consiglia in tono mansueto è di metterti all'interno dell'autobus e di non guardare al tramonto asino disse in tono sprezzante a casa trovammo ancora Grace che prendeva il tè con Catherine ne fui seccato ma non c'era nulla da fare presentai Kingham inconsciamente recitavo la parte di Pandero per la seconda volta le fonti di informazione per la storia della seconda avventura amorosa di Grace sono abbastanza numerose per incominciare ebbi occasione di assistere personalmente a certi fatti e inoltre molto appresi dallo stesso Kingham Kingham non era certo un amante discreto era tanto poco capace di tenere il segreto su questo genere di esperienze quanto su tutte le altre doveva parlare ecco tutto il parlare rinnovava e moltiplicava le emozioni che descriveva il parlare creava persino delle emozioni nuove emozioni che non aveva provate mentre accadeva il fatto ma che gli venivano in mente mentre lo raccontava pensando che avrebbe dovuto provarle non aveva alcuno scrupolo di attribuire anacronisticamente questi Santi Mount Scalier a una sua passata esperienza falsificando la storia per amore del futuro dramma ai suoi ricordi di una scenata con Grace aggiungeva complicazioni emotive per rendere più vivace la prossima scenata era nel calore del discorso che gli venivano in mente le migliori modificazioni della verità il racconto genuino o almeno quello che era nel complesso più genuino mi veniva dalla stessa Grace attraverso Catherine era infatti a Catherine che Grace ricorreva nei momenti di crisi e quella relazione fu quasi ininterrottamente tutta una crisi per ricevere conforto e consiglio la cosa cominciò con un equivoco appena Kingam entrò nel salotto Grace che fino a quel momento aveva parlato con Catherine con la massima semplicità e naturalezza assunse il più moderno dei suoi atteggiamenti e cominciò con una specie di furia disperata a richiamare l'attenzione a provocare il desiderio del nuovo venuto conosceva Kingam di nome naturalmente e sapeva tutto di lui nella cerchia di Rodney si ammetteva sebbene con riluttanza che Kingam aveva del talento ma si deplorava che fosse che fosse un barbaro è una di quelle persone noiose sentì dire da Rodney che parlano sempre della propria anima e anche dell'anima altrui il che è quasi peggio tipo esercito della salvezza non mi stupirebbe vederlo qualche domenica in Hyde Park mentre dice alla gente che cosa deve fare per essere salvata vedendolo Grace senza dubbio sentì che sarebbe stato divertente mettere al guinzaglio quel curioso animale selvatico a maestrarlo e far rifare i giochetti non le passò nemmeno per la mente che i giochetti avrebbe potuto essere lei a farli Kingam era una preda degna di qualsiasi cacciatrice ma credo che Grace avrebbe filtrato altrettanto sfrontatamente con chiunque le fosse capitato quel suo atteggiamento provocante un atteggiamento che si potrebbe definire di cronica e universale infedeltà era una sua risposta al destino avverso e all'infedele Rodney Grace voleva catturare un nuovo amante magari diversi amanti per provare a Rodney al mondo intero e certo soprattutto a se stessa che lei era una donna moderna che sapeva che sapeva prendere l'amore leggermente allegramente come il più squisito dei divertimenti e che in una parola non gliene importava un fico in un'altra donna tutto quel flirtare promiscuo avrebbe potuto essere di cattivo gusto detestabile perfino ma c'era in Grace una fondamentale innocenza che rendeva assolutamente innocua quella che avrebbe potuto essere di regola la più riprovevole delle azioni i moralisti dei libri di testo l'avrebbero chiamata una donna cattiva quando in realtà era semplicemente patetica e anche un pochino comica i libri di morale assegnano ad ogni azione un preciso posto nella gerarchia morale e i moralisti giudicano gli uomini esclusivamente dalle loro azioni è un metodo rosso e non scientifico perché in realtà vi sono certi caratteri che hanno il potere di sterilizzare un'azione sporca e altri che infettano e incancreniscono anche quelle azioni che secondo il libro dovrebbero essere considerate pulite i giudici più inflessibili sono quelli che profondamente ipnotizzati dal fascino delle parole nel libro sono diventati del tutto insensibili alla realtà pensano soltanto alle parole purezza vizio depravazione dovere l'esistenza degli uomini e delle donne sfugge alla loro attenzione graes come ho detto possedeva un'innocenza che rendeva assurda e senza significato tutte le parole che si sarebbero potute usare per descrivere le sue azioni per chiunque non fosse un teorico della morale è ovvio che le sue azioni importavano poco la sua innocenza rimaneva intatta era quella stessa innocenza che le permetteva di esprimere con perfetta indifferenza e un'assoluta mancanza di audace affettazione quegli scabrosi sentimenti che erano quasi di rigore nelle conversazioni degli amici di Rodini e a parlarne con una certa crudezza scientifica in una lingua straniera si dicono certe cose che non si potrebbero esprimere nel proprio idioma senza sentirsi orgibilmente imbarazzati per Grace tutte quelle parole per quanto genuinamente inglesi tutti quegli argomenti per quanto intimamente connessi dal pettegolezzo con i nomi di uomini e di donne ben conosciuti erano come stranieri e remoti anche il linguaggio universale della civetteria era per lei straniero compiva le sue provocazioni e le sue insinuazioni con una franchezza che sarebbe stata sfrontata se avesse realmente saputo che cosa significavano Kingham entrò nella stanza Grace puntò immediatamente verso di lui le sue batterie di sguardi e di sorrisi un bombardamento di provocazioni la conoscevo così bene che a miei occhi quella commedia pareva semplicemente assurda quei sorrisi quegli sguardi dati di traverso e acili abbassate quella sua punzecchiante ironia con la quale irritava Kingham per richiamare la sua attenzione tutto ciò mi colpiva come non caratteristico in lei e quindi ridicolo e soprattutto non convincente sì non convincente non potevo credere che qualcuno non riuscisse a vedere Grace qual era veramente era mai possibile che Kingham non capisse come capivo io che Grace nello spirito come nel viso non era altro che una simpatica ragazzina che fingeva senza molto successo specialmente in quella parte di essere diventata grande mi pareva incredibile ma Kingham c'era accaduto egli l'accettò per quello che in quel particolare momento voleva essere un edonista alla ricerca di piacere divertimento eccitamento potere alla pericolosa sirena che a lui parve che fosse Kingham reagì con un'emozione mista di iroso disprezzo e di curiosità amorosa per principio Kingham disapprovava le donne fatali di professione le sirene e i vampiri tutte le donne insomma che fanno dell'amore e della seduzione degli uomini lo scopo principale della loro vita gli pareva oltraggioso che uomini utili e con del rispetto per se stessi potessero trovarsi improvvisamente alla merce di questi esseri pericolosi e irresponsabili ciò che forse aumentava la sua indignazione morale era il fatto che egli stesso cadeva costantemente vittima di simili creature la gioventù la vitalità la forte personalità il vizio aperto e sfrenato avevano per lui attrattive irresistibili e talvolta era attratto dalle più volgari portatrici di simili caratteristiche egli sentiva che era un'indegnità un'umiliazione eppure chissà che per Kingham quel senso di umiliazione non fosse un'attrattiva di più ma era non di meno infallibilmente attratto resisteva è vero ma mai con sufficiente fermezza questo dopo tutto gli avrebbe sciupato il divertimento resisteva soccombeva e veniva fatto schiavo bisogna però ammettere che il suo amore per abietto che potesse essere nel momento della sua resa era generalmente di per se stesso una vendetta Kingham poteva soffrire ma nella maggior parte dei casi infliggeva a chi lo faceva soffrire altrettanta sofferenza e mentre egli almeno con una parte del suo spirito in un certo senso godeva della sua pena le sue tormentatrici a loro volta tormentate erano generalmente giovani donne normali che non avevano la minima tendenza a soffrire così era lui che aveva la meglio tuttavia si considerava sempre la vittima ed era perciò in uno stato cronico di indignazione morale quel primo incontro convince Kingham che Grace era il genere di donna che lei voleva fargli credere di essere un vampiro come molte persone di carattere debole e mancanti di fiducia in se stesse Grace era spesso straordinariamente audace di solito passiva e rendevole talvolta si abbandonava furiosamente alle azioni più straordinarie non perché avesse preso una decisione ma perché appunto non sapeva che cosa fosse la decisione perché mancava del senso della responsabilità ed era incapace di comprendere l'ansura irrevocabile di un certo atto si immaginava di poter fare le cose irresponsabilmente senza compromettersi e quindi si imbarcava in una serie di azioni che esteriorizzate e divenute parte della gran macchina del mondo la trascinavano a volte riluttante a volte acquiescente ma sempre ingenuamente sorpresa nelle situazioni più sballorditivamente inattese era questa irresponsabile impulsività di un carattere incapace di prendere delle decisioni deliberate che unita alla sua fatale capacità di vedere se stessa in qualsiasi rol le sembrasse in quel momento attraente l'aveva fatta diventare ora un agente elettorale socialista nelle elezioni municipali ora un occasionale fumatrice doppio in quella sordida e pericolosa caverna presso i docks che Tim Masterman aveva l'abitudine di frequentare ora un amazzone sebbene ella avesse il terrore dei cavalli ora con sua infinita angustia ma avendo spensieratamente insistito di non sapere che cosa fosse la modestia non poté tirarsi indietro la modella per uno dei nudi di Levitsky e se ora si profferiva a Kingham così come poche sere prima si era profferta a Masterman a Gain e a Levitsky lo faceva irresponsabilmente senza considerare quale avrebbe potuto essere il risultato della sua azione senza neppure rendersi conto che ci sarebbe stato qualche risultato è vero grazie si vedeva come una donna moderna e l'abbandono di Rodney l'aveva resa ansiosa unicamente per salvarsi la faccia di procacciarsi un nuovo amante al più presto e tuttavia sarebbe ingiusto dire che aveva stabilito di adoperare le armi della civetteria per conseguire ciò che voleva non aveva deciso nulla perché la decisione è deliberata e frutto del calcolo si abbandonava all'azione esattamente come parlava a casaccio senza riflettere a che cosa quegli atti e quelle parole la impegnassero ma mentre le incoerenze logiche importano molto poco e le false posizioni intellettuali possono essere facilmente abbandonate gli effetti dell'azione o delle parole che portano all'azione non sono così trascurabili perché l'azione compromette ciò che è molto più importante dell'intelletto il corpo trarre il proprio corpo fuori da una falsa posizione è una faccenda difficile spesso dolorosa l'indecisa che con troppa facilità e leggerezza giungeva all'azione aveva spesso constatata questa verità a proprie spese ma questo non le impedì di ripetere lo stesso errore l'esperienza non è mai sufficiente per questo Kingham come ho detto la credette ciò che con tanta leggerezza voleva che egli la credesse fu appunto provocato da quello che voleva essere una provocazione a questa specie di stimolo amoroso Kingham era straordinariamente suscettibile tanto a dir la verità che il suo interesse per Grace non era un grande tributo alle qualità di lei bastava che una donna dimostrasse un certo vivace e vampiresco interesse per lui quasi sempre Kingham soccombeva all'attacco quella prima impressione di Grace quale donna vampiro moderna pericolosa e provocante persistette nella mente di Kingham e nessuna evidenza del contrario potei cancellarla durante quel loro primo incontro aveva preso verso di lei un certo atteggiamento emotivo e una volta presolo non volle mai cambiarlo per quanto palpabili fossero le prove che si era sbagliato non saprei dire se non fosse più capace di usare la sua intelligenza e di riconoscere i fatti che avrebbero scosso le sue prevenzioni o se chiudesse deliberatamente gli occhi davanti a quello che non voleva vedere una potente emozione aveva il doppio effetto suppongo di renderlo nello stesso tempo stupido e ingegnosamente perverso credo che ci sia qualcosa di veramente diabolico nelle donne di questa generazione mi disse due o tre giorni dopo nel suo solito modo intenso ed enfatico qualcosa di diabolico ripete di veramente diabolico era sua abitudine sia nel parlare che nello scrivere di prendere una parola e se il suo suono gli piaceva di usarla fino alla stanchezza io risi via protestai ti sembra che Catherine per esempio sia proprio così diabolica Catherine non è di questa generazione rispose spiritualmente non vi appartiene risi di nuovo era sempre difficile discutere con Kingham quando si credeva di averlo messo con le spalle al muro e si alzava la mazza della logica per schiacciarlo e gli sfuggiva il colpo per qualche botola nascosta che aveva scoperto e usciva completamente dalla discussione era impossibile dimostrargli che aveva torto per la semplice ragione che non rimaneva mai abbastanza a lungo in una qualsiasi posizione intellettuale per provargli una cosa qualunque io non pensavo a Catherine continuò dopo un breve silenzio pensavo a quella signora Padley Grace domandai piuttosto stupito Grace diabolica Kingham a lui diabolica ripete con convenzione quella parola mi accorse aveva acquistato per lui un significato straordinario era il centro attorno al quale in quel momento si cristallizzavano tutti i suoi pensieri e i suoi sentimenti tutto il suo universo si disponeva attorno alla parola diabolica attorno all'idea della diabolicità in genere e di quella di Grace in particolare di tutte le persone che ho conosciute protestai Grace mi sembra la meno diabolica di tutte tu non la conosci replicò sono anni che la conosco non la conosci bene insiste Kingham si vede che tu non le hai mai ispirato una delle sue diaboliche concupiscenze io pensai a Grace e non potei fare a meno di sorridere quel sorriso esasperò Kingham sogghigna pure disse immaginati di essere onnisciente se questo ti fa piacere tutto quello che dico è questo lei non ha mai cercato di prenderti nella sua rete suppongo che tu intenda dire che l'altra sera faceva la civetta con te dissi Kingham annui era diabolica disse a bassa voce come se parlasse a se stesso più che a me diabolica concupiscenza ma ti assicuro continuai che la faccenda dell'altra sera non era che una sciocchezza Grace è infantile non diabolica vede ancora se stessa è in termini rodneiani ecco tutto ed ora che lui l'ha lasciata vuol far vedere che non gliene importa nulla anzi forse ci vuol far credere che è stata lei a lasciarlo ecco perché vuole procacciarsi in fretta un altro amante per salvare il suo prestigio ma quanto all'essere diabolica via l'idea è semplicemente assurda Grace non è abbastanza definita per essere un diavolo è soltanto quello che le circostanze la sua immaginazione e la gente l'hanno fatta essere una bambina tutto sommato tu puoi credere di conoscerla persiste ostinatamente Kingham ma non la conosci e come potresti se non ti ha mai dato la caccia sciocchezze sclamai con impazienza ti dico che è diabolica insisti e allora perché diamine ti sei tanto affrettato ad accettare il suo invito a colazione ci sono cose alle quali non si può sfuggire rispose in tono di oracolo basta ci rinuncio dissi alzando le spalle quell'uomo mi esasperava la miglior cosa che tu possa fare aggiunsi è di andare dal tuo diavolo ed essere dannato al più presto possibile è proprio quello che sto per fare disse come se gli avesse ricordato un appuntamento Kingham guardò l'orologio e per dio aggiunse con un diverso tono di voce dovrò prendere un tassi se voglio arrivare in tempo Kingham sembrava piuttosto turbato detestava separarsi dal denaro se non era strettamente necessario adesso stava abbastanza bene economicamente ma gli erano rimaste le antiche abitudini di prudenza quasi di avarizia penosamente acquistate nei giorni della sua adolescenza e del suo noviziato letterario aveva pregato Grace di pranzare con lui a Soho e questo gli era già costato uno sforzo adesso era costretto anche a prendere un tassi per arrivare in tempo a pagare per il pranzo quel pensiero lo faceva soffrire e soffriva una meschina inconfessabile pena per la quale non poteva sperare nessuna simpatia e che a lui stesso pareva indegna gli faceva considerare la causa prima di tutto questo Grace più diabolica che mai vi sono cose alle quali non si può sfuggire ripetei a ciliato mentre si metteva il cappello per andarsene sulla sua faccia c'era un'espressione di ferocia non si può sfuggire mi volse le spalle e mi lasciò povera Grace pensavo mentre richiusa la porta d'entrata ritornavo nel mio studio neanche lei poteva sfuggire conoscevo Kingham tutte le mie simpatie erano per Grace avevo ben ragione di simpatizzare con lei come i fatti dimostrarono perché se vi fu mai qualcuno che ebbe bisogno di simpatia e di amicizia fu proprio la povera Grace durante quei deplorevoli mesi del 1922 Grace si innamorò di Kingham si innamorò sebbene fosse la terza volta che si dava per la prima volta per la primissima volta in vita sua dolorosamente disperatamente pazzamente la prima si era proposta solo di ripetere con lui l'avventura che aveva avuto con Rodney si immaginava delle carezze deliziosamente perverse con champagne e sandwich e qualche conversazione leggera e tenera negli intervalli e squisite letterine stile XVIII secolo e di winning party e divertenti scappate con Rodney era stato così e Rodney bisogna riconoscerlo in questo genere d'amore aveva uno stile perfetto era incantevole Grace credette che col suo successore sarebbe stata la stessa cosa e infatti lo sarebbe stata più o meno se quel successore si fosse chiamato Levitsky o Messerman o Gain ma il suo successore fu Kingham la scelta fu fatale ma il peggio avrebbe potuto essere evitato se Grace non si fosse veramente innamorata di lui non amandolo avrebbe potuto semplicemente lasciarlo quando lui divenne insopportabile lo amò invece e questo la mise completamente in sua balia Kingham aveva detto che quella era una di quelle cose alle quali non si poteva sfuggire e se per lui era così lo doveva quel suo perverso bisogno di darsi periodicamente a forti emozioni al bisogno di umiliare e di essere umiliato di soffrire e di far soffrire quel che aveva sempre amato era la passione in se stessa non le donne che ne erano la causa o il pretesto quelle periodiche orge di passione le erano necessarie come una bevuta periodica e necessarie al dipsomene poi appena quel suo bisogno era soddisfatto egli si sentiva completamente libero di distaccarsi dalla donna che gli era stata cara soltanto perché aveva agito da stimolo alle sue emozioni e non per se stessa kingham poteva soddisfare la sua brama il suo era un appetito che poteva essere calmato mangiando ma il desiderio di grace era uno di quei desideri disperati senza speranza che possono essere soddisfatti solo da una specie di miracolo ciò che lei desiderava era niente meno che unirsi interamente con un altro essere di conoscerlo finché egli non avesse più segreti soltanto il miracoloso incontrarsi di due uguali amori di due temperamenti ugualmente affettivi può portare al compimento di questo desiderio qui un simile incontro non era avvenuto kingham aveva l'abitudine di dire a tutte le sue conoscenze prima o poi quello che pensava di loro e non ne pensava mai bene chiamava questo procedimento chiarire l'atmosfera ma a dire la verità non chiariva mai nulla oscurava intorbidava faceva scoppiare fulmini in cieli sereni kingham poteva anche non ammetterlo tuttavia questo era esattamente quello che voleva i cieli sereni lo annoiavano le tempeste lo divertivano ma sempre quando era riuscito a provocarne una esprimeva un genuino stupore per la generale incapacità del mondo a tollerare la franchezza per quanto sincera per quanto manifestamente intesa per il suo proprio bene feriti dalle sue parole brutalmente chiare i suoi vecchi amici erano da lui rimproverati per essere rimasti feriti pochi degli amori o delle amicizie di kingham avevano potuto sopravvivere agli effetti della sua franchezza la sua relazione con grace fu una di queste eccezioni fin dal principio kingham aveva creduto necessario chiarire l'atmosfera anzi fin dal loro primo incontro in casa nostra egli fu piuttosto villano in seguito divenne una specie di timone d'atene la frivolezza di lei la sua voluttuaria filosofia della vita la sua mancanza di cuore la sua diabolica concupiscenza queste erano secondo lui le caratteristiche di grace delle quali le disse cosa pensava con tutta la concentrata passione di cui era capace il giorno dopo il suo pranzasò lo incontrai di nuovo al queen's hall le ho detto quello che pensavo di lei mi annunciò e lei che cosa ne pensa di quello che tu pensi domandai kingham corrugò la fronte ne è quasi compiaciuta rispose è questa la forza diabolica di simili donne si gloriano di cose di cui dovrebbero vergognarsi diventano refrattari a tutto ciò che è decente refrattari e quindi spietate e prive di scrupoli che incorreggibile romantico sei lo burlai a sentirsi dire e molto blandamente dopo tutto quello che pensavo di lui kingham si impennò come un cavallo sotto lo sprone la franchezza degli altri lo feriva quanto la sua feriva gli altri forse anche di più la sola differenza era che a lui piaceva essere ferito che stupidaggine cominciò indignato la sua protesta durò tutto l'intervallo e fu soffocata soltanto dalle prime squillanti note dell'ouverture dei maestri cantori imbottigliate dentro un forzato silenzio quali erano le sue emozioni mi divertivo a immaginarle complesse enfatiche instancabilmente elaboranti sin sempre più aggrovigliate complicazioni non facevano forse il contrapunto spirituale alla musica che ascoltavamo quando il tumulto di Wagner fu finito Kingham continuò la sua protesta interrotta sembrava quasi compiaciuta quella secondo Kingham era stata la reazione di Grace alle sue verità riflettendoci sopra ero sicuro che non si era sbagliato Grace si vedeva ancora in termini rodneyani come moderna e diciottesimo secolo curioso come questi termini siano diventati sostituibili l'uno all'altro e come ciò che Rodney pensava fosse eterno femminino certo doveva essersi compiaciuta vedendo che Kingham non solo l'accettava quale credeva di essere ma aggiungeva volontariamente qualcosa di diabolico alla modernità al settecentismo e all'eterna femminilità che lei modestamente troppo modestamente doveva pensare ad esso si attribuiva aveva preso le accuse di Kingham come complimenti sorridendo con genuino piacere quando lui le parlava della sua vampiresca crudeltà quando le rimproverava la sua diabolica concupiscenza per le tremanti anime come per la meno riluttante carne delle sue vittime nell'ambiente di Rodney un temperamento era de rigueur come lo strascico e le piume di struzzo a corte Grace vedeva Grace vedeva se stessa come un prodigio di temperamento ma le piaceva che questo le fosse confermato dagli altri le accuse di Kingham l'avevano convinta che non si era sbagliata a giudicare se stessa più Kingham diventava insolente più lei era contenta e più le piaceva Kingham sentiva che egli la prendeva sul serio per una donna frivola che l'apprezzava secondo i suoi meriti quell'apprezzamento rinforzava la sua fiducia in se stessa e sotto la pioggia dei suoi anatemi lei rappresentava la sua parte con una grazia più sciolta con maggiore perfezione e maggiore stile lo spettacolo di Grace che fioriva sotto i suoi tuoni e i suoi fulmini esasperava Kingham divenne allora ancora più violento ma più grande era la sua violenza più serena e orgogliosa era l'eterna moderna settecentesca femminilità di Grace e intanto quasi senza accorgersene Grace si innamorava di lui e ho visto Kingham nelle sue relazioni con molti uomini e donne ma nessuna di loro egli era riuscito semplicemente indifferente perché o lo detestavano e non ho mai conosciuto un uomo che avesse più nemici e nemici più accaniti di lui oppure lo amavano devo aggiungere però che molti di coloro che lo amavano finivano poi per odiarlo quando analizzo i miei sentimenti verso di lui devo giungere alla conclusione che anch'io ero in un certo modo innamorato di Kingham perché altrimenti avrei dovuto io che lo conoscevo così bene e che sapevo come potesse essere insopportabile come di solito lo fosse perché avrei dovuto sopportarlo nonostante tutto e perché avrei fatto sempre ogni sforzo per far la pace con lui dopo i nostri incessanti bisticci perché non avrei dovuto mandarlo al diavolo per quanto mi riguardava una dozzina di volte o quantomeno accettare con animo lieto il suo allontanarsi dopo il nostro litigio più violento il litigio per quel povero sciocco di Herbert lasciando che la nostra separazione divenisse permanente l'unica spiegazione è che come tutti quelli che non lo odiavano in un certo senso ero innamorato di lui Kingham era in qualche modo importante per me profondamente significativo e necessario in sua presenza sentivo che il mio essere si espandeva c'era improvvisamente per così dire un'altra marea dentro di me lungo gli ali di sabbiosi desolati canali del mio essere la vita fluiva con forza e vivacità e Kingham era la luna che la faceva salire e scorrere attraverso il deserto tutte le persone che ci sono simpatiche esercitano su di noi in misura maggiore o minore questa influenza lunare facendo salire le maree della vita fino a coprire ciò che era inaridito e morto ma ci sono degli individui che con la loro vicinanza fanno salire una marea più alta e su un numero molto maggiore di anime Kingham era uno di questi esseri eccezionali a coloro che lo trovavano simpatico era più simpatico di qualsiasi altra e ovviamente più amabile conoscenza c'era in lui qualcosa di vivido di ardente ti poteva affascinare anche quando diceva o faceva cose che tu disapprovavi persino i suoi nemici ammettevano l'esistenza e il potere di quel suo fascino Catherine che non era precisamente un nemico ma che disapprovava il suo modo di vivere e il suo abito mentale doveva confessare che Kingham ogni volta che lo voleva e si prendeva la pena di farlo poteva mettere a tacere almeno per il momento tutti i suoi pregiudizi e costringerlo a trovarlo simpatico almeno finché erano insieme nella stessa stanza Grace era partita senza preconcetti contro di lui a parte l'opinione ereditata da Rodney che quell'uomo era un selvaggio e i selvaggi dopo tutto sono più attraenti che repulsivi e l'era suggestionabile e facilmente dominata da personalità più forti e definita della sua non c'era da stupirsi che dovesse soccombere a quel fascino cominciando col trovare Kingham simpatico e finendo poi con l'amarlo passò tuttavia un po' di tempo prima che Grace si accorgesse di amarlo nei primi giorni della loro intimità era troppo occupata a rappresentare la sua parte moderna per accorgersi di sentire un'emozione così poco rodneyana l'amore l'amore vero e folle non era in armonia col personaggio che la presentava ci folle una scossa improvvisa per farle capire che cosa sentiva per lui e per farle dimenticare nello stesso momento di essere moderna e femminile nel senso rodneyano della parola e diventare che cosa stavo per dire se stessa ma si può forse dire d'essere se stessi quando si è trasfigurati e dolorosamente deformati dall'amore in amore nessuno è se stesso oppure si potrebbe romanticamente dirlo nell'altro modo nessuno è realmente se stesso finché non ama il che è proprio la stessa cosa la differenza tra grace innamorata e grace non innamorata sembrava ancora più grande perché era la differenza tra un'eterna femminina rodneyana e una donna anzi una donna kingamizzata da chi è anche innamorata grace si vedeva in una parte e si vedeva inevitabilmente così come la foggiava al suo amante il suo rodneismo scomparve e fu sostituito dal kingamismo non si vede più come una giovane aristocratica moderna ma come la primordiale incarnazione passionale passionale era una delle parole anche troppo favolite di kingam dell'ideale femminile del suo nuovo amante si frequentavano già da oltre un mese quando grace scoprì la vera natura dei suoi sentimenti la corte fatta le da kingam era stata incessante le invettive contro la sua diabolicità si erano alternate a ferventi richieste perché diventasse la sua amante grace prendeva le invettive come complimenti e risposte diceva ridendo e a casaccio tutte le sciocchezze che le passavano per la testa quelle sue proteste leggere e poco sensate che rodney avrebbe applaudito come il massimo dello spirito moderno sembravano invece a kingam il massimo del diabolico grace è come nerone mi disse un giorno suona la cetra mentre roma brucia e lui era roma il centro dell'universo roma in fiamme grace dopo avergli dato fuoco stava a guardarlo bruciare e davanti alla sua distruzione diceva un mucchio di sciocchezze quel carapeggio e la non sembrava voler spegnere il suo incendio nonostante la diabolica concupiscenza che kingam le aveva attribuito nelle prime 5 o 6 settimane della loro conoscenza grace si rifiutò di diventare la sua amante aveva catturato kingam questo le bastava per ridarle la fiducia in se stessa e quell'immagine di irresistibile sirena moderna che l'abbandono di rodney aveva fatta temporaneamente svanire cadergli subito tra le brazza sarebbe forse stato molto stile diciottesimo secolo ma un certo innato pudore le impediva di essere perfettamente coerente a kingam quel rifiuto di un'immediata capitolazione sembrò un'altra prova del suo spirito diabolico secondo la sua teoria grace esercitava su se stessa un controllo poco naturale semplicemente allo scopo di tormentarlo un sadico gusto per la crudeltà fu così aggiunto alla lista delle sue accuse con gran piacere dell'accusata fino ad allora gli attacchi di kingam le erano sembrati più divertenti che penosi più lusinghieri che oltreggiosi e la era ancora protetta dall'armatura della sua indifferenza mai comprendere di essere innamorata la spogliò ben presto di quell'armatura e a mano a mano che l'amore cresceva il suo spirito nudo diventava sempre più tremebondo e sensibile agli assalti di kingam la crisi l'evento apocalittico accadde nell'appartamento di kingam era un caldo e umido pomeriggio di prima estate il cielo era scuro quando grace arrivò e c'era in aria un temporale e la indossava come si seppe poi dal racconto che fece a catherine di quell'avvenimento indossava per la prima volta un nuovissimo abito parigino grigio scuro con due toni di rossi uniti audacemente quasi discordanti intorno al collo ai pulsi e in un telo della gonna credo che fosse una creazione di puore ed era molto moderno e di un'eleganza piuttosto eccentrica in una parola in un vestito creato per l'amante di rodney grace che era molto cosciente dei suoi abiti ne aveva sentito l'incoerenza dopo quasi dolorosamente tanto più che quando era entrata era così contenta di quel vestito pensava a come doveva trovarla elegante e originale la gente che la vedeva per la strada e si domandava che effetto avrebbe avuto il vestito su kingham sperava credeva proprio che gli sarebbe piaciuto a modo suo kingham badava molto ai vestiti come rodney certo non aveva l'occhio quasi professionale di rodney per lo stile e il taglio rodney era un grande cuturier mancato il grande sarto era visibile in tutti i suoi dipinti e gli aveva sbagliato mestiere il modo di kingham di guardare i vestiti era del tutto diverso e guardava con l'occhio del moralista non con quello del cuturier per lui gli abiti erano simboli l'espressione visibile di uno stato d'animo così l'eleganza ardita leggermente eccentrica di grace gli sembrava il simbolo del diabolico che era in lei considerava i suoi vestiti come una efflorescenza del suo spirito erano parte di lei e lei ne era direttamente interamente responsabile non gli passava neanche per la testa che disegnatori sarti e consiglieri potessero dividere la responsabilità gli bastò una sola occhiata per giudicare l'abito di grace hai un vestito nuovo le disse in tono d'accusa ti piace domandò grace no disse kingham perché no perché no e gli ripete beh suppongo che sia perché è così significativo perché ti si adatta così diabolicamente bene questa dovrebbe essere una ragione per piacerti oh sì lo sarebbe senza dubbio disse kingham lo sarebbe se ti considerassi come uno spettacolo come qualcosa semplicemente da guardare ecco come un quadro ma tu non mi sei indifferente e lo sai e deliberatamente mi torturi come puoi aspettarti che mi piaccia qualcosa che ti fa sembrare ancora più diabolicamente desiderabile e accrescere così la mia tortura e gli lanciò un'occhiata feroce soltanto con un certo sforzo grace riuscì a sostenere lo sguardo di quegli occhi scuri così brillanti ed espressivi e gli resse avvicinò e le mise le mani sulle spalle oggi disse tu diventerai la mia amante grace scosse la testa sorridendo col suo sorgso capriccioso ed eternamente femminile sì ti dico la stretta delle sue mani divenne più forte e io ti dico di no rispose grace trattenne il respiro kingham le stava facendo male sì 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 si guardarono viso contro viso nemici il cuore di grace batteva forte c'è stato un momento che ho creduto fosse lì per strozzarmi raccontò poi a catherine ma ella gli tenne testa e vinse kingham le tolse le mani dalle spalle andò al lato opposto della stanza e appoggiandosi contro la parete nel vano della finestra si mise a guardare in silenzio il cielo grigio piuttosto sollevata grace si sedette sul divano con un movimento impertinente pieno di sfida che andò disgraziatamente perduto per kingham che continuava ostinatamente a voltarle le spalle ripiegò le gambe sotto di sé poi aperta la borsetta tirò fuori il porta sigarette prese una sigaretta e l'accese tutto con molta non curanza e deliberazione stava cercando di farsi forza per resistere ad un altro attacco e forse nello stesso tempo si preparava ad irritarlo quando egli si fosse voltato con lo spettacolo della sua indifferenza si aspettava di vederlo ripetere le violenze di un momento prima o le solite accuse di tutti gli altri giorni non era preparata a resistere al nuovo genere di attacco che egli stava per farle quando alla fine e aveva fumato più della metà della sigaretta quando il lungo silenzio fu rotto kingham si volse e le si avvicinò e la si accorse che piangeva kingham come ho già detto non era un commediante tutto quello che diceva di sentire lo sentiva veramente ne sono sicuro ma sentiva con troppa facilità e sentire gli piaceva troppo in situazioni nelle quali altri uomini si sarebbero sforzati di padroneggiarsi kingham dava libero sfogo alle sue emozioni o perfino le suscitava e le forzava a una più violenta e prolungata attività non aveva bisogno di trucchi da dervi per montarsi non aveva bisogno di danzare di ululare di lacerarsi le carni poteva far la cosa internamente per mezzo di un'intensa concentrazione sull'oggetto del suo desiderio o del suo odio sulla causa del suo dolore e del suo piacere ruminava sui suoi amori e sulle sue pene facendoli apparire molto più significativi di quanto lo fossero in realtà ruminava evocando nella sua immaginazione visioni appropriate di estasi proibite quando soffriva le agonie del desiderio di scene di insulti di umiliazione di rabbia quando era in collera con qualcuno del suo miserevole essere quando desiderava sentire pietà di se stesso un povero essere solitario abbandonato da tutti quasi moribondo la lunga pratica lo aveva l'esuabilissimo nell'arte di lavorare le proprie emozioni di mantenersi al punto di ebollizione per così dire per un lungo periodo di tempo nelle poche settimane del suo corteggiamento era riuscito a convincersi che il suo interesse per grace era la più violenta delle passioni e che egli soffriva indicibilmente per il suo rifiuto il suo diabolico il suo sadico rifiuto di diventare la sua amante dolorosamente e profondamente egli ne godeva l'orgia l'orgia non perdeva ancora il suo sapore e gli non era ancora sazio quelle lacrime erano il risultato dell'improvvisa pietà di se stesso che aveva seguito il suo impeto di violenza si era accorto tutto ad un tratto che la sua violenza era inutile era assurdo supporre di poter scuotere o battere o strozzare una donna per costringerla a darsi si era allontanato pieno di disperazione era solo era respinto nessuno si curava di lui sprecava il suo spirito in un deserto di vergogna il suo prezioso elevato spirito e non poteva più salvarsi la pazzia lo aveva ormai afferrato era finito assolutamente finito in piedi nel vano della finestra aveva meditato sulle sue miserie fino a che gli erano parse improvvisamente intollerabili gli occhi gli si riempirono di lacrime si era sentito come un bambino come un bambino stanco che si abbandona disperato al proprio dolore ogni animazione scomparve dal suo viso che divenne simile a quello di un morto agghiacciato in una maschera di dolore pallido con la sua barba rossiccia e i linamenti delicati pareva un Cristo morto morente in qualche tetro quadro fiammingo fu quel viso da Cristo morto che si voltò verso Grace Padley quel viso da Cristo morto ed era stato il viso di Lucifero ardente di vita e di passione minacciosamente e pericolosamente bello che prima si era allontanato da lei gli occhi che prima erano stati così vividi adesso erano quasi chiusi dando al volto l'apparenza della cecità e tra le palpebre semi chiuse c'era un lento scorrere di lacrime alla vista di quel viso sofferente Grace cadde in una specie di terrore ma il terrore fu seguito quasi subito da una grande pietà quella faccia senza vita e al tempo stesso così sofferente e quelle lacrime non aveva mai visto un uomo piangere prima di allora fu sopraffatta dalla pietà dalla pietà e al pensiero che era tutta colpa sua da un appassionato pentimento da un desiderio di umiliarsi di fare ammenda allo stesso tempo sentì un'altra e più grande emozione che comprendeva la pietà e il pentimento e dalla quale essi derivavano la loro strana intensità sentì che per lei Kingham era l'unica persona al mondo che importava era l'amore in silenzio egli attraversò la stanza cadde in ginocchio davanti al divano dove Grace la sigaretta tra le dita era mezzo seduta e mezzo sdraiata simile a una statua per lo stupore e appoggiata nella testa in grembo si mise a singhiozzare deliziosamente l'incantesimo dell'immobilità di Grace si ruppe si chinosso di lui e gli carezzò i capelli il gesto gli chiamò alla sua attenzione la sigaretta fumata a metà e la gettò nel caminetto le sue dita toccarono i suoi capelli la sua nuca le sue orecchie la sua gota nascosta tesoro sussurrò tesoro non devi piangere è terribile vederti piangere e anche lei cominciò a piangere a lungo rimasero in quella posizione kingham col viso contro le ginocchia di lei Grace china su di lui che gli accarezzava i capelli piangevano tutti e due i nostri sentimenti e i nostri pensieri sono interdipendenti è soltanto nel linguaggio non negli atti che essi sono separati e differenziati alcuni uomini sono migliori matematici quando sono innamorati di quando non sono innamorati per altri il caso è inverso ma in entrambi i casi l'emozione dell'amore condiziona il lavoro dell'intelletto ancora di più influisce sulle altre emozioni come la pietà il coraggio la vergogna la paura del ridicolo che accresce o diminuisce secondo i casi si può stabilire come regola generale che una forte emozione ci predispone automaticamente a sentire altre emozioni per quanto apparentemente siano in disaccordo con la prima così per esempio la gioia può predisporre alla pietà e la vergogna all'ira l'ira e il dolore possono entrambi predisporre al desiderio sessuale spesso violente dispute finiscono in effusioni amorose e talvolta si compiono strane orge su tombe recenti orge che agli occhi dello spettatore indifferente sembrano assolutamente sconvenienti ma che spesso devono essere attribuite meno a una cinica mancanza di sentimento che ad un'abbondanza del sentimento stesso il dolore crea un senso di solitudine e questo un desiderio di conforto allo stesso tempo l'anima di chi soffre essendo tutta la personalità invasa dalla commozione diventa particolarmente suscettibile a influenze voluttuose e particolarmente incapace dato il suo stato di confusione ad esercitare il solito autocontrollo così quando il desiderato confortatore fa la sua comparsa talvolta accade se le condizioni di sesso e di età lo consentono che la simpatia si trasformi non soltanto in amore ma in desideri che richiedono immediata soddisfazione qualche cosa di simile accadde in quel momento le lacrime lasciarono posto ai baci sempre meno lacrimosi alle carezze e agli abbracci seguirono languori ed estatici silenzi ti amo ti amo ripeteva Grace ed era quasi spaventata dalla vehemenza delle sue nuove emozioni dall'intensità di quelle nuove acute sensazioni che ella esprimeva con quelle vecchie abusate parole ti amo e Kingham la baciava e si concedeva per il momento una felicità senza riserve e senza commenti interiori senza l'ombra di quelle riflessioni che trasformano il presente in passato e criticando apprezzando giudicando e condannando tolgono tutto il sapore al momento che si vive egli era semplicemente felice arrivò l'ora di separarsi devo andare disse Grace sospirando ma la Grace che andò via era una donna del tutto diversa dalla Grace che era entrata due ore prima era una Grace adorante una Grace resa umile dall'amore una Grace per la quale l'essere moderna e grandam e diciottesimo secolo intellettualmente alla moda aveva improvvisamente cessato di avere la minima importanza nell'aggiustarsi i capelli davanti allo specchio fu colpita dall'incoerenza del suo nuovo vestito che adesso le appariva così sfacciatamente fuori di posto il suo amore per Kingham pensava era qualcosa di grande e di significativo qualcosa addirittura di santo davanti a quell'amore il vestito sembrava un costume da pagliaccio in chiesa così il giorno dopo si mise un vecchio vestito pre-rodni mussolina bianca a po' neri niente affatto vistoso né di moda né eccentrico la sua anima si era vestita per così dire per essere intonata ma Kingham che aveva avuto il tempo di avvelenare il ricordo della felicità del giorno prima con ogni sorta di velenose riflessioni e di trovare delle sottili e orribili spiegazioni per atti che erano ovviamente innocenti e semplici la ricevette come se non avesse mutato né il vestito né lo spirito e fosse davvero la donna che fino a quel giorno aveva voluto sembrare beh le disse aprendo la porta vedo che sei venuta per averne ancora Grace che si era aspettata di essere ricevuta con la gentile e amorosa tenerezza del giorno prima fu amaramente sorpresa dalla brutalità del suo tono di voce dalla freddezza della sua espressione ancora di che cosa domandò e l'espressione dei suoi occhi la esultante divenne preoccupata e il sorriso si dileguò sulle sue labbra ansiosamente lo guardò in viso ancora di che cosa Kingham rise una risata forte e spiacevole senza allegria e indicò il divano la diabolica concupiscenza di Grace ecco l'oggetto principale delle sue meditazioni da quando l'aveva lasciata il giorno prima in un primo momento Grace non capì quello che intendeva dire quel particolare aspetto del loro amore era così lontano dalla sua mente che non poteva pensare che fosse in quella di lui poi bruscamente comprese e il sangue le salì al viso Kingham protestò Kingham era uno di quegli uomini che tutti anche i più intimi chiamano per cognome il nome infatti era rappresentato soltanto da un paio di iniziali J.G. non ho mai saputo che cosa volessero dire John George suppongo ma era una cosa del tutto irrilevante per tutti era soltanto Kingham puro e semplice Kingham come puoi dire cose simili come posso e gli ripete beffardamente posso perché non tengo sulla bocca una foglia di fico come fanno le persone veramente rispettabili che non parlano mai dei propri vizi hai quello che vuoi ma non parlarne mai questa è la rispettabilità ma mio dio continuò sempre beffardo ho sempre creduto che tu fossi molto al di là della rispettabilità come sei al di là del bene e del male o al di sotto come potrebbe anche essere il caso Grace che era entrato aspettandosi un bacio e delle parole gentili si allontanò lentamente da lui andò a sedersi sul divano e cominciò a piangere un momento dopo Kingham la teneva tra le braccia e le asciugava le lacrime con i baci non parlava i baci diventavano sempre più appassionati da prima ella voltava la faccia per evitarli ma alla fine si abbandonò per un po' fu felice dimenticò le crudeli parole di Kingham o se le ricordava le ricordava come parole dette in un incubo per sbaglio per così dire non di proposito non seriamente aveva cominciato a sentirsi quasi del tutto rassicurata quando Kingham si sciolse improvvisamente rudemente dal suo abbraccio balzò in piedi e cominciò a passeggiare irrequieto su e giù per la stanza arruffandosi i capelli mentre camminava che cosa orribile è avere un vizio cominciò è qualcosa che ti porti dietro con te ma che non sei tu qualcosa che è più forte di te che vorresti vincere ma non puoi un vizio un vizio era incantato da quella parola divenne per il momento il centro del suo universo è orribile siamo posseduti da demoni ecco che cosa siamo noi ci portiamo in giro i nostri demoni privati i nostri vizi ed essi sono troppo forti per noi essi ci gettano a terra e trionfano in modo orribile per abrividi di disgusto è mostruoso sentirsi assassinati dal proprio vizio il demone che spiritualmente ti uccide che soffoca la tua anima con una carne morbida e calda il mio demone si serve di te come strumento per assassinarmi il tuo demone si serve di me i nostri vizi cospirano è una cospirazione un complotto d'assassini adesso Grace era più infelice di quanto lo fosse mai stata in vita sua eppure se Rodney avesse detto le stesse cose espresse un po' diversamente cioè come complimenti riguardanti il suo cosiddetto temperamento ne sarebbe stata deliziata due mesi prima ma tu sai che ti amo lo sai fu tutto ciò che pote dire perché dici queste cose se lo sai Kingham rise oh lo so rispose lo so anche troppo bene so che cosa le donne come te intendono per amore ma io non sono una donna come Grace esitò come me non sembrava avere molto senso una donna così non come te Kingham chiese Beffardo non come tu credi insiste Grace confusa da quel bisticcio di parole non sciocca voglio dire non frivola e via dicendo non sul serio tutti quei mesi con Rodney sembravano un sogno e tuttavia ella li aveva realmente vissuti lo champagne e i sandwich c'erano stati per davvero non ora in ogni modo aggiunse ora ti conosco è diverso non capisci del tutto diverso perché io ti amo ti amo ti amo ti amo chiunque altro si sarebbe lasciato convincere almeno per il momento chiunque altro le avrebbe chiesto perdono le avrebbe baciata e avrebbe fatto la pace ma per Kingan questo sarebbe stato troppo semplice troppo emotivamente piatto rimase sulle sue posizioni lo so che mi ami rispose distogliendo lo sguardo da quel vicio così patetico e sofferente da quegli occhi grigi spalancati addolorati e perplessi che lo guardavano supplichevoli quasi umili anch'io ti amo il tuo demone mi ama il mio demone ti ama ma no protestò graes con voce rotta ma perché ti ama violentamente continuò Kingan ad alta voce quasi gridando irresistibilmente e così dicendo si girò e si precipitò su direi con una specie di furore ma lo sai che cosa significhi riprese tenendola fra le braccia mentre lei si dibetteva debolmente lo sai che cosa significhi amare non una persona e neppure tutto il suo corpo ma soltanto una parte di esso pazzamente lo sai che cosa vuoi dire quando il demone del vizio concentra tutto il suo desiderio su un punto solo lo mette a fuoco inesorabilmente finché niente altro esiste se non una nuca un muscolo pettorale un piede un ginocchio una mano questa mano per esempio e presale una mano la tenne all'altezza del proprio viso e nemmeno tutta la mano continuò la base del pollice questo piccolo cuscinetto di carne che la linea della vita taglia dal resto della palma soltanto questo cuscinetto di carne morbida e soda e cominciò a baciare in quel punto la mano di Grace no no non devi e cercava di ritirare la mano ma Kingam la teneva stretta continuò a baciare quel rotondo rigonfiamento insistentemente ancora ed ancora lo baciava e lo ribaciava ogni tanto prendeva la carne tra i denti e la mordeva dolcemente da prima poi a mano a mano sempre più forte finché il dolore diventava quasi insopportabile e Grace gridava e allora ricominciava a baciarla piano teneramente come se domandasse perdono come se volesse baciare via il dolore Grace cessò di lottare e gli abbandonò la mano lasciandogli fare quello che voleva e a poco a poco il demone sembrò creare una speciale voluttuosa sensibilità in quei pochi centimetri quadrati di pelle in cui si concentrava tutta la capacità di piacere che Grace aveva in sé sembrò affluire alla base della sua mano sinistra perfino il dolore che gradatamente aumentava man mano che i denti di lui stringevano la carne sempre più forte le sembrava piacevole Grace si abbandonò ma nello stesso tempo sentì che in quel piacere c'era qualcosa di vergognoso e persino di orribile quello che avrebbe potuto essere semplice e bello e pieno di gioia era diventato qualcosa di doloroso di complicato di oscuro di brutto Kingham poteva congratularsi con sé stesso per essere riuscito a produrre una situazione piena delle più promettenti possibilità emotive ho ricostruito queste scene con una certa ampiezza perché sono caratteristiche che gettano una luce sull'intera faccenda nella sua ricerca di intense e dolorose emozioni Kingham dava prova di una perversa ingenuità non si trovava mai imbarazzato quando voleva trovare il pretesto per complicare ciò che era semplice e deformare quello che era naturale la sua grande risorsa era sempre la diabolicità di Grace cieco come soltanto Kingham poteva essere cieco a ogni evidenza contraria persisteva a considerare Grace un frivolo vampiro un mostro vizioso e senza cuore il suo vampirismo e il suo vizio erano le qualità che lo attraevano se si fosse potuto convincere che in realtà Grace era semplice innocente infantile che la sua diabolica concupiscenza era in quel caso soltanto un'infelice adorazione e gli avrebbe smesso di provare qualsiasi interesse per lei né le proteste avevano per lui maggior valore dell'evidenza se Grace kingham 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 replicava enumerando con fuocosa eloquenza gli orrori del vizio in che Grace si metteva a piangere il diabolico in Grace formava il fulcro e il pretesto cronico per simili scenate ma kingham aveva inventiva e poteva trovare cento altre scuse da osservatore qual era perché egli era un acuto osservatore quando non decideva di essere cieco kingham si era presto reso conto del carattere vago e casuale di tutte le idee di Grace delle sue convinzioni dei suoi principi e delle sue opinioni si accorse che quello che pensava della musica per esempio era soltanto una visione distorta e frammentaria di quello che ne pensavo io che le sue idee sulla pittura erano quelle di Rodney pasticciate e confuse che le sue opinioni filosofiche e letterarie sembravano una ragosta bollita a metà il nero che impallidisce e il rosso che non viene ancora prese per metà prestito da Rodney e metà di già da lui stesso e cortosi di queste cose egli la prendeva in giro per la sua ipocrisia e snobberia intellettuali trovava sempre un'infinità di occasioni per umiliarla e ferirla a volte egli le rimproverava la sua insincerità e la sua meschina dissimulazione perché non diceva francamente a John Padley che gli era infedele non voglio renderlo infelice senza che sia necessario protestava Grace Kingam rideva beffardo te ne importa molto della felicità altrui e specialmente di quella di tuo marito la verità è che vuoi tutte e due le cose essere viziosa e rispettabile nello stesso tempo a tutti i costi niente franchezza è il solito caso della foglia di fico messa dove non dovrebbe essere e poi ci fu una terribile scenata tutta una serie di terribili scenate perché Grace non voleva avere un figlio da lui la nostra sola scusa urlava la sola cosa che potrebbe giustificarci e tu non vuoi saperne deve essere proprio il vizio per il vizio vero la incontaminata dottrina estetica talvolta invece si dimostrava stranamente preoccupato per il benessere dei bambini di Grace e la rimproverava di trascurarli di essere una cattiva madre ed è vero sai disse poi Grace a Catherine con una convinzione piena di rimorsi è proprio vero io trascuro i miei figli e il giorno dopo la pregò di accompagnare lei e i bambini al giardino zoologico e sopra le teste del piccolo Pat e della piccola Mitty tra gli elefanti e gli orsi le scimmie e i papagalli le parlò del suo amore e della sua infelicità ogni tanto i bambini la interrompevano con qualche domanda mammina perché nuotano i pesci o come si fa a far le tartarughe sai davvero un gran conforto per me disse Grace a Catherine quando si separarono non so come farai senza di te la prossima volta che venne a trovarla le portò un regalo non un piumino da cipria questa volta non dei guanti o dei nastri ma una copia delle memorie dal sottosuolo di Dostoevsky devi leggerlo insiste devi assolutamente leggerlo è così terribilmente vero la vita di Grace in quel periodo fu di quasi ininterrotta infelicità dico quasi perché c'erano dei momenti in cui Kingham sembrava essere stanco di violente emozioni stanco di soffrire di far soffrire momenti in cui era tutto amore e tenerezza per questi brevi spiragli di felicità Grace era profondamente riconoscente il suo amore che un continuo maltrattamento avrebbe potuto spezzare e sradicare era ravvivato da quelle rare tenerezze e rifioriva in un'appassionata adorazione ogni volta sperava credeva quasi che quella felicità sarebbe stata permanente allora portando con sé alcuni scelti aforismi di Nietzsche o un leopardi intascabile o la riproduzione di uno dei disastri della guerre di Goya veniva da Catherine a dirle quanto fosse felice radiosamente miracolosamente felice quasi credeva che questa volta la sua felicità sarebbe durata per sempre quasi ma mai completamente c'era sempre un dubbio un'inespressa segreta dolorosissima paura e sempre il dubbio era giustificato la paura si dimostrava anche troppo fondata dopo due o tre giorni di vacanza dalle sue orge emotive due o tre giorni di calma e di gentilezza Kingham le riappariva davanti acciliato scuro in viso gli occhi cattivi e accusatori press lo guardava e il suo cuore cominciava a battere con violenza e con dolorosa irregolarità si sentiva quasi male in previsione di ciò che stava per accadere qualche volta egli scoppiava immediatamente qualche volta ed era molto peggio la teneva in uno stato di terribile incertezza che poteva prolungarsi per ore ed ore persino per giorni e rimaneva cupo e silenzioso rifiutandosi di dirla quando grassi glielo domandava che cosa avesse se lei si arrischiava ad avvicinarglici per dargli un bacio o fargli una carezza kingam la respingeva malamente le scuse che trovava per quelle nuove tempeste dopo la bonaccia erano della più svariata natura uno di quei brevi periodi di felicità finì perché egli l'accusò di essere troppo teneramente amorosa troppo diabolicamente concupiscente quando facevano all'amore un'altra volta l'accusò di aver detto e questo due giorni prima che pensasse a rimproveraglielo che le piacevano i saggi critici di dryden una cosa insopportabile falsa piena di affettazione solo perché è di moda ammirare questi stupidi noiosi scrittori classici pure ipocrisia ecco che cos'è e così via un'altra volta si infuriò perché lei aveva insistito per prendere un tassifino Hampton Court veramente fin da principio grace aveva detto che lo avrebbe pagato lei ma quando era venuto il momento di pagare egli si era sentito obbligato per decoro maschile a tirar fuori il portafoglio per un penoso momento Kingham temette che ella avrebbe accettato la sua offerta si vendicò per quel momento di ansia accusandola di stupida prodigalità c'è qualcosa di straordinariamente grossolano le disse qualcosa di orribilmente insensibile nella gente che è nata e cresciuta nella giatezza che idea spendere un paio di sterline per un semplice sciocco capriccio quando ci sono centinaia di migliaia di persone senza lavoro che possono vivere anzi che riescono a non morire per la carità del sussidio governativo che idea grace che aveva proposto di fare quella gita perché pensava che Hampton Court fosse il più romantico posto del mondo e che sarebbe stato meraviglioso essere due amanti nella long water nei profondi vani delle finestre davanti ai vecchi specchi azzurri davanti ai trionfanti mantegna grace rimase sbigottita vedendo la realtà così crudelmente diversa da quello che aveva sognata e intanto un altro momento di felicità era irreparabilmente passato non c'era da stupirsi che grace finisse con l'avere un aspetto stanco quasi malato era più pallida di prima e visibilmente più magra gli occhi affaticati e serchiati di scuro sembravano più grandi e di un grigio più pallido il viso era sempre quello di una ragazzina piuttosto brutta ma simpatica ma di una ragazzina orribilmente maltrattata disperatamente infelice e rassegnata alla sua infelicità davanti a quella rassegnazione Catherine perse la pazienza nessuno dovrebbe essere così rassegnato le disse non ai giorni nostri almeno abbiamo superato lo stadio della paziente Griselda ma il guaio era che Grace non l'aveva superato era la sua schiava quando Catherine la implorò di rompere con Kingham e la si limitò a scuotere la testa ma sei infelice insiste Catherine non c'è bisogno che tu me lo dica disse Grace e le salirono le lacrime agli occhi credi che non lo sappia e allora perché non lo lasci domandò Catherine perché perché non posso dopo aver pianto un po' continuò con una voce malferma e ancora rotta da qualche singhiozzo è come se ci fosse in me un demone che mi trascina contro la mia volontà aveva cominciato a pensare come Kingham persino di se stessa il caso sembrava disperato andammo all'estero quell'estate al mare in Italia al riparo di quella grande montagna di albarese che si leva improvvisamente come la montagna del paradiso dalle paludi pontine e dalle azzurre distese del terreno facemmo i bagni e ci riscaldammo al sole e ci sentimmo pervasi da una nuova vita era là sui fianchi di quella montagna che Circe la maga aveva il suo palazzo Circeus Mons Monte Circeo la magia di quel nome è giunta fino a noi dai tempi di Roma nelle insenature ai piedi del monte si sono le rovine di villa imperiali e andando verso occidente sotto gli scocesi di Rupi si giunge al fantasma di un porto romano presso i vivai di Lucullo che occhieggiano dalla pianura all'alba prima che il sole abbia riempito lo spazio coi tremanti veli della calura e con l'incolore chiarità della luce eccessiva all'alba e poi anche alla sera quando l'aria diviene di nuovo limpida e i colori e le forme lontane nascono di nuovo si scorge lontano il profilo di una montagna oltre l'azzurro golfo di Terracina il profilo di una montagna e il pennacchio immobile di fumo bianco il Vesuvio e una volta arrampicandoci prima delle varie del sole sulla cresta del nostro monte Circeo li vedemmo tutti e due il Vesuvio a sud al di là del mare pallido e a settentrione oltre le verdi pianure oltre i bruni selvosi colli albani la grande simbolica cupola del mondo quella di San Pietro luccicante al di sopra delle brume dell'orizzonte rimanemmo al monte Circeo oltre due mesi abbastanza per divenire scuri come gli indiani e per dimenticare o per lo meno per diventare del tutto indifferenti al mondo esterno non leggevamo giornali avevamo scoraggiato tutti i nostri corrispondenti col non rispondere alle loro lettere che appena ci eravamo presi la briga di leggere vivevamo in una parola la vita dei selvaggi al sole sulle rive di un tepido mare tutti i nostri amici e i nostri parenti avrebbero potuto essere morti l'inghilterra avrebbe potuto essere oppressa dalla guerra dalla pestilenza dalla carestia tutti i libri tutti i quadri tutta la musica tutto avrebbe potuto essere irreparabilmente distrutto al monte Circeo non ce ne sarebbe importato un fico ma alla fine giunse il momento di ritornare a Londra per guadagnare un po' di denaro ci imbaccucammo di nuovo nei nostri abiti imprigionammo nelle scarpe i piedi che avevano così a lungo goduto della libertà dei sandali prendemmo l'omnibus per terracina e ci arrampicammo sul treno beh disse quando fummo riusciti a insinuarci nei due posti vacanti che la straordinaria esuberanza di una brigata di napoletani aveva reso terribilmente stretti stiamo per tornare nella civiltà Catherine sospirò e guardò fuori dal finestrino verso la montagna della maga che ci salutava al di là della pianura si può essere scusati disse se facendo un piccolo sbaglio si pensa che è all'inferno che stiamo ritornando un viaggio spaventoso lo scompartimento era affollato e i napoletani erano favolosamente grassi il caldo atroce le gallerie frequenti e il fumo particolarmente nero e assfissiante insieme al disagio fisico arrivarono una folla di disagi mentali quanto denaro avremmo trovato in banca al nostro ritorno quanti conti da pagare ci aspettavano sarei stato capace di finire il mio libro su Mozart per Natale come avevo promesso in quale stato avrei trovato mia sorella malata sarebbe stato necessario fare una visita al dentista che cosa potevamo fare per placare tutti coloro ai quali non avevamo scritto schiacciato tra i napoletani pensavo a tutte queste cose e guardando Catherine potevo accorgermi dall'espressione della sua faccia che anche lei era preoccupata come me eravamo come Adamo ed Eva quando le porte del paradiso terrestre si chiusero dietro di loro a Genova i napoletani scesero e furono rimpiazzati da passeggeri di dimensioni più normali la pressione nello scompartimento diminui e fu possibile avere due posti vicini la conversazione divenne possibile non ho fatto che pensare disse Catherine appena potemmo parlare a cosa può essere capitato a quella povera piccola Grace sai avrei proprio dovuto scriverle e mi guardò con un'espressione nella quale la coscienza della colpa era mescolata al rimprovero dopo tutto dissi rispondendo alla sua espressione più che alle sue parole non è stata colpa mia se eri troppo pigra per scrivere non ti pare no rispose Catherine è stata anche colpa tua avresti dovuto ricordarmi di scrivere avresti dovuto insistere invece mi hai dato il cattivo esempio e hai incoraggiato la mia pigrizia scrollai le spalle non si può discutere con le donne dissi perché perché quasi sempre hanno ragione disse Catherine ma non si tratta di questo si tratta della povera Grace che cosa credi le sia successo e quello spaventoso Kingham che avrà combinato vorrei proprio averle scritto a dir la verità avevamo spesso parlato di Grace e di Kingham a Monte Circeo ma sotto quel sole che annientava tra le stupende e per occhi nordici quasi irreali bellezze di quel paesaggio mitologico essi c'erano sembrati così remoti e privi di importanza come tutte le altre cose e persone di quell'altra nostra vita Grace soffriva lo sapevamo in teoria senza dubbio ma non per così dire in pratica non ce ne rendevamo ben conto la cosa non ci toccava più così da vicino al sole era stato difficile renderci conto di qualcosa che non fosse il nostro benessere se esponete al sole un corpo nordico pare che l'anima svapori quello che rompe dalla sorgente della vita fisica scaccia la vita dello spirito il corpo si deve abituare alla luce prima che lo spirito possa di nuovo condensarsi in un'esistenza attiva quando parlavamo di Grace al monte Circeo eravamo due corpi al sole quasi privi di anima gli abiti le scarpe e il disagio del treno ci avevano reso la nostra anima adesso parlavamo di Grace con rinnovata simpatia e ci domandavamo con una certa ansia che cosa poteva esserle accaduto in un certo senso mi sembra che siamo responsabili di lei disse Catherine oh come vorrei averle scritto ma lei perché non mi avrà scritto le suggerì una spiegazione confortante probabilmente sarà stata lontana da Kingham tutto questo tempo sarà andata come al solito all'estero con Padley e i bambini al nostro arrivo probabilmente sapremo che tutto tra di loro è già finito speriamo disse Catherine ma scoprimmo la verità o almeno una parte di essa più presto di quello che ci saremmo aspettati la prima persona che vidi scendendo dal treno a Modan fu John Padley stava sulla piattaforma a una quindicina di metri di distanza ed esaminava volgendo rapidamente gli occhi qua e là le facce dei passeggeri che scendevano i suoi sguardi erano scrutatori rapidi decisi si sarebbe detto un detective inagguato alla frontiera per impedire la fuga di un delinquente nessun latro nessun truffatore per quanto astuto poteva sperare di svignarsela e di sfuggire agli onniveggenti occhi di quel segugio fu questo pensiero fu il comprendere che non c'era niente da fare che mi fece trattenere il mio primo impulso di fuggire e di nascondermi nel bagagliaio nella toilette sotto un sedile dovunque no la partita era perduta prima di cominciare non c'era possibilità di fuga prima o poi qualunque cosa avessi fatto adesso avrei dovuto presentarmi alla dogana e là infallibilmente egli mi avrebbe acciuffato e il treno sarebbe rimasto fermo per due ore e mezzo siamo fritti sussurrai a Catherine mentre l'aiutavo a scendere e la seguì la direzione del mio sguardo e vide il pericolo che ci attendeva che il cielo ci aiuti esclamò con insolito fervore poi aggiunse in un altro tono ma forse questo significa che Grace è qui vado a domandarglielo è meglio di no implorai accarezzando ancora la folla e speranza di poter passare inosservati è meglio di no ma proprio in quell'istante Padley si voltò e ci vide la sua bella faccia larga e abbronzata si illuminò di piacere e gli letteralmente corse verso di noi quelle due ore e mezzo passate a Modane in compagnia di John Padley mi dettero la conferma di un fatto piuttosto curioso del quale fino a quel momento avevo avuto soltanto un'idea vaga e imprecisa il fatto che ci può essere profondamente e simpaticamente interessati ai sentimenti di individui cui pensieri e le cui opinioni tutti i prodotti insomma del loro intelletto ci sono non soltanto completamente indifferenti ma anche noiosi e repulsivi leggiamo per esempio l'autobiografia dell'Alfieri i giornal di Benjamin Robert Haydon e li leggiamo con appassionato interesse ma le tragedie dell'Alfieri e i quadri storici di Haydon tutto ciò che per loro costituì il diritto all'attenzione del mondo ha semplicemente smesso di esistere per quello che ci riguarda intellettualmente artisticamente questi uomini erano più che per metà morti ma emozionalmente vivevano Mutatis Mutandis era lo stesso con John Peduli fino a quel momento lo avevo conosciuto soltanto come un espositore di fatti e di teorie come un intelletto insomma uno degli intelletti più spaventosamente privi di interesse che siano mai esistiti ma avevo visto soltanto nella sua veste ufficiale per così dire di instancabile conferenziere a tavola e nei fumoir dei club ma non avevo mai dato uno sguardo alla sua vita privata non c'è da stupirsi perché come ho già detto in tempi normali e quando le cose andavano lisce Peduli non aveva una vita privata più complicata di quella del suo corpo i suoi sentimenti verso la maggior parte dei suoi simili non andavano oltre le semplici emozioni di un cacciatore provava piacere quando riusciva ad afferrare la vittima e parlarle fino a farla morire provava dolore e un certo leggero risentimento quando la sua preda gli sfuggiva per sua moglie aveva i desideri di un uomo sano e ancora giovane accoppiati a un affetto reale ma piuttosto abitudinario a modo suo Peduli amava la moglie e non gli era mai capitato di dubitare che ella non potesse avere lo stesso sentimento a suo riguardo quell'affetto gli sembrava una cosa naturale e inevitabile come avere dei figli ed amarli avere una casa e delle persone di servizio e trovare il pranzo pronto alla sera ritornando dall'ufficio così inevitabile che era del tutto inutile pensarci o parlarne così naturale come avere un conto corrente in banca io avevo creduto impossibile che Peduli potesse mai sviluppare una sua vita privata ma avevo avuto torto non avevo previsto la possibilità che potesse avere una scossa violenta capace di scuoterlo dal compiacimento di se stesso di scrollare il comodo edificio della sua vita quotidiana quella scossa ora l'aveva ricevuta era un pedri nuovo ed insolito quello che adesso ci veniva incontro correndo sono così contento così straordinariamente contento di vedervi esclamò appena ci fu vicino veramente contento sapete nessuno mi aveva mai stretto la mano con tanto calore e nemmeno a Catherine a quanto compresi vedendola curvarsi leggermente mentre abbandonava le dita alla sua esuberante cordialità sei proprio l'uomo che più di ogni altro desideravo vedere continuò rivolgendosi di nuovo a me si chinò e prese due delle nostre valigie andiamo subito alla dogana disse e poi quando ci saremo sbarazzati di quelle maledette formalità potremo fare una chiacchierata seguimmo io guardai Catherine e feci una smorfia la prospettiva di quella chiacchierata mi terrorizzava Catherine mi rispose con uno sguardo poi affrettò il passo perché Padley camminava molto energicamente Grace è qui con voi? domandò Padley si fermò con le valigie in mano beh disse esitando come se fosse possibile avere dei dubbi metafisici sulla giusta risposta da dare beh sta di fatto che non c'è non proprio sembrava che stesse discutendo il problema della presenza reale e come se non volesse continuare a parlare di quell'argomento si voltò e si affrettò verso la dogana lasciando la seconda domanda di Catherine la troveremo a Londra a nostro ritorno senza risposta la chiacchierata quando arrivò fu molto diversa da quella che avevo paventato credi che dispiacerebbe a tua moglie sussurò Padley mentre finita la visita doganale ci stavamo dirigendo verso il ristorante della stazione se volessi parlarti un momento da solo risposi che ero certo di no e dissi due parole a Catherine che mi rispose con una rapida occhiata significativa dando poi ad entrambi il permesso richiesto andate pure a parlare dei vostri stupidi affari se volete disse io intanto comincerò a mangiare uscimmo di nuovo sulla piattaforma aveva cominciato a piovere con violenza come piove soltanto in montagna la pioggia batteva sulla tettoia di vetro della stazione con un continuo sordo scruciare ti sembrava di camminare dentro un enorme tamburo toccato da innumerevoli dita dalle aperture laterali della stazione si scorgevano vagamente i profili delle montagne attraverso un velo bianco di pioggia mossa dal vento camminammo su e giù per un paio di minuti senza dire una parola mai almeno in mia presenza pedri aveva mantenuto così a lungo il silenzio immaginando quale fosse il motivo dell'imbarazzo che lo teneva in quell'insolito stato di mutismo mi sentì addolorato per lui alla fine dopo un paio di giri sulla piattaforma sembra fare uno sforzo si schiarì la gola e cominciò con una voce bassa ed esitante assai diversa dalla sua solita voce da trombone forte e sicura con la quale parlava del sistema bancario svizzero volevo parlarti di grace disse la faccia che voltò verso di me aveva un'espressione stupita e addolorata insieme quella sua maschera di una banale bellezza era stranamente solcata da insolite rughe sotto le sopracciglia inarcate gli occhi mi guardavano interrogativi quasi disperati annui senza rispondere mi sembrava il modo migliore per incoraggiarlo a proseguire il fatto è continuò distogliendo da me gli occhi e guardando per terra il fatto è ma gli ci volle parecchio tempo prima che si decidesse a dirmi di che cosa si trattava io che lo sapevo benissimo mi sarei messo a ridere se la pietà non fosse stata in me più forte quando egli riuscì a dire con un commovente eufemismo il fatto è che grace beh credo che non mi ami non come prima lo so come lo sai gli chiesi dopo un breve silenzio sperando che avesse appreso la cosa soltanto attraverso qualche pettegolezzo che io avrei potuto negare me lo ha detto lei rispose e la mia speranza scomparve ah così kingham l'aveva avuta vinta pensai l'aveva costretta a dirgli l'inutile verità soltanto per il piacere di rendere la situazione un po' più difficile e complicata del necessario ero accorto da un po' di tempo continuò pedli dopo un silenzio che era cambiata perfino pedli aveva finito con l'accorgersene certo i segni del decrescente amore di grace erano stati abbastanza ovvi e decisivi pedli poteva non avere immaginazione in amore ma aveva dei desideri e sapeva quando venivano soddisfatti e quando no mi dette qualche particolare esplicativo e concluse ma non immaginavo mai che questo accadesse perché c'era di mezzo un altro come avrei potuto immaginarlo come? ripetè con ingenua disperazione ed era chiaro che infatti vi sarebbe stato assolutamente impossibile immaginare una cosa simile già disse in tono di conforto già beh un giorno continuò proprio il giorno prima della nostra partenza per la montagna lei viene da me e mi spiffera tutto tutto ad un tratto sai senza prepararmi è stato orribile orribile ci fu un'altra pausa quel kingam riprese dopo un po' tu lo conosci? è un tuo amico non è vero? è lui un uomo molto capace naturalmente disse pedli cercando di essere imparziale e di riconoscere il valore del nemico ma devo dire che le poche volte in cui l'ho visto mi è sembrato piuttosto scontroso mi immaginavo la scena pedli che si metteva a parlare della legge sulle compagnie d'assicurazione oppure ricordando che kingam si occupava di letteratura delle pianole o dell'arte moderna o della teoria di Einstein e kingam che fermamente e con molta probabilità anche villanamente si rifiutava di essere la sua vittima un po' troppo eccentrico per il mio gusto certo è un po' strano confermai forse anche un po' matto qualche volta pedli a lui beh disse lentamente si tratta proprio di kingam non dissi nulla forse avrei dovuto assumere un'espressione di sorpresa come dicono nel mondo del cinema sorpresa orrore indignazione soprattutto sorpresa ma io sono un attore scadente non feci smorfie non emisi alcun suono in silenzio continuammo a camminare sulla piattaforma la pioggia tambureggiava sempre sulla tettoia attraverso l'arco in fondo alla stazione si intravedevano i fantasmi delle montagne dietro veli bianchi andavamo dall'Italia verso la Francia e poi indietro dalla Francia verso l'Italia chi avrebbe potuto immaginarlo disse alla fine pedli chiunque avrei naturalmente potuto rispondere chiunque avesse un po' d'immaginazione e conoscesse Grace soprattutto chiunque conoscesse te ma mi trattenne perché sebbene ci sia qualcosa di particolarmente comico nello spettacolo di un amor proprio ferito riderne dimostra poca profondità e poca immaginazione simili ferite producono un dolore così acuto quanto quello che nasce da più nobili tragedie la lesa vanità e l'autocompiacenza disfatta possono sembrare ridicole allo spettatore ma per coloro che ne sentono il dolore che le vedono dal di dentro sono ben lontane dall'essere comiche i sentimenti e le opinioni dell'attore anche nei drammi moralmente più bassi meritano considerazione quanto quelli degli spettatori lo sbarordimento di pedli nell'apprendere che sua moglie aveva preferito un altro uomo a lui era indubbiamente dal mio punto di vista uno spettacolo buffo ma quell'umiliante certezza lo aveva fatto realmente soffrire e lo stupore si era mescolato a un sincero dolore deriderlo sarebbe stato negare in favore dello spettatore i diritti dell'attore inoltre il dolore che pedli sentiva non era esclusivamente provocato da un amor proprio offeso era mescolato ad altre più rispettabili emozioni e quello che disse dopo mi tolse definitivamente qualsiasi voglia di ridere che avessi potuto avere che cosa posso fare continuò dopo un'altra lunga pausa e mi guardò con un'espressione più infelice e sbalordita che mai che cosa posso fare beh disposi cautamente non sapendo che cosa consigliargi dipende dai tuoi sentimenti soprattutto verso Grace verso Grace ripete ma naturalmente io ed esitava imbarazzato io le voglio sempre molto bene molto si interruppe di nuovo poi con un grande sforzo rovesciando le barriere che lunghi anni di silenziosa soddisfazione e di sicurezza di se stesso avevano costruito attorno a quell'argomento aggiunse io l'amo e pronunciare quelle parole definitive sembra rendergli le cose più facili era come se avesse tolto di mezzo un ostacolo il torrente delle confidenze cominciò a scorrere più copioso e veloce sai continuò non credo di aver compreso quanto l'amassi prima d'ora è questo che rende la cosa così terribile e pensiero che avrei dovuto amarla di più o almeno più consciamente quando ne avevo la possibilità quando anche lei mi amava e pensiero che se lo avessi fatto ora probabilmente non sarei qui tutto solo senza di lei abbassò il viso e per qualche momento passeggiammo in silenzio non faccio che pensare a lei capisci continuò penso a come eravamo felici insieme e mi domando se lo saremo ancora come una volta o se tutto è finito ci fu un'altra pausa e poi disse penso che lei è laggiù in Inghilterra con quell'uomo ed è felice con lui più felice forse di quanto lo sia mai stata con me perché forse lei non mi ha mai veramente amato non in quel modo scosse la testa è spaventoso sai è spaventoso cerco di scacciare dalla mente questi pensieri ma non ci riesco faccio delle lunghe camminate in montagna fino ad esserne morto di stanchezza cerco di distrarmi parlando con la gente che passa di qui ma non serve non posso fare a meno di pensarci certo avrei potuto dirgli che Grace era senza dubbio infinitamente meno felice con Kingam di quanto lo fosse mai stata con lui ma dubitavo dell'efficacia di quella consolazione forse non si tratta di una cosa seria mi limitai a dire forse non durerà un giorno o l'altro tornerà in se stessa Padley sospirò è questo che spero sempre naturalmente sono andato in collera da prima quando mi ha detto che non sarebbe venuto all'estero con me e che intendeva rimanere in Inghilterra con quell'uomo le ho detto che poteva andare al diavolo per quanto mi riguardava le ho detto che avrebbe avuto mie notizie soltanto per mezzo del mio avvocato ma è stato sciocco io non voglio che vada al diavolo voglio che stia con me ora non sono più in collera sono soltanto molto infelice ho perfino inghiottito il mio orgoglio a che serve essere orgogliosi e non tornare sulle proprie decisioni se questo ci rende infelici gli ho scritto e l'ho detto di ritornare e che sarò felice e riconoscente se vorrà farlo e che cosa ha risposto domandai nulla disse Padley immaginai la povera lettera convenzionale di Padley piena di quelle logore frasi che si leggono con tanta triste regolarità davanti alle corti dei divorzi o davanti alle giurie dei coroners quando la gente si butta sotto il treno per amore parole misere fredde inadeguate nella sua qualità di procuratore egli le aveva senza dubbio spesso dettate ai clienti desiderosi di vedersi restituire i loro diritti matrimoniali perché fossero poi mostrate al giudice che a suo tempo doveva dar loro forza legale vecchie ottuse frasi nelle quali soltanto la simpatia di chi le legge può stillare una certa momentanea vita ed egli aveva dovuto ora scriverne una per conto proprio gress probabilmente aveva fatto leggere la lettera a kingham immagino i suoi feroci e delisori commenti qualunque lettera d'amore se sottoposta ad una minuziosa indagine stilistica può diventare terribilmente vuota e assurda kingham era capace di fare quell'analisi con piacere e con diabolica abilità senza dubbio il suo scherno aveva fatto vergognare grace dei suoi primi spontanei sentimenti e la lettera era rimasta senza risposta ma ero convinto che quei sentimenti indugiavano ancora sotto la superficie pietà per john peddly e rimorso per quello che lei aveva fatto e kingham ne ero sicuro avrebbe trovato qualche ingegnoso sistema per incoraggiare prima e poi deridere queste emozioni questo avrebbe piacevalmente complicato i loro rapporti avrebbe reso l'amore di grace una sorgente di dolori sempre più grandi per lei peddly ruppe il silenzio fatto di pioggia e il corso dei miei pensieri dicendo e se la cosa fosse seria se lei continuasse a non rispondere alle mie lettere allora oh questo non accadrà dissi con una convinzione nata dalla conoscenza che avevo del carattere di kingham prima o poi egli avrebbe fatto qualcosa che avrebbe reso impossibile anche alla donna più umilmente innamorata continuare a vivere con lui puoi essere sicuro che non accadrà vorrei esserne sicuro disse peddly dubbiosamente lui non conosceva kingham conosceva soltanto grace molto superficialmente non capisco che cosa intenda fare è stato tutto così improvviso non mi sarei mai immaginato che grace per la prima volta si era reso conto che non sapeva niente della donna a cui era sposato la coscienza di questa ignoranza era uno degli elementi della sua angoscia e se è una cosa seria continuò insistendo ostinatamente a voler considerare la peggiore delle possibilità che cosa devo fare lasciarla andar via così senza lottare lasciarla libera di essere rispettabilmente per sempre felice con quel uomo la visione che egli evocava di un kingham addomesticato mi fece sorridere tra me questo sarebbe leale verso di lei suppongo ma perché dovrei essere crudele con me stesso continuammo a lungo quella vana discussione sotto le dita tambureggianti della pioggia alla presenza delle spettrali montagne velate dall'acqua alla fine lo persuasi a non fare nulla per il momento ad aspettare e vedere che cosa i prossimi giorni o settimane o mesi avrebbero portato era l'unica politica possibile quando ritornammo nel ristorante padly era considerevolmente più sollevato di quando ci eravamo allontanati io non gli avevo data nessuna efficace consolazione non avevo inventato nessuna magica soluzione per i suoi problemi ma il sol fatto di aver potuto parlare della cosa e di essere stato ascoltato con una certa comprensione gli era stato di sollievo e di conforto quando si mise a sedere accanto a Catherine si stava fregando le mani oh signora Wilkes disse in quel professionale tono di cordialità che i preti i medici gli avvocati e in generale tutti coloro che debbono parlare spesso e a lungo con gente che non conoscono acquistano con tanta facilità oh signora Wilkes vi abbiamo proprio vergognosamente trascurata temo che non mi perdonerete mai di avervi portato via vostro marito in questa maniera e così via dopo un po' lascia da parte le sue graziose frasi di cortesia per una conversazione più seria alcuni giorni fa ho incontrato un uomo molto interessante qui alla stazione cominciò un greco un certo Teotokopulos un uomo veramente notevole mi ha raccontato molte cose interessanti su re Costantino e sull'attuale situazione economica della Grecia mi ha assicurato per esempio che le informazioni sul re Costantino e sulla situazione economica ellenica cominciarono a fluire era evidente che Pedli aveva trovato in Teotokopulos l'anima gemella quando i greci si incontrano ne seguono scambio di aneddoti sui sovrani dei posti dell'Europa orientale quando i greci si incontrano ne segue uno scambio di aneddoti sui sovrani dei posti dell'Europa orientale in una parola una gara di seccatori Pedli era tornato dalla vita privata a quella pubblica e noi ringraziamo il cielo quando venne il momento di riprendere il nostro viaggio Kingham abitava al secondo piano di una casa del diciottesimo secolo una volta bella e signorile da cui facciata di mattoni anneriti dal tempo dava su una via stretta e sporca che da Theobalds Road conduceva in Bloomsbury Square e nella quale fin dalla guerra era andata a stabilirsi una colonia di gente povera ma artistica alle finestre tende di sudicia mussolina si alternavano con tende scarlatte arancione a scacchi policromi non era difficile sapere dove finisse la povertà rispettabile e dove cominciasse la gaia bohème il portone del numero 23 era sempre aperto entrai e mi avviai su per le scale arrivato al secondo piano fui sorpreso di trovare la porta di Kingham socchiusa entrai e mi mise a chiamarlo Kingham Kingham non ci fu risposta attraversai il piccolo vestibolo oscuro e bussai alla porta del salotto Kingham chiamai ancora più forte non avrei voluto essere indiscreto e disturbare qualche scena di felicità domestica o più probabilmente date le relazioni esistenti tra Grace e Kingham disturbare un loro litigio Kingham non ricevendo ancora risposta entrai la stanza era vuota sempre chiamando entrai nella seconda stanza nella cucina nella camera da letto c'erano due valigie nella camera da letto vicino alla porta già pronte per un viaggio dove mai potevano andare sperai di poterli vedere ancora prima che partissero intanto visitai anche il bagno e la dispensa il piccolo appartamento era assolutamente disabitato evidentemente erano usciti e avevano lasciato la porta aperta se la preoccupazione e la distrazione sono segni d'amore pensai allora bisognava credere che le cose andassero a gonfie vele il mio orologio faceva le 6 meno 20 decisi di attendere il loro ritorno se non fossero tornati per le 6 avrei lasciato un biglietto pregandoli di passare da casa mia e me ne sarei andato i due salotti piccoli ma mostruosamente alti di soffitto erano stati una volta a una sola stanza di proporzioni nobilmente classiche un tramezzo di assicelle e gesso separava una stanza dall'altra dividendo in due parti asimmetriche il grazioso soffitto a rilievi che adornava la stanza originale una sola altissima finestra illuminava entrambe le stanze la più grande inadeguatamente la più piccola in modo quasi eccessivo era in quest'ultima che Kingham teneva i suoi libri e la sua scrivania entrai guardai negli scaffali e avendo scelto due o tre volumi tirai una sedia vicino alla finestra e mi misi a leggere io non ho pazienza lessi ed era un volume degli scritti di Kingham che avevo aperto io non ho pazienza con gli stupidi profeti e i mercanti di utopie che ci offrono la prospettiva di una ininterrotta felicità non ho pazienza sono dunque così stupidi da non rendersi conto della loro stupidaggine non riescono a capire che se la felicità fosse ininterrotta e il benessere universale queste cose cesserebbero di essere felicità e benessere e diventerebbero semplicemente noia e pane quotidiano non riescono a comprendere che se tutto nel mondo fosse verde pisello noi non sapremmo che cos'è il verde pisello asini scimmie e cani anche Milton grazie al cielo per Milton non sopportava facilmente gli sciocchi satana ritratto dell'artista asini scimmie e cani sono così stupidi da non vedere che per poter conoscere la felicità e la virtù i uomini devono conoscere anche la miseria e il peccato l'utopia che io soffro è un mondo dove la felicità e l'infelicità sono più intense dove si alternano più rapidamente e violentemente che in questo nostro mondo un mondo dove gli uomini e le donne dotati di una sensibilità maggiore della nostra di una coscienza più della nostra acuta e molteplice conosceranno i piaceri sfrenati le crudeltà e i pericoli del mondo antico con tutti gli scrupoli e i rimorsi del cristianesimo con tutte le sue estasi con tutte le sue terribili paure questa è l'utopia che io vi offro non una casa di salute sterilizzata con ginnastica svedese prima di colazione dieta vegetale italiana musica classica alla radio bagni di sole in casta promiscuità e libero amore razionale fra lenzuola asettiche asini scimmie e cani una cosa almeno pensavo sfogliando le pagine del libro in cerca di altri passi interessanti poteva dirsi in favore di Kingham egli non era soltanto un teorico praticava quel che predicava aveva definita l'utopia e faceva del suo meglio per realizzarla in compagnia di Grace i voti di castità le parole mi capitarono sott'occhio ed io continuai a leggere i voti di castità si fanno di solito in quella fredda stagione piena di disgusti e di rimorsi che segue gli eccessi colui che li fa crede di mettere alla sua carne una catena infrangibile ma si sbaglia il voto non è una catena è solo una corda di canapa quando il sangue è freddo tiene forte ma quando con la naturale rinascita degli appetiti il sangue si infiamma quel fuoco brucia la canapa la corda di canapa che credevamo d'acciaio la brucia e la carne è di nuovo libera con la rinnovata sazietà arrivano il rimorso la freddezza il disgusto ancor più acuti di prima e con essi la ripetizione dei sacri voti e così via per sempre come i giorni della settimana come l'estate e l'inverno futilità direte voi senza dubbio debolezze ma io non sono d'accordo con voi niente che intensifichi e affretti il ritmo della vita è futile questi voti questi rimorsi e la sensazione che ne deriva che il piacere dei sensi sia qualcosa di male acquiscono questo piacere immensamente moltiplicano le emozioni che dà creando parallelamente alle gioie del corpo l'angoscia e la tragedia dello spirito li avevo già letti prima questi brevi saggi o lunghe massime non so bene come chiamarli lo stesso kingam li aveva intitolati semplicemente nozioni li avevo letti più di una volta e ne avevo sempre apprezzato la violenza la stranezza la sincerità quasi terrificante ma questa volta mi sembrava li comprendevo meglio che nel passato la mia conoscenza dei rapporti di kingam con grace me li illuminavano meglio ed essi a loro volta gettavano maggior luce su kingam e sui suoi rapporti con grace per esempio c'era quella frase sull'amore tutto l'amore ha il carattere di una vendetta l'uomo si vendica sulla donna che lo ha catturato e umiliato la donna si vendica sull'uomo che ha vinto la sua riluttanza e il suo pudore che ha osato trasformarla da individuo in semplice riproduttrice della specie mi sembrava particolarmente significativo adesso mi ricordo anche di aver notato certe parole sul peccato contro lo spirito santo soltanto coloro che conoscono lo spirito santo sono tentati di peccare contro di lui o meglio possono peccare contro di lui non si può sprecare un talento se prima non lo si possiede non si può fare ciò che è male o stupido o futile se prima non si sa ciò che è bene ciò che è ragionevole ciò che è degno di essere fatto la tentazione comincia con la conoscenza e cresce con essa l'uomo sa di avere un'anima da salvare e che quell'anima è preziosa ed è proprio per questa ragione che passa il tempo a cercare di perderla tu lettore concludeva caratteristicamente il paragrafo tu che non hai un'anima da salvare non riuscirai probabilmente a capire di che cosa sto parlando stavo considerando quelle parole alla luce della mia accresciuta conoscenza di kingham quando le mie meditazioni furono bruscamente interrotte dalla voce di kingham stesso è inutile diceva ma non capisci la voce risuonò subito più forte quando la porta della stanza più grande si aprì per fare entrare chi parlava e la sua compagna i loro passi risuonarono sul pavimento di legno senza tappeto perché vuoi andare avanti così parlava come uno che sia stanco di essere importunato e desideri soltanto di essere lasciato in pace perché perché ti amo la voce di grace era bassa e opaca sembrava esprimere una specie di ostinata infelicità oh lo so lo so disse kingham con un'impazienza attenuata dalla stanchezza sospirò rumorosamente se sapessi come sono disgustato di tutte queste inutili discussioni il suo tono era quasi patetico sembrava che domandasse ad essere consolato che si facesse tutto il possibile per risparmiargli nuovi dolori uno avrebbe potuto credere dal tono della sua voce che kingham fosse la vittima dell'instancabile persecuzione di grace e senza dubbio era proprio così che egli adesso si vedeva se come io avevo previsto aveva raggiunto quell'inevitabile fase che concludeva tutte le sue passioni la fase della sazietà di emozioni aveva fatta la sua scorpacciata di forti sensazioni e per questa volta ne aveva abbastanza l'orgia aveva perduto ogni sapore ed egli adesso voleva solo vivere quietamente sobriamente ed invece ecco che grace insisteva perché l'orgia continuasse un'orgia a sangue freddo per un uomo divenuto sobrio perché completamente sazio l'idea era disgustosa tale da farla brividire non c'era da stupirsi che parlasse con un tono così lamentoso ti dico che ormai è finita continuò assolutamente una volta per tutte parli proprio sul serio vuoi dire che hai proprio deciso di andar via ho deciso allora anch'io parlo sul serio rispose la voce bassa e ostinata ho deciso se tu parti mi uccido il mio primo impulso nell'udire la voce di kingam era stato io sa perché quello di nascondermi fu preso da un improvviso senso di colpa da un terrore puerile di essere colto in fallo col cuore che mi batteva balzai in piedi e mi guardai intorno per trovare un luogo in cui nascondermi poi dopo un paio di secondi da ragione prese sopravvento ricordai che non ero uno scolaretto in pericolo di essere sorpreso e castigato che dopo tutto io ero rimasto là ad aspettare kingam e grace per invitarli a pranzo e che invece di nascondermi avrei dovuto immediatamente rendere nota la mia presenza nel frattempo le frasi di quel litigio a bassa voce si erano succedute l'una all'altra e presto mi resi conto che si trattava di qualcosa di molto serio esitavo ad interromperli chi si sente timidi quando si deve assistere a un'esibizione di intense ed intime emozioni introdursi così vestiti ed armati della propria indifferenza quotidiana tra anime nude e tremanti è un insulto è quasi un'indecenza quello evidentemente non era un volgare bisticcio che poteva essere placato con un po' di tatto una faccia raggiante e una tepida doccia di banalità ma forse era così serio così grave che doveva essere interrotto a tutti i costi non sapevo cosa fare intervenire conoscendo kingam temevo che il mio intervento avrebbe potuto peggiorare le cose invece di indurlo a vergognarsi e a far la pace avrebbe probabilmente fatto prorompere tutta la sua latente violenza continuare una scenata così intima in presenza di una terza persona è una specie di indecenza kingam riflettei sarebbe forse stato anche troppo contento di complicare di intensificare le sue emozioni portandovi il nuovo elemento dell'oltraggio spirituale esitavo domandandomi che cosa avrei potuto fare capitare in mezzo a loro e correre il rischio di peggiorare la situazione o restare dovero col pericolo di essere scoperto tra una mezz'ora e dover spiegare la mia assolutamente inspiegabile presenza esitavo ancora quando nell'altra stanza la voce bassa e ostinata di grace pronunciò quelle parole se tu parti mi uccido no non lo farai disse kingam ti assicuro che non lo farai la stanchezza della sua voce era colorita da una certa beffarda ilonia immaginai le atrocità che avrebbero potuto saltar fuori se avessi dato a kingam un pubblico per un simile dramma e decisi di non intervenire non ancora in ogni modo attraversai la stanza in punta di piedi e mi sedetti dove sarebbe stato impossibile vedermi dalla porta ho recitato anch'io questa commediola continuò kingam oh decine di volte certo ed ogni volta ero sinceramente persuaso che si trattasse di vera e propria tragedia anche senza il mio intervento la sua ironia stava diventando più brutale del necessario mi ucciderò ripete grace piano con ostinazione ma come vedi continuò kingam sono ancora vivo la sua voce stanca aveva ora una nuova vivacità ancora vivo e perfettamente intatto il cianuro di potassio si limitò sempre ad essere pasta di mandorle e per quanto accuratamente mi lassi al mio cervelletto non riuscii a segnare altro che punti fuori bersaglio e rise della sua spiritosaggine perché parli in questo modo domandò grace con voce stanca e paziente in questo modo stupido e crudele io posso parlare disse kingam ma sei tu che agisci tu mi hai distrutto mi hai avvelenato sei un veleno nel mio sangue e ti lamenti perché parlo tacque come se si aspettasse una risposta ma grace non disse nulla aveva detto quello che tante volte aveva ripetuto e che era la sola cosa che avesse da dire aveva detto ti amo e quelle parole erano state così costantemente e con tanta malevolenza fraintese che senza dubbio doveva sembrarle uno spreco di fiato rispondergli suppongo che sia deprimente perdere una vittima continuò kingam sempre con lo stesso tono ironico ma non ti aspetterai certo che creda che sia così deprimente da indurre al suicidio via via cara grace è un po' troppo grossa io non mi aspetto che tu creda niente rispose grace dico quello che penso e basta sono stanca dallo scricchiolare delle molle capì che si era lasciata cadere sul divano ci fu una pausa anch'io disse kingam alla fine mortalmente stanco tutta l'energia era scomparsa dalla sua voce che ancora una volta suonava monotona e senza vita le molle scricchiolarono di nuovo evidentemente si era seduto sul divano accanto a lei guarda grace le disse per amor di dio siamo ragionevoli venendo da kingam quell'appello era irresistibile non potei trattenermi dal sorridere mi dispiace di aver parlato così poco fa è stato sciocco ma sai come una parola ne tiri un'altra e si arriva dove non si vorrebbe non volevo offenderti parliamo con calma a che serve tormentarci così la cosa è fatale inevitabile è una brutta faccenda forse ma cerchiamo di prenderla nel modo migliore non nel peggiore ascoltavo attonito mentre kingam sciorinava con voce annoiata quella serie di banalità pareva che le sue stesse parole lo annoiassero a morte o farla finita andarsene essere libero non posare più gli occhi su di lei immaginavo i suoi pensieri e i suoi desideri in ogni relazione amorosa ci sono momenti in cui i simili pensieri ricorrono alla mente di uno o dell'altro dei due amanti quando l'amore è diventato sciocchezza e disgusto e solo desiderio è il desiderio della solitudine molti vincono questa temporanea stanchezza semplicemente non permettendo alla loro mente di fermarcisi i sentimenti e i pensieri ai quali non si fa attenzione ben presto muoiono di media poiché l'attenzione della mente cosciente è il loro alimento poi a tempo debito l'amore riprende il suo posto e il momento di stanchezza è dimenticato per Kingham tuttavia Kingham che stava attentissimo ad ogni emozione o desiderio che sfiorasse la sua coscienza la minima velleità di stanchezza diveniva profondamente significativa né esisteva nel suo caso un vero amore per l'oggetto del suo disgusto nutrito dal cervello o un forte e un saldo affetto capace di superare quella che avrebbe potuto essere una stanchezza soltanto temporanea egli amava perché sentiva il bisogno di emozioni violente Grace era un mezzo per raggiungere quel fine non un fine in se stessa lo scopo la soddisfazione della sua brama d'eccitamento emotivo era stato raggiunto i mezzi avevano quindi cessato di avere il minimo valore per lui Grace gli sarebbe stata semplicemente indifferente se in quella crisi si fosse dimostrata emotivamente fredda come lo era lui ma i loro sentimenti non sincronizzavano Grace non era stanca anzi lo amava più appassionatamente che mai il suo calore inopportuno aveva cospirato con l'abitudine all'introspezione che egli aveva per cambiare la stanchezza e la neutralità emotiva in vero e proprio disgusto e persino odio stava sforzandosi tuttavia di non mostrare quei sentimenti violenti inoltre era stanco troppo stanco per voler dare loro un'adeguata espressione mi sarebbe piaciuto svignarsela silenziosamente senza chiasso con voce stanca e annoiata pronunciava le sue frasi sedative e sarebbe detto un curato che facesse con Grace una confidenziale chiacchierata sulla vita dobbiamo essere ragionevoli diceva e ci sono altre cose oltre all'amore parlò persino di autocontrollo e della consolazione del lavoro andò avanti per molto tempo ad un tratto Grace l'interruppe basta gridò per amor di dio basta come puoi essere così stupido e così disonesto non sono né l'uno né l'altro rispose Kingham irritato ti dicevo soltanto mi dicevi soltanto che sei stufo di me disse Grace ma lo dicevi in un modo viscido stupido disonesto che sei stufo di me fino alla nausea e che desideri soltanto che me ne vada e che ti lasci in pace oh me ne andrò me ne andrò non aver paura e c'è una risata che sembrava un singhiozzo ci fu una lunga pausa perché non te ne vai disse Grace alla fine la sua voce era soffocata come se parlasse con la faccia affondata in un cuscino beh disse Kingham con un certo imbarazzo forse sarà meglio doveva cominciare a sentire un enorme sollievo una gioia che sarebbe stato indecente mostrare ma che stava gorgogliando appena sotto la superficie addio allora Grace disse con un tono che era quasi allegro lasciamoci da buoni amici la risata di Grace fu soffocata dal cuscino poi dovette rialzarsi a sedere perché la sua voce quando un secondo dopo parlò era chiara e aveva il solito timbro baciami disse perentoriamente voglio che tu mi baci per l'ultima volta ci fu un momento di silenzio non così la voce di Grace suonava irritata baciami davvero davvero come se tu mi amassi ancora Kingham deve aver cercato di obbedire qualunque cosa per una vita tranquilla e una pronta liberazione ci fu un altro silenzio no no l'ira nella voce di Grace era diventata disperazione va via va via ti disgusto a tal punto che non puoi nemmeno baciarmi ma mia cara Grace vattene 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 benissimo allora disse Kingham in tono dignitoso e leggermente offeso ma dentro che gioia libero libero la chiave era stata girata nella serratura la porta della prigione si apriva se vuoi che me ne vada me ne vado sentì che si alzava dal divano ti scriverò quando arriverò a Monaco disse lo udì andare alla porta passare per il corridoio che portava alla camera da letto dove suppongo prese le sue valigie lo udì tornare indietro e avvicinarsi alla porta delle scale i saliscendi scattò la porta cicolò sui cardini quando si aprì e cicolò quando si chiuse mi alzai con cautela e feci capolino alla porta che dava nell'altra stanza Grace era distesa sul divano proprio nella posizione che mi ero immaginato immobile il viso affondato in un cuscino stetti lì a guardarla per mezzo minuto pensando a che cosa avrei potuto dirle tutto sembrava inadeguato ma forse in quella circostanza le parole più inadeguate le più comuni le più banali sarebbero state le migliori mentre stavo riflettendo quel corpo che sembrava morto si scosse Grace sollevò la faccia del cuscino rimase per un secondo ad ascoltare intensamente poi con una serie di rapidi movimenti si voltò su un fianco si mise seduta poggiò i piedi sul pavimento balzò in piedi e si avviò in fretta alla porta istintivamente io mi ritrassi la udì attraversare il corridoio udì lo scatto e il cigolio della porta d'entrata che si apriva poi la sua voce una voce strana strozzata disumana chiamò Kingam e poi di nuovo dopo una pausa d'ascolto che sembrò terribilmente lunga Kingam non vi fu risposta dopo un altro silenzio la porta si richiusa di nuovo i passi di Grace si avvicinarono attraversarono la stanza si fermarono e io in agguato la spiai era vicino alla finestra la fronte appoggiata al vetro e guardava fuori o meglio guardava giù nella via due piani tre se contavi lo spazio che si apriva come una profonda tomba ai piedi del muro sotto la finestra stava forse calcolando l'altezza che cosa aveva in mente a un tratto si raddrizzò stese le mani e cominciò ad alzare l'invetriata io entrai nella stanza e mi avvicinai al suono dei miei passi e la si volse e mi guardò ma mi guardò con gli occhi smorti senza espressione del cieco era come se la sua mente fosse troppo completamente presa da quella sua mostruosa e terribile idea per poter subito concentrarsi sulle banali cose della vita cara Grace le dissi ti stavo cercando Catherine mi ha mandato ad invitarti a pranzo da noi Grace continuò a guardarmi come se non comprendesse dopo un po' il significato delle mie parole sembrò raggiungerla era come se fosse molto lontana e ascoltasse dei suoni che le arrivavano lentamente attraverso un immenso spazio quando alla fine ebbe udito le mie parole udite con la sua mente lontana scosse la testa e le sue labbra formarono in silenzio la parola no la presi per un braccio e la portai lontano dalla finestra devi venire dissi a mia voce sembrò arrivarle più in fretta questa volta avevo appena finito di parlare che la scosse di nuovo la testa devi ripetei ho sentito tutto sai ti obbligherò a venire con me hai sentito ripete guardandomi con occhi sbarrati facciannai di sì con la testa ma non parlai raccolsi il suo piccolo cappellino a forma di casco che era in terra vicino al divano e glielo porsi con un gesto automatico ella si volse verso l'offuscato specchio azzurro veneziano che era appeso sopra il caminetto e se l'aggiustò in testa un ciuffetto di capelli le ricadeva sulla tempia accuratamente lo rimise sotto il cappello ed ora andiamo dissi e la condussi via fuori dall'appartamento giù per le scale buie fuori nella strada andando verso Holborn in cerca di un tassi chiacchierai del più e del meno per la ricordo dei vantaggi degli autobus in confronto alla ferrovia sotterranea dei negozi di libri di seconda mano e di gatti Grace taceva mi camminava accanto come una sonnambula guardando quella faccia agghiacciata dal dolore la faccia di un bambino che ha sofferto più di quanto possa sopportare mi sentivo pervaso da una pietà che era quasi rimorso sentivo che in qualche modo era colpa mia che era crudele e insensibile da parte mia non essere infelice quanto lo era lei sentivo come tante volte mi è accaduto in presenza degli ammalati dei poveri senza speranza che dovevo scusarmi con lei sentivo che dovevo pregarla di perdonarmi di essere felicemente sposato sano senza preoccupazioni finanziarie contento della mia vita se ha il diritto di essere felici in presenza di un disgraziato di essere contenti di vivere davanti a chi vuole morire se ne ha il diritto il numero dei gatti di londra dissi deve essere quasi uguale a quello delle persone è probabile mormorò grace dopo che fu trascorso il tempo necessario perché le mie parole arrivassero fino a lei attraverso l'abisso che separava la sua mente dalla mia parlava con grande sforzo la sua voce era appena udibile letteralmente milioni dissi e poi fortunatamente vidi venire un tassì andando verso kensington le parlai delle nostre vacanze italiane non credetti necessario tuttavia raccontarle il nostro incontro con pedli a modan arrivati a casa disse in due parole a catherine ciò che era accaduto e affidando le grace mi rifugiai nel mio studio devo confessare che mi sentivo profondamente ed egoisticamente grato alla provvidenza di essere di nuovo là solo con i miei libri e il mio piano era quella specie di gratitudine che si prova quando uscendo di città in automobile per un weekend si lasciano gli oscuri e sordi di slums per una comoda casa di campagna circondata da un fresco giardino dove si può dimenticare che esistono altri esseri umani oltre se stessi ed oltre i propri colti e divertenti amici e che il 90% di quegli esseri umani è condannato all'infelicità mi sedetti al piano e cominciai a suonare la rietta opera 3 di beethoven la suonavo malissimo perché la mia mente era più che per metà occupata da qualche altra cosa che non era la musica stavo pensando che cosa sarebbe ora accaduto di grace senza rodney senza kingham che cosa avrebbe fatto che cosa sarebbe stata la domanda mi si presentava insistentemente e poi a un tratto la pagina di musica che avevo davanti agli occhi mi dette la risposta come un oracolo da capo il zeroglifico mi rimandò il principio del pezzo da capo dopo tutto era ovvio da capo john pegley i bambini la casa la confusa esistenza di chi non sa cavarsela da solo poi un altro critico musicale un altro me stesso introduzione al secondo tema poi il secondo tema scherzando un altro rodney oppure molto agitato l'equivalente di kingham e poi inevitabilmente quando l'agitazione si fosse agitata fino al diapason del silenzio da capo ancora con pedri la casa i bambini la confusione della sua vita il miracolo dell'arietta fluiva sotto le mie dita oh se la musica dei nostri destini potesse essere così grazie a tutti grazie a tutti